Filippo Mancuso assiste ai lavori, il segretario generale Maria Stefania Lauria realice il presente processo verbale e funzioni responsabili Antonio Michele Centro il presidente è constatato il presente numero legale da via ai lavori invitando il segretario questore Cilio a dare lettura del verbale della saluta precedente notizia il 30 giugno 2022 che è approvata senza osservazione il presidente del lettore della comunicazione legato 1 introduce il primo punto all'ordine del giorno riguardante la proposta di provvedimento amministrativo e iniziativa dell'aggiunta regionale recante piano di sviluppo e coesione della Regione Calabria variazione del piano finanziario della sezione ordinaria presa ad atto della determinazione del comitato di sorveglianza e c'è la parola al relatore consigliere Montuoro per illustrazione della discussione in generale intervengono i consigliere a legge ma moliti Montuoro e Denise Ellacca pon in votazione la proposta di provvedimento amministrativo al suo complesso è deciso l'esito presenti votanti 29 a favore 21 astenuti 8 nel proclama il risultato sull'ordine del lavoro interviene il consigliere caputo che che l'inserimento dell'ordine del giorno di proposta legge numero quanta due dodicesimi segue il consigliere a leggi che si dice favorevole quindi il presidente pone ai voti la richiesta che ha accolto quindi il presidente introduce il terzo punto all'ordine del giorno che prevede l'esame della proposta di legge iniziativa del consigliere comito a ruzzo recante modifiche legge regionale 19 novembre 2020 numero 21 istituzione consorzio costa degli re c'è la parola al relatore consigliere comito per illustrazione della discussione intervengono il consigliere mammoliti l'assessore orso mars per dichiarazione di voto intervengono i consigli live in del presidente pone in votazione separatamente i quattro articoli che sono approvati pone in votazione la legge in suo complesso con richiesta d'autorizzazione accordamento formale deciso l'esito presenti votanti 28 favore 21 astenuti 7 nel programma risultati il consiglio approva nella discussione interviene il consigliere mammoliti che annuncia il suo voto contrario alla richiesta del consigliere che no indi il presidente pone in votazione la richiesta rinvia i punti 4 all'ordine del giorno successivamente il presidente introduce il punto 7 all'ordine del giorno riguardante la proposta di provvedimento amministrativo numero 73 12 iniziativa dell'ufficio recante nome 13 membri scelti fra donne elette nelle istituzioni riconosciute esperienze di carattere scientifico giuridico culturale prodotto politica e sindacale sulla condizione femminile indipone in votazione la richiesta di rinvio del punto che accolto quindi il presidente passa l'esame dell'articolo 2 sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti il primo l'emendamento protocollo a 0 3 di modifica dell'articolo 2 comma 1 lettera 1 a firma del consigliere rasso il cui c'è della parola illustrazione quindi il presidente ha acquisito il parere favorevole dell'aggiunta e del relatore pone in votazione l'emendamento il presidente passa l'esame dell'articolo 3 il quale è pervenuto l'emendamento protocollo 6 378 a 0 3 a firma il consigliere rasso pone in votazione approvata con il parere favorevole dell'aggiunta il presidente pone quindi in votazione l'articolo 3 che ha approvato per come mandato il presidente passa quindi all'esame dell'articolo 5 sul quale è pervenuto l'emendamento protocollo 6 378 a 0 3 a firma del consigliere rasso di modifica dell'articolo 5 comma 1 il presidente passa quindi all'esame dell'articolo 6 su cui è stato presentato l'emendamento protocollo 6 378 0 3 a firma il consigliere rasso di modifica dell'articolo 6 comma 1 2 e 3 il presidente passa l'esame dell'articolo 7 e cui è pervenuto l'emendamento protocollo 6 378 firma il consigliere rasso di modifica dell'articolo 7 il presidente dopo aver posto in votazione l'emendamento che ha approvato con il parere favorevole dell'aggiunta pone in votazione l'articolo 8 che ha approvato per come mandato quindi passa la votazione l'articolo 9 che ha approvato e comunica che l'articolo 10 è pervenuto l'emendamento 63 378 a firma del consigliere rasso successivamente il presidente passa l'esame dell'articolo 11 su cui è stato presentato l'emendamento protocollo quindi il presidente passa l'esame dell'articolo 12 cui è stato presentato l'emendamento protocollo 6 378 firma il consigliere rasso di modifica l'articolo 12 il presidente dopo aver posto in votazione l'articolo 13 che ha approvato passa l'esame dell'articolo 14 con prevenuto l'emendamento protocollo 6 378 firma il consigliere rasso in cui c'è la parola per illustrazione dopo la dichiarazione consigliere de francesco nel ritirare l'emendamento protocollo 6 377 per ulteriore approfondimento il presidente pone in votazione articolo 14 che ha approvato per come mandato quindi pone in votazione gli articoli 15 16 e 17 che sono approvati successivamente il presidente inserisce il nono punto all'ordine del giorno che prevede l'esame in proposta di 76 dodicesimi l'iniziativa del consigliere rasa ruzzo recante interventi normativa della legge regionale indi il presidente passa all'esame di votazione dell'articolo comunicando che al titolo della proposta di legge per voto nell'emendamento protocollo a firma il consigliere montuoro quindi il presidente comunica che prima dell'articolo sono per fronte l'emendamento protocollo 6 339 il numero 1640 a firma del consigliere montuoro il presidente passa l'esame dell'articolo 4 qui è pervenuto l'emendamento protocollo a firma il consigliere raso al quale c'è della parola situazione consigliere raso comunica il ritiro dell'emendamento indi il presidente dopo aver posto in votazione separatamente i 13 articoli che sono approvati gli emendamenti introdotti dopo gli interventi per dichiarazione di voto dei consigliere a legge graziano nero e tavernisi quindi il presidente introduce l'esame la proposta di legge numero 42 dodicesima iniziativa del consigliere comito recante misure di fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria a cui cede per la parola per l'ustrazione le discussioni in generale intervengono i consigliere brun che pronuncia il voto e estensione anche a nome del gruppo pd movimento 5 stelle tavernisi laghi che annuncia il voto favorevole l'uizzi mammoliti comito il quale illustra anche l'emendamento a sua firma indi il presidente dopo aver posto in votazione separatamente i 5 articoli che sono approvati con l'emendamento introdotto poi in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione del coordinamento formale deciso l'esito presenti 21 favorevole 17 contrari due stanuti due nel programma risultato infine esauriti i punti all'ordine del giorno il presidente toglie la seduta la seduta è tolta alle ore 20 e 15 do lettura delle seguenti comunicazioni hanno chiesto congedo irto mammoliti mattiani dolce pietro paolo sono stati presentati alla presidenza proposte di legge giunta regionale approvazione rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2021 graziano interventi normativi sulla legge regionale numero 66 del 20 dicembre 2012 il numero 25 il 16 maggio 2013 tavernese turismo eco sostenibile riconoscimento promozione e valorizzazione di cammini di interesse regionale era so caputo regolamentazione locale per opere interventi in prossima in prossimità di acque pubbliche tavernese norme per l'accessibilità dei disabili alle spiagge dei maniali destinati alla balneazione neri interpretazione autentica dell'articolo 14 comma 1 della legge regionale 7 luglio 2022 numero 25 arruzzo lonelli loizzo crino denisi graziano modifica l'articolo 65 della legge regionale 12 giugno 2009 numero 19 straface modifica la legge regionale 23 luglio 2003 numero 11 afflitto rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria enorme materie di tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico e in età evolutiva definizione del fabbisogno dei requisiti organizzativi proposti di provvedimento amministrativo giunta regionale piano di sviluppo e coesione la regione calabria variazione del piano finanziario la sezione ordinaria presa ad atto alla determinazione del comitato di sorveglianza giunta regionale modifica al piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del consiglio regionale numero 156 del 19 dicembre 2016 giunta regionale piano e azione coesione pac calabria 2007 2013 approvazione rimodulazione schede intervento politica attiva del lavoro ufficio di presidenza modifiche alla modalità di recupero del maggior disavanzo derivante al riaccertamento straordinario dei residui approvazione con deliberazione consigliare numero 70 del 3 dicembre 2015 successive modificazioni integrazioni ufficio di presidenza bilancio di previsione 22 24 del consiglio regionale della calabria sestamente variazioni giunta regionale programmazione e coesione 2014 2020 della regione calabria provato approvazione proposta di modifica del programma giunta regionale rendiconto esercizio 2021 del lente per i parchi marini regionali interrogazioni lo schiavo in ordine agli interventi di quelle al dgr numero 495 del 2018 ai fondi psg relativa risarcimento delle imprese colpite dall'alluvione di vibo valencia mammoliti in merito alle attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole bruni tavernissi bevac assunzione specializzazione sistema sanitario regionale mammoliti sulla carenza dei posti letto negli ospedali calabresi irto bevacua lecce iacucci mammoliti livelli di assistenza alla piana di gioia tauro tovernese cantiere abate marco e situazioni interventi di ingegnerizzazione delle reti idriche laghi case della comunità e prese in carico della persona del comune di spezzano sila il tuo iacucci alecci bevacqua revoca finanziamento attività di bonifica da amianto e interruzione monitoraggio della qualità dell'aria neri in merito alla situazione società ermes e potenziali sviluppi mammoliti in merito alla chiusura del polio ambulatorio di gizzeria lido con trada mortilla mammoliti sulla previsione del programma cooperativo sanitario regionale della conferma dell'ospedale di sera san bruno quale ospedale di montagna e bruni bevacqua tavernese azienda 0 tavernese strada statale 283 delle terme luigiane mozioni il tuo iacucci alecci bevacqua mammoliti carenza idrica nel territorio crotonese a leggi proroga di superbonus 110 per l'edilizia residenziale pubblica la giunta regionale ha trasmesso per il parere della competente commissione consigliare la deliberazione numero 297 del 30 giugno 2022 recante legge 8 novembre 2000 numero 328 legge regionale 26 novembre 2003 numero 23 successive modificazioni integrazioni adozioni di nuovi criteri per l'istituzione della consulta del terzo settore comunico che la sesta commissione alla seduta del 18 luglio 2022 ha espresso parere favorevole al decreto dirigenziale numero 10 0 18 del 4 febbraio 2022 recante autorizzazione e senza l'articolo 26 legge regionale 40 2009 per l'apertura di una nuova cava di argilla in località loreto nel comune di lattarico comunico che la sesta commissione alla seduta del 18 luglio 2022 ha espresso parere favorevole al decreto dirigenziale 2 2 5 6 3 dell'11 marzo 2022 recante autorizzazione e senza l'articolo 26 legge regionale 40 2009 per l'apertura di una nuova cava di inerti sabbiosi in agro del comune di torano castello comunico che la terza commissione alla seduta del 22 luglio 2022 ha espresso parere favorevole alla deliberazione della giunta regionale numero 297 del 30 giugno 2022 recante legge 8 novembre 2000 numero 3 28 legge regionale 26 novembre 2003 numero 23 successive modificazioni integrazioni adozioni di nuovi criteri per l'istituzione della consulta del terzo settore comunico che in data 4 luglio 2022 il presidente della giunta regionale ha promulgato sotto indicate leggi regionali che le stesse sono state pubblicate telematicamente sul bollettino ufficiale regione calabria numero 106 del 5 luglio 2022 legge regionale numero 19 del 4 luglio 2022 recante modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socioeducative per la prima infanzia di quell'articolo 23 legge regionale marzo 2013 numero 15 proroga del termine di adeguamento legge regionale numero 24 luglio 2022 recante integrazione all'articolo 23 legge regionale 31 dicembre 2015 numero 35 comunico che in data 7 luglio 2022 il presidente della giunta regionale ha promulgato le sotto indicate a legge regionale che le stesse sono state pubblicate telematicamente sul bollettino ufficiale regione calabria numero 129 del 7 luglio 2022 legge regionale numero 21 del 7 luglio 2022 recante interventi normative su legge regionale 32 2021 11 2004 42 2017 13 1979 790 avanze numero 8 1900 avanze numero 36 1986 e misure in materia in materia di personale nonché in materia di trasporto e di circolazione veicoli storici legge regionale numero 22 7 luglio 2022 recante misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria comunico che in data 7 luglio 2022 il presidente della giunta regionale ha promulgato le sotto indicate a legge regionale che le stesse sono state pubblicate telematicamente sul bollettino ufficiale regione calabria numero 130 il 7 luglio 2022 legge regionale numero 23 del 7 luglio 2022 recante norme per l'incremento lo sviluppo e la valorizzazione della cultura calabrese legge regionale numero 24 del 7 luglio 2022 recante modifica la legge regionale 19 novembre 2020 numero 21 legge regionale numero 25 il 7 luglio 2022 recante norme per la rigenerazione urbana e territorio e alla riqualificazione del riuso e pervenuta risposta scritta le seguenti interrogazioni numero 56 del 20 giugno 2022 a firma dei consiglieri regionali irto iacuccia lecce bevacco mammoliti numero 59 dell'1 luglio dove la 22 a firma dei consiglieri regionali tavernise bruni numero 60 al 7 luglio 2022 a firma del consigliere regionale lo schiavo la giunta regionale ha trasmesso la deliberazione numero 264 il 30 giugno 2022 recante parificazione conto giudiziale dal tesoriere esercizio finanziario 2021 la giunta regionale ha trasmesso la deliberazione numero 338 del 25 luglio 2022 recante piano sviluppo e coesione della regione calabria approvato con delibera cipes numero 14 il 29 aprile 2021 pubblicata con gazzetta ufficiale sulla gazzetta ufficiale serie generale numero 190 del 10 agosto 2021 indirizzi relativa alle riprogrammazioni risorse sezione ordinaria la corte costituzionale con sentenze 124 il 19 maggio 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2021 numero 17 recante modifica la legge regionale 16 maggio 2013 numero 24 riordino enti aziende regionale fondazione agenzie regionale società e consorsi comunque denominati con esclusione del settore sanità la giunta regionale ha trasmesso copie dalle seguenti liberazioni di variazione al bilancio di previsione finanziaria 22 24 dichiarazione di giunta regionale numero 266 267 68 69 70 271 72 73 280 81 82 83 284 85 86 del 30 giugno 2022 deliberazione di giunta regionale di giunta regionale di giunta regionale di giunta regionale numero 302 deliberazione di giunta regionale numero 330 31 32 33 34 35 36 37 342 del 25 luglio 2022 avviamo i lavori presidente posso grazie presidente vorrei proporre l'inserimento nel nell'ordine dei lavori del consiglio della mozione numero 11 che inserimento della procedura di circoncisione rituale a carico del servizio sanitario regionale aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza va bene votiamo per l'inserimento della mozione del collega laghi favorevoli contrari astenuti la mozione è inserita avviamo i lavori col primo punto all'ordine del giorno riguardante l'interrogazione numero 68 dicesima iniziativa del consigliere neri recanto in merito alla situazione società ermes e potenziali sviluppi ricordo che essenzial articolo 122 comma 9 del regolamento interno all'interrogante dispone di due minuti per illustrare l'interrogazione mentre la giunta regionale dispone di tre minuti per rispondere l'interrogante ha diritto di replica per non più di un minuto cedo quindi la parola al consigliere neri per illustrare l'interrogazione prego sì grazie presidente avevo presentato questa interrogazione a seguito di interlocuzioni avvenute con l'amministrazione di reggio calabria con l'amministrazione della società per potenziali problematiche che potevano verificarsi in ordine appunto al futuro di questa società ma nei giorni scorsi ho sentito l'assessore al ramo del comune di reggio calabria che ha fatto anche una nota sostenendo che al momento non si riscontra alcun tipo di problematica legata appunto alle peculiarità di questa società quindi a questo punto l'interrogazione per il momento è diventata inutile quindi la ritiro presidente va bene sì la parola al consigliere se presidente chiedo scusa prego sì avrei una richiesta anch'io di inserire all'ordine del giorno la proposta di legge numero 87 ne avevamo discusso anche in capigruppo giusto e ne avevamo discusso in capigruppo avevamo deciso all'unanimità interpretazione autentica e l'interpretazione autentica dell'articolo 14 comma 1 della legge 7 luglio 2022 votiamo per l'inserimento favorevoli contrari astenuti la legge inserite l'interpretazione inserita o consigliere si grazie presidente chiedo l'inversione del tredicesimo punto al posto del secondo punto grazie votiamo per l'inversione del punto favorevoli contrari astenuti l'inversione è approvata passiamo quindi a discutere la proposta di legge 88 dodicesima iniziativa dei consiglieri regionale ruzzolo neri loizzo crinò denisi graziano recante modifica l'articolo 65 della legge regionale 12 giugno 2009 numero 19 cedo la parola consigliere caputo per l'illustrazione prego grazie presidente il ragione della necessità di mantenere un'adeguata retribuzione vertici aziendali in considerazione delle funzioni da essi svolte e dalle connesse responsabilità la quasi totalità delle regioni italiane non ha ritenuto di dare corso alla norma statale evitando di procedere alla riduzione al trattamento del trattamento economico ingodimento e vertici delle aziende sanitarie in aggiunta si rappresenta che per effetto del disposto di quell'articolo 17 comma 6 del decreto legge 6 luglio 2011 razionalizzazione spesa sanitaria convertito in legge 15 luglio 2011 numero 111 con decorrenza 17 luglio 2011 la misura di esenzione di cui al comma 19 dell'articolo 61 decreto legge numero 112 2008 ha cessato di avere efficacia nonostante il venir meno del presupposto normativo originario il permanere della riduzione operata all'articolo 65 la legge regionale 12 giugno 2009 ha fatto sì in questi anni che la regione calabria diventasse tra le realtà regionali meno attrattive nella selezione di profili professionali adeguati alla complessità delle attività occorrenti a garantire il conseguimento degli obiettivi del piano di rientro per quanto attiene alla sostenibilità finanziaria dei costi connessi all'intervento abrogativo si rappresenta che la regione calabria ha depositato al tavolo di verifica di quell'articolo 1 comma 174 della legge 311 2004 per l'anno 2021 del 26 aprile 2022 i dati del quarto trimestre 2021 consolidato opportunamente inseriti nella piattaforma a ciò si aggiunga che per il triennio 2022 2024 la legge 234 2001 legge di bilancio 2022 ha previsto un incremento delle disponibilità per il finanziamento della sanità di 124 milioni circa di euro per il 2022 126 milioni circa per il 2023 e 128 milioni per il 2024 corrispondenti ad un incremento della disponibilità per la regione calabria compreso 3 25 30 milioni anni la proposta di legge pertanto alla luce di quanto sopresposto dispone l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 65 la regge regionale 19 2009 in quanto anacronistico e contraddice quelli che sono gli obiettivi che per migliorare la sanità necessitano provvedimenti adeguati l'articolo 1 dispone l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 65 la legge regionale 19 2009 l'articolo 2 reca la norma finanziaria l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di 15 giorni vacanzio legis grazie ha chiesto di intervenire il collega lo schiavo prego grazie presidente io intervengo brevemente su questo punto perché vorrei sottolineare alcune perplessità rispetto a questa proposta si badi bene io vorrei fare un ragionamento non ideologico e neanche di come dire di faziosità politica però in questo momento questa proposta rischia di avere un valore emblematico che va al di là del merito della stessa io capisco che da un punto di vista tecnico non ci sia nulla da obiettare perché ricordo che la legge regionale 12 del 2009 tagliava il 20 per cento degli stipendi dei manager in relazione a minori introiti derivanti all'estensione del ticket e che questa ovviamente necessità oggi è venuta meno quindi sebbene da un punto di vista tecnico normativo vi è una ragione sulla proposta da un punto di vista politico sociale e anche di messaggio che noi diamo alla calabria la ritengo totalmente sbagliata e anche sotto certi aspetti pericolosa perché noi il messaggio che diamo in questo momento con una sanità calabrese a pezzi con dei livelli di assistenza dei livelli essenziali prestazioni che sono ancora troppo indietro rispetto alle altre regioni italiane e quindi di fronte a un quadro drammatico per la sanità calabrese andare a dire che noi aumentiamo gli stipendi delle figure apicali delle aziende sanitarie ospedaliere rischia di dare appunto un messaggio distorto sbagliato come la solita calabria che vuole partire diciamo dai vertici non considerando le sofferenze della base io non faccio un discorso demagogico parlando di necessità di aumentare i medici o gli infermieri sarebbe facile fare questo tipo di ragionamento però io vorrei anche dire questo che tempistica diamo questo a questo procedimento a questa proposta diamo una tempistica estremamente sbagliata nell'imminenza di alcune delle elezioni politiche che avverranno fra pochi mesi cosa fa il consiglio alla regionale la calabria aumenta gli stipendi dei direttori generali delle aziende sanitarie e io reputo che invece noi dobbiamo dare un altro messaggio e cioè che si premierà il merito e l'efficienza ed è giusto che vengano pagati in relazione al carico alle responsabilità di lavoro che essi hanno e ad andranno ad avere ma in relazione agli obiettivi che saranno raggiunti e quindi oggi approvare come consigliere di questa regione dire che noi andiamo ad approvare una condizione drammatica di tutti gli ospedali in alcuni reparti hanno condizioni e questo il presidente occhiuto lo sa bene ne abbiamo parlato anche prima sulla sanità ci ha messo la faccia ma le condizioni continuano a essere quelle in tanti luoghi da terzo mondo della sanità calabrese noi cosa facciamo aumentiamo le indennità per le figure opicali penso che il messaggio politico sia sbagliato e quindi nonostante una legittimità tecnica della proposta io ritengo che quantomeno politicamente dobbiamo rinviarla in un altro momento in un altro contesto politico grazie presidente grazie ovviamente il mio voto è contrario l'ho proposto vuole intervenire precedente prego prego si parlo io perché è giusto che parli io no perché oltre ad essere presidente della regione sono commissario della della sanità e io credo che cioè è legittimo rinviare ciò che merita di essere approfondito perché probabilmente non è giusto ciò che invece è tecnicamente ineccepibile lo riconosce anche il consigliere lo schiavo si rinvia quanto c'è una sorta di pavidità da parte delle istituzioni che non se la sentono di fare ciò che è tecnicamente giusto allora riassumiamo i termini della vicenda la calabria ha una sanità commissariata da tanti anni il commissariamento della sanità è stato oggetto anche di una sentenza della corte costituzionale che ha più volte detto che il commissario da solo non basta che per risolvere i problemi della sanità calabrese il governo dovrebbe mettere a disposizione del commissario i migliori in assoluto data la gravità dei problemi della sanità noi abbiamo chiesto più volte più provvedimenti al governo di darci la possibilità per esempio di utilizzare consulenti esperti come diceva come chiedeva la corte costituzionale persone di altissimo livello che venissero qui a dare una mano al commissario il governo lo sapete ha fatto qualcosa ma di insufficiente perché ci ha dato la possibilità di nominare cinque esperti che complessivamente dovrebbero costare 500 mila euro ma sulle a carico del bilancio regionale per inciso vorrei evidenziare che io di questi 500 mila euro non ho fatto toccare un euro alla regione nel senso che non abbiamo ancora preso alcuno di questi cinque esperti perché io voglio che le risorse le mette il governo non voglio che le risorse siano sottratti ai livelli essenziali di assistenza per cui è una battaglia che continuano a fare col prossimo governo però c'è una sentenza della corte costituzionale che dice che in calabria dovrebbero venire i migliori e invece che succede succede che i direttori generali barra commissari delle aziende sanitarie che vengono in calabria non quelli attuali ma quelli che dovranno venire da novembre in poi dopo il 150 dopo la scadenza del 150 per una legge del 2009 sono quelli che sono peggio pagati in italia come se governare la sanità in calabria no non fosse diciamo più difficile che governarla in altre regioni voglio dire l'emilia il lazio la lombardia paga 100 ai direttori generali la calabria con una legge del 2009 che fu fatta quando fu introdotto il ticket paga 80 questa questa cosa tanto è stato oggetto di discussione anche in parlamento che quando è stato fatto il decreto 150 è stato stabilito che l'indennità dei commissari fosse parametrata quella dei direttori generali quindi in calabria l'ottanta per cento dell'indennità nazionale però siccome in quella discussione fu eccepito che probabilmente così la calabria non avrebbe attratto ai migliori anzi se volete la mia opinione in calabria ci vorrebbe la norma del governo che ci consente di pagare ancora di più i commissari per far venire i migliori siccome ci fu questo dibattito si mise la norma nel 150 che prevede che i commissari oltre alla loro retribuzione hanno poi un quid in più perché proprio per far guadagnare ai commissari ancor di più di quello che guadagnano a livello nazionale era la ratio diciamo della sentenza della corte costituzionale che succede però che i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie ospedaliere che hanno la loro indennità parametrata a quella del commissario quella base del commissario guadagnano molto meno non solo molto meno di un consigliere regionale onorevole lo schiavo ma molto meno anche di un responsabile di unità operativa complessa molto meno di un primario cioè chi ci viene a fare il direttore sanitario per esempio nell'asp di reggio calabria che ha problemi giganteschi no se poi guadagna di più facendo il primario o il capodistretto e il dirigente in una in un'azienda sanitaria magari fuori dalla calabria allora siccome l'indennità dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi è parametrata quella dei commissari noi abbiamo l'effetto di non riuscire ad attrarre nel nostro sistema sanitario nessun professionista di pochissimi professionisti di livello che decidono di venire magari decidono di venire che ne so dall'emilia dal lazio perché hanno un origine calabrese decidono con spirito eroico di sacrificio di venire in calabria pur pagato pur essendo pagati di meno cioè voglio dire allora se vogliamo davvero affrontare i temi della della sanità con serietà con rigore concentratevi giustamente su tutte le cose che vale la pena di attenzionare però evitiamo la demagogia evitiamo la demagogia perché le istituzioni quando sono forti sono impermeabili alla democrazia le istituzioni quando sono deboli si fanno travolgere dalla democrazia anche quando si tratta di provvedimenti giusti e in ineccepibili certo non basta questo anzi è evidente come sapete io mi sono impegnato più in più riunioni col mef col capo della ragioneria generale dello stato per avere una norma che consenta per esempio ai medici ai medici che vengono in calabria di essere pagati di più e di avere dei vantaggi in termini di carriera devo dire che avevo trovato anche grande disponibilità purtroppo la crisi di governo ha di fatto sospeso questa discussione però l'ho detto altre volte io credo che chi viene a lavorare nella sanità calabrese che sia un medico o un manager dovrebbe essere considerato come alla stessa stregua del poliziotto del carabiniere del magistrato che siccome viene a lavorare in calabria la calabria e zona disagiata ha un beneficio economico e ha un beneficio di carriera perché questo deve valere per i magistrati deve valere per i poliziotti per i carabinieri e non deve valere invece per i medici e per i manager della della sanità e se c'è un'aria di maggiore disagio in calabria è proprio l'area della sanità allora io credo che questa norma sia del tutto ineccepibile per la verità non era nemmeno una norma che ho suggerito io c'è una norma che è stata suggerita dalla struttura commissariale dal dipartimento perché i commissari delle asri ci raccontano la loro difficoltà a selezionare dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari che vogliono andare a lavorare con loro e allora è una norma che non ho suggerito io ma che ritengo profondamente giusta in eccepibile e allora siccome io sono abituato non solo a metterci la faccia ma a fare le cose giuste anche quando sono impopolari mi aspetto dal consiglio regionale la stessa capacità ha lo stesso coraggio se ritenete che la norma sia ingiusta allora possiamo anche rinviarla se ritenete che la norma è giusta rinviarlo non serve grazie presidente ha chiesto di intervenire il consigliere taverni se prego grazie presidente mancuso colleghi io personalmente sono molto amareggiato demoralizzato a leggere queste proposte di modifiche che portate in aula proprio perché ho sempre cercato di avere un atteggiamento costruttivo soprattutto nei confronti del presidente occhiuto soprattutto in temi di sanità ma prima di entrare qua dentro ho sempre pensato ascoltando i vecchi consigli regionali ma questi sono fuori dalla realtà oggi che sono qua dentro mi viene da pensare alla stessa cosa il presidente occhiuto il discorso che ha fatto non faceva una piega in una sanità che funzionava al cento per cento forse in veneto questo discorso si regge non nell'ultima regione d'italia in termini di sanità come la nostra sono amareggiato perché conosco bene la situazione delle aziende sanitarie soprattutto dell'azienda sanitaria provinciale della mia provincia di appartenenza che cosenza dove devo ammettere sono felice di questo che nuovo commissario dell'asp di cosenza ha accelerato facendo un cambio di passo appunto per cercare di portare un diritto alla salute nella mia provincia vedo che anche nelle altre province questo discorso si sta portando avanti ma a casa mia le macchine di lusso si comprano dopo che si è portato il pane e figlia non il contrario allora questo discorso si legge in piedi presidente occhiuto e commissario ad acta nel momento in cui lei nei nove mesi da commissario aveva per esempio avviato un discorso di inizio di indennità aggiuntive nei confronti dei medici che volevano lavorare nei pronti soccorso quando si erano erano state liquidate le indennità covide visto che ancora ci sono diversi operatori che avanzano questo tipo di indennità dopo che hanno difeso e lavorato per la sanità calabrese proprio stamattina sul quotidiano del sud onorevole graziano leghe del mio territorio insieme alla collega straface ho certificato quella che è la nostra sconfitta perché a pagina 23 e leggevo cariati rifiuti nel cortile dell'ospedale l'emergenza continua la situazione rischia di arrivare al collasso totale si tiene massima attenzione sul nosocomio che domenica al primo intervento dalle ore 8 alle ore 20 non ha avuto nemmeno un medico di turno collega loizzo accariati domenica non c'era un medico di turno mia mamma il covip mio padre hanno il covip mia mamma è stata ricoverata domenica sera alle 22 e 30 all'ospedale di rossano lunedì mattina all'ospedale di rossano c'era un medico di turno al soccorso a corigliano c'era un medico di turno al pronto soccorso due medici per 87.000 per 78 mila abitanti più i turisti ora questo discorso si legge in piedi presidente occhiuto su una sanità che funziona in calabria la sanità non funziona e a malincuore le dico che in questi nove mesi non è cambiato nulla e glielo dico io che facevo per primo e faccio ancora per lei il tifo che possa cambiare realmente le cose ieri sera nel mio comune ennesimo incidente sulla 106 a 200 metri da casa mia purtroppo un altro morto l'ambulanza è arrivato dopo 25 minuti io penso che il consiglio regionale noi rappresentanti del territorio dovremmo iniziare a parlare di queste cose e poi successivamente perché nel merito io condivido anche il fatto che un direttore generale debba guadagnare di più di un direttore di distretto e che un direttore sanitario responsabile amministrativo debbano guadagnare di più di un primario per l'amor di dio ma non sono cose primarie presento chiudo per quanto mi riguarda oggi è primario trovare medici oggi è primario trovare personale non penso sia né populismo e né demagogia perché non vedo perché le cliniche private si stiano guardando intorno facendo richiesta da agenzie interinale per trovare nuovo personale medico non vedo perché si stiano facendo convenzioni con paesi esteri tipo l'ucraina per trovare medici e lei per prima ha detto mesi fa quando è venuto il presidente della repubblica dell'albania che voleva avviare appunto con l'albania un percorso per far sì che potessero inviarci dei medici allora è quello è il percorso che deve seguire il presidente occhiuto per quanto mi riguarda glielo dico con la massima stima nei confronti della sua delle sue capacità politiche nessuno discute e quando le diceva appena insediati sulla sanità non c'è cinque stelle forza italia pd o lega l'errore più grande che ha fatto è che sulla sanità purtroppo si sta circondando da troppi manager da o da troppi generali o da troppi colonnelli che tra l'altro non conoscono nemmeno la situazione calabrese dei nostri territori e non ci sta in nessun modo facendo partecipare a delle scelte che dovrebbero essere comuni perché torno a ripetere lei commissario ad acta della sanità grazie alla nomina di un governo che vedeva al suo interno tutti i partiti dell'arco costituzionale tranne fratelli d'italia ora io non voglio attaccarla non voglio attaccare la maggioranza le chiedo ancora una volta presento occhiuto di rendere partecipi noi consiglieri di opposizione per cambiare le sorti della sanità e del sistema sanitario regionale perché questa è una battaglia che lei da solo non vince ma non perché non è bravo non è capace perché purtroppo questo è un settore e lo sa meglio di me che negli ultimi trent'anni non è stato gestito basti pensare lo so sicuramente che all'aspi di cosenza negli ultimi due mesi e mezzo da quando si è insediato il nuovo commissario sono state chiamate nella gradatore degli infermieri che sono state è stata fatta mi sembra dicembre gennaio del 2022 dal numero 18 siamo arrivati al numero 250 sono stati chiamati 230 nuovi infermieri poi alcuni hanno accettato altri no sono stato felicissimo non mi interessa che il commissario graziano l'abbia scelta lei io sono per i risultati sono stati stabilizzati collega loizzo e lei lo sa bene siamo usciti insieme sulla stampa sulla stampa più di 70 ausiliari che dal 2003 aspettavano di passare da part time a full time io per primo sono felice quando si raggiungono dei risultati di questo genere sono il primo ad applaudirvi sulla stampa e sui giornali ma non possiamo oggi dare un segnale che con l'emergenza urgenza al collasso collega caputo si portano questi tipi di provvedimenti siamo in guerra a livello sanitario i direttori generali i direttori sanitari responsabili amministrativi oggi devono fare un sacrificio come fanno tantissime famiglie che portano i loro genitori i loro fratelli loro le loro sorelle i loro figli e aspettano 14 15 16 ore nei pronto soccorsi per avere una diagnosi e sono già due i casi di mali di mala sanità a polistena e se non erro a cosenza dove nelle nelle ultime settimane qualcuno ci ha lasciato pure le penne e sono partite delle indagini da parte della procura della repubblica quindi presidente io le chiedo un rinvio non per populismo e per demagogia ma perché come politica regionale dobbiamo dare un esempio che ci sono delle priorità oggi la carenza del personale la priorità più importante del sistema sanitario regionale io su questo ancora una volta le porgo una mano e le do mia totale disponibilità per so che magari non non posso essere molto competente in materia ma da parte mia ci sono c'è l'impegno e la volontà di darle una mano come commissario ad acta per cambiare realmente le cose per questo motivo preannuncio il voto contrario grazie collega tavernese ha chiesto di intervenire la collega loizzo prego allora sono diciamo non volevo intervenire perché ritenevo che il presidente nella sua veste di commissario della sanità avesse già tracciato un profilo importante autorevole sul pensiero di tutti noi della maggioranza però tavernese mi provoca e quindi se mi provoca ovviamente rispondo onorevole tavernese le devo dire una cosa cioè forse i risultati apparenti del cambiamento di passo non sono visibili né possono essere portati come esempio il numero dei malati in pronto soccorso con la rete emergenza urgenza che su preciso mandato dal presidente commissario si sta cercando di organizzare evitare di parlare della necessità non di prestazioni aggiuntive quanto di piani di investimento reali del piano assunzionale come sta il presidente commissario attuando e quella la vera scommessa i piani di fabbisogno è inutile che diciamo lavoriamo e costatiamo il risultato di piani dei fabbisogno che risultano non attribuibili a questo presidente commissario bensì al commissario precedente ai sub commissari precedenti quindi oggi è l'investimento che non si realizza dal 29 ottobre quando siamo eletti consiglieri ci vuole almeno un'attività di un anno per poter portare avanti il cambiamento delle reti che si sta operando e poi voglio dire spendere una parola importante cioè lei conosce l'impegno diciamo che ci vuole per essere direzione strategica il segno del cambiamento può essere fatto in corsa con un decreto calabria ancora in atto e dobbiamo dire che questi commissari che sono subentrati stanno di gran lunga facendo un lavoro ma chi al comando a partire dal presidente occhiuto e che si rifletterà solo dopo la fine del decreto calabria con un'espressione di intenzione per i più meritevoli necessita di una preparazione di cambiamento culturale allora io le dico che da direttore dipartimento se io fossi stata nominata direttore generale cosa che non è assolutamente stata mai nelle mie corde io avrei assolutamente perso una quota parte dello stipendio allora cosa vogliamo dire che uno si deve immolare e deve rinunciare a quelle che sono le stipendialità che in tutte le altre regioni sono di pari a quel minimo perché il 20 per cento caro tavernise non è veramente nulla e se le dico che io in realtà non valuto la quota diciamo che viene attribuita ma la ricerca come si fa nei concorsi che sono ispirati dalla migliore e numerosa dice la costituzione nella pubblica amministrazione i dettami dei migliori dei migliori si trovano aprendo e se lei ritiene che una che ha fatto parte del sistema dal punto di vista propriamente diciamo del la tipologia di contratto perché poi quello che ne deriva la parte economica è solo diciamo funzionale eh dal ruolo ma come pensiamo che a questa ehm diciamo scelta possano realmente concorrere i migliori ma non i migliori diciamo intesi come necessariamente locali i migliori in generale quindi aumentare il tipo ehm diciamo di indennità per regolarizzare dal punto di vista funzionale il contratto serve ad aumentare l'offerta vorrei veramente che l'opposizione facesse uno sforzo e si stringesse intorno al presidente commissario perché il presidente commissario è veramente in questa battaglia ehm necessita di tutti ma va dritto e noi lo ammiriamo perché va dritto nelle sue decisioni e non possiamo sempre fare la dietrologia del caso di gravissimo che ci sono dei casi gravissimi che ci sono quotidianamente dobbiamo affrontare su più ambiti ehm il la scommessa eh dateci tempo date tempo è giusto eh voglio dire per noi era inammissibile eh come già l'altra volta le ho detto accettare medici non specialisti eppure questo non è che è stato fatto in Calabria è stato approvato in Veneto perché lo richiede quella che proprio lei ehm eh dice all'emergenza urgenza lo sa che delle borse di studio di specialità gran parte ehm non andrà proprio non si renderà appetibile per il fatto che ehm molti medici non concorreranno all'area dell'emergenza urgenza e delle sedicimila borse la ehm ehm diciamo la tipologia che lei tavernise che io cerco non sarà probabilmente disponibile bisogna cercare altre aree di intervento di unità anche con ehm le università perché anche chi si specializzi in Calabria possa essere vincolato ad un contratto biennale per rimanere nell'area o che un certo numero di borse come è stato fatto in altre regioni venga dedicato e contingentato nell'area di emergenza cioè ci sono molti spunti su cui ehm lavorare e mi pare che questo del cambiamento di indennità contrattuale devo dire ehm sia proprio ehm assolutamente superabile con questo ovviamente ehm lascio la parola ovviamente voterà favorevole grazie collega Loizio ha chiesto di intervenire la collega Bruni prego eh grazie presidente allora mi sento di dire che questa proposta legislativa che ci è stata portata in conferenza capogruppo e sulla quale eh tutti noi della eh minoranza abbiamo chiesto di riflettere al momento in cui ci siamo messi a riflettere abbiamo ritenuto e infatti eh faccio già l'intervento del collega Antonio Lo Schiavo e di Davide Tavernise dei Cinque Stelle per più ordini di motivi ma non perché siamo pavidi eh presidente occhiuto eh noi eh non siamo assolutamente pavidi siamo eh persone che hanno a cuore questa terra e che hanno eh dimostrato sicuramente ognuno di noi nelle proprie scelte personali e anche eh attualmente in quelle politiche di mettere la faccia su qualsiasi tipo di provvedimento che si vada ad approvare a richiedere anche quando è eh proposto dalla maggioranza e sulla giustizia dell'atto che eh entriamo nel merito concordo sul fatto che eh c'è eh una legge che eh probabilmente va modificata nell'essenza non c'è eh da un punto di vista tecnico una difficoltà eh all'epoca nel 2009 questa riduzione del taglio del 20% fu portata perché c'era una spending review e questo avrebbe significato mettere le tasche eh mettere le mani nelle tasche dei calabresi aumentando di molto il ticket e quindi il taglio non fu solo per eh i manager della sanità fu per tutta la pubblica amministrazione questo lo voglio ricordare ma all'epoca era la regione a gestire i contratti eh per i manager ed era la regione a definire anche il budget dei loro eh degli stipendi dei direttori questo non è così ora non è così ora perché il presidente occhiuto essendo commissario della sanità avrebbe potuto e dovrebbe a parer nostro fare questo provvedimento esattamente con un dca quindi è anche un problema di metodo nel problema del merito noi riteniamo che c'è un momento storico questo in cui è vero sono solo otto mesi secondo la collega Luizzo per noi che siamo dell'opposizione per il resto della collettività sono purtroppo già otto mesi ma otto mesi in cui non abbiamo visto eh modifiche tristemente non abbiamo visto modifiche appunto nel sistema emergenza urgenza nelle difficoltà organizzative nei medici non abbiamo visto nulla da un punto di vista anche di ristori che andavano ai medici esattamente per i premi covid che non sono stati erogati ancora nella maggior parte dei casi abbiamo sotto gli occhi le tragedie di tutti i giorni e fino a quando praticamente noi avremo dei morti a causa della sanità e delle spese che si attestano oltre i 300 milioni di euro per l'extra regionale io non posso accettare la collega Luizzo quando parla di risultati non ancora evidenti no qui proprio non ci siamo e non stiamo evidentemente facendo a sufficienza tutto quello che nelle nostre possibilità sicuramente siamo convinti che i tempi di riorganizzazione non sono e non possono essere rapidissimi però noi non possiamo partire da un procedimento del genere perché questo veramente da un punto di vista etico è inaccettabile tra l'altro il presidente occhiuto ha dato gli incarichi ai commissari e avrebbe potuto inserire o può inserire nelle assoluta potestà esattamente questo aumento del 20 per cento come retribuzione di risultato e questo quello che noi ci saremmo attesi perché questo che è corretto inserire una retribuzione di risultato che significa anche dire al direttore generale piuttosto che al commissario di turno sei stato bravo e quindi ti premio e questo è il premio che significa migliorare significa dare il senso anche ai migliori di camminare e dunque da questo punto di vista questa legge non può a parer mio essere approvata io voterò contrario ma soprattutto vorrei farvi presente che questi fattidici soldi cosiddetti risparmiati sono in realtà dei soldi non spesi ma che fanno parte dei lea cioè dei livelli essenziali di assistenza e questa legge ci costerà per questo anno 408 mila euro e a seguito un milione di euro che vengono esattamente presi dai lea cioè dei livelli essenziali di assistenza questo è inaccettabile grazie ha chiesto intervenire collega laghi prego grazie presidente cercherò di mi pare che la deriva del dibattito sia un po stia un po andando verso una contrapposizione polemico politica e senza entrare sufficientemente nel merito della legge allora parte che con una rapidissima digressione dico che io continuo ad andare per ospedali per parlare con operatori pazienti e quant'altro e continuo andare per aziende sanitarie provinciali non trovando in queste ultime la dovuta tempestività nelle risposte cosa che appunto poi farò eventualmente successivamente oggetto di dibattito per andare invece entrare nel merito di questa legge allora certo è indubitabile che nell'attuale periodo storico questo incremento del 20 per cento degli emolumenti dei vertici aziendali abbia un impatto sull'opinione pubblica concordo effettivamente se diciamo se chi ha la responsabilità legislativa deve assumere del diciamo delle decisioni anche difficili duri da da comprendere da parte dell'opinione pubblica l'idea le deve assumere è meglio se c'è il massimo della sintonia ma certamente non è obbligatorio quindi io voglio entrare proprio nei meccanismi se posso dire collegati alla eventuale promulgazione di questa legge che mira che cosa cioè rendere più appetibile economicamente il diciamo il livello del diciamo di acquisizione del governo della sanità in questo caso provinciale ai vari ai vari livelli equiparandola cioè ridando quel 20 per cento che era stato precedentemente so tolto con un esborso che non è diciamo non è straordinario ma non neanche limitato perché al regime di 980 mila euro allora io personalmente ho votato a favore della della legge che prevedeva l'ingresso dei medici non specialisti negli ospedali perché io ritengo che ritenevo che quella legge fosse un atto dovuto praticamente per bloccare la desertificazione degli ospedali anzi probabile e credo che dovremmo lavorare come si sta facendo per rendere sempre più appetibile l'idea di fare il medico in calabria perché questo inevitabilmente determinerà determinerebbe spero determinerà un maggior afflusso di medici e quindi una migliore risposta per quanto riguarda la richiesta di salute delle popolazioni il problema è che a mio a mio parere non c'è assolutamente una un automatismo del tipo diciamo aumentiamo il budget cioè qui aumentiamo l'emolumento avremo dei governanti diciamo della sanità migliori non c'è e anche perché con anche in passato lo dico da operatore sanitario c'è stata una certa se posso usare un termine forte anche una certa spregiudicatezza da parte di direttori generali o commissari che si accreditavano di obiettivi raggiunti mai raggiunti perché collegati a un aumento degli emolumenti a un aumento economico degli emolumenti per cui questo mi fa dire che non sono contrario a una legge meritocratica che determini il miglioramento delle prestazioni organizzative di governo della sanità che la calabrese però io non ritengo che in questa legge ci sia un meccanismo che ci garantisca questo miglioramento di prestazioni e questo se posso dire anche alla luce dell'esperienza personale che ho avuto negli anni con tantissimi vertici aziendali anche prima del 2009 i quali vertici aziendali per la verità è più che meritare un incremento del 20 per cento meriterebbero una decurtazione ulteriore di un ulteriore 20 per cento per questo per rimanere proprio nel merito della legge cioè io non credo che questa bisognerebbe su me studiare dei meccanismi premiali per cui cioè guadagna di più chi fa di più e meglio ed è inutile dire che la valutazione della qualità della prestazione fornita non può essere in capo alla dirigenza aziendale nel senso che il controllato non può coincidere con il controllore per questo io dico il meccanismo tecnico di questa legge non ci garantisce una migliore qualità di diciamo di governo della sanità ed è per questo motivo che voteremo contro grazie chiesto intervenire consigliere alecci sì grazie io credo che oggi in calabria il ruolo di più alta responsabilità e più delicato è proprio quello del presidente della regione calabria e fare il presidente della regione calabria sicuramente è più complicato che farlo oggi in qualche altra regione eppure io credo che si avessero chiesto al presidente occhiuto circa un anno fa quando lui aveva un ruolo importante all'interno del parlamento da onorevole che l'indennità da presidente della regione calabria sarebbe stata dimezzata credo e ho la presunzione di pensare che non ci avrebbe pensato due volte a venire in calabria per guidare questa regione perché io non credo che l'opera di un uomo si misuri soltanto con l'indennità che viene percepita e quindi questa narrazione per la quale venire a lavorare in calabria debba essere una situazione sfavorevole per chi accetta di farlo è molto più complicata come se fossimo un paese del terzo mondo non lo accetto e non accetto la narrazione che la vita di un politico di un dirigente si misuri solo nell'indennità che viene ricevuta tra l'altro il presidente ha combattuto e ha ottenuto anche di svolgere il ruolo di commissario alla sanità senza che ciò comporti indennità aggiuntive e mi sembra anche ingeneroso verso chi questo ruolo oggi lo sta svolgendo che è stato individuato dal commissario i commissari direttori che sono già presenti e che domani potrebbero decidere di ripartecipare agli avviso di poter continuare il ruolo che stanno svolgendo oggi perché dire che i migliori non verrebbero significa dire che quelli che ci sono oggi non sono capaci e che non possono rivestire degnamente il ruolo che stanno rivestendo e dirò di più che il lavoro che stanno portando avanti il commissario il presidente dovrà valutarlo e magari valutarlo positivamente facendo sì che possano continuare ad effettuarlo e mi sembra ingeneroso anche verso quei medici quegli operatori sanitari ai quali vengono fatti i ponti d'oro per andare a lavorare nel privato e che oggi continuano a lavorare negli ospedali nelle aspi di questa regione in situazioni difficili drammatiche ma non abbandonano il posto non vanno a svolgere lo stesso ruolo magari in aziende private o all'estero come qualcuno decide di fare ma decido di lavorare in calabria nella loro calabria anche magari pagati meno rispetto al privato e allora io penso che il segnale che questa regione debba dare è quello di una narrazione diversa di una regione che si vuole risolvere di sollevare con il contributo anche e soprattutto dei calabresi di tutti quei calabresi che sono andati via e che non decidono di tornare a lavorare in calabria non perché la retribuzione e mille o duemila euro più bassa perché stiamo parlando di passare ad esempio per il direttore generale da 150 160 mila euro a 200 mila euro quindi una retribuzione di 13 14 mila euro al mese rispetto a una di 15 o 16 non penso che sia quella discriminante io penso che li dobbiamo far rinnamorare della nostra calabria dobbiamo dare il buon esempio facendogli percepire che c'è una calabria che vuole crescere che vuole migliorare che vuole dare un'immagine differente perché l'immagine che stiamo dipingendo oggi dicendo queste cose farsi anche che mi sembra che l'assessore orso marzo si è spostato dipinge una calabria da terzo mondo e quindi chi deve decidere anche se passare le ferie in qualche regione d'italia in calabria non viene perché se diciamo che chi verrà a lavorare in calabria deve essere pagato di più quasi come gli ingegneri che vanno a costruire ponti e viadotti in paesi dove ci sono conflitti o del terzo mondo mi sembri generoso per una regione bella magnifica che ha grandi potenzialità e attorno alla quale ci dobbiamo stringere tutti quanti assieme senza pensare unicamente a quella che deve essere la attribuzione per chi decide di farlo grazie grazie consigliere alecci la parola consigliere graziano prego grazie presidente grazie colleghi un saluto alla giunta regionale presente al presidente della giunta io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi sia quello del dell'opposizione che anche del nostro presidente nonché commissario alla sanità devo dire che una mia opinione personale probabilmente devo convenire che l'intervento di laghi forse è stato più quello nel merito insomma io devo dire che forse qualcuno è già in campagna elettorale perché gli interventi del collega lecce del collega taverni se non me ne vogliono ma mi sembrano più da campagna elettorale piena come se fossimo già candidati io capisco le vostre aspirazioni e capisco anche il populismo e non la qualità del dibattito ecco perché se facciamo gli sceneri apocalittici di sceneri apocalittici li abbiamo avuti per 12 anni di commissariamento e in questi 12 anni i commissari i direttori sanitarie direttori amministrativi avevano lo stipendio ridotto del 20 per cento quello stabilito nel 2009 quindi di negare che se a lei ci dice che non è vero che abbiamo avuto commissari bravi anche venuti da fuori regione vuol dire negare allora la sanità è andata benissimo abbiamo avuto dei capi dei commissari eccellenti straordinari sono venuti in calabria sapete che è venuto in calabria a dirigere l'aspi di cosenza è venuto un funzionario che senza nulla togliere a chi fa questo mestiere che chiaramente lo fa con l'ode anche in calabria e fra l'altro in questo periodo i vaccini la vaccinazione è uno dei fattori più importanti ma quando non lo era sono venuti funzionari che dirigevano ufficio vaccinazione che venivano in calabria a farsi gli anni da dirigente per poter poi ritornare nella propria regione con i titoli per poter partecipare ai concorsi di direzione nella propria regione e non lo possiamo essere una regione da saccheggiare per il passaggio e per acquisire i titoli noi dobbiamo avere dei commissari bravi a lecci dei commissari capaci dei commissari che sappiano veramente dare alla volta cambiare il verso a questa regione rispetto allo scenario che avete descritto ma avete anche detto un'altra cosa che tavernise che il nuovo commissario di cosenza che mio nomino ma non è mio parente a scanso di equivoci ha fatto più di 200 assunzioni in queste poche settimane che lì gli infermieri e non ha potuto nominare il direttore amministrativo per esempio ma neanche il direttore sanitario lo sta facendo da solo perché non riesce a trovarli perché c'è un bando a cui finora non ha risposto nessuno allora noi vogliamo che ci siano dei direttori sanitari dei direttori amministrativi capaci di qualità o vogliamo continuare a fare la politica del populismo e della scarsa qualità come quelle che ho sentito oggi senza offesa per nessuno in quest'aula noi vogliamo una vera sanità una sanità di qualità è quella che il presidente occhiuto da commissario sta cercando di fare in questa regione ma ha bisogno occhiuto di avere intorno a sé dei collaboratori capaci dei collaboratori competenti non può avere persone che vengono da fuori perché devono farsi i titoli a noi va bene anche manager calabresi come come per la maggior parte ha nominato il commissario chiuto ma manager come graziano che sta operando bene sono d'accordo con te tavernissa mettiamoli a fianco persone anche capaci e vediamo dove può arrivare questo commissario sei così bravo come sta dimostrando di essere e quindi non possiamo tenere io ho parlato con persone anche dirigenti medici in questi ultimi giorni ho detto perché non stai rispondendo all'avviso di direttore sanitario dice questi sono dirigono unità operativa semplici neanche complesse dice non mi conviene preferisco non farlo riesco a fare dirigente di unità operativa come riesco a fare il capo distretto prendo di più magari se mi fanno capo distretto ci vado perché vengo pagato meglio ma non è possibile che ti al di sopra nella scala gerarchica sanitaria prenda meno di chi al di sotto del sottoposto ma questo non avviene nessuna pubblica amministrazione questa è una norma anacronistica ha detto bene allo schiavo che è stata fatta in un periodo particolare quel periodo particolare è passato da 13 anni non ci sono più lo schiavo l'ha detto giusto non ci sono più le motivazioni le motivazioni sono all'opposto dobbiamo cambiare la sanità abbiamo bisogno di manager bravi non è dove non c'è la collega amalia bruni che non vedi in aula non è l'identità di risultati il problema perché magari fosse quella l'identità di risultati il decreto 150 ha previsto già 50 mila euro in più per i commissari in calabria ma non ha previsto nulla per i direttori sanitari e direttori amministrativi che non non riescono nemmeno con l'identità di risultato c'era il commissario e badate bene di cosa stiamo parlando perché è bene parlare con i numeri alla mano perché se non parliamo con il numero alla male diamo un'informazione errata stiamo parlando di 30 mila euro lordi che sapete bene che si riducono a 15 mila euro per il commissario stiamo parlando di 24 mila euro lordi per il direttore sanitario direttore amministrativo si riducono a mille euro al mese in più gli vogliamo dare mille euro al mesi in più a chi va a fare questo lavoro nell'interesse dei calabresi per far sì che questa sanità finalmente sia a livelli eccellenti a livelli straordinari che il tentativo che stiamo facendo ma che sta facendo il commissario giusto soprattutto non tanto noi che non possiamo fare nulla perché in capo al commissari la sanità e poi dire che è meglio se questo provvedimento sarebbe stato adottato con un'ordinanza commissariale e cavolo abbiamo sempre rivendicato la potestà della politica ed oggi diciamo ad occhiuto perché non l'hai fatto tu questo provvedimento da solo abbiamo portato il provvedimento a tavernisi in conferenza dei capigruppo mica abbiamo l'abbiamo portato in aula ha avuto un passaggio dove avete detto che dovevate riflettere il pd è un movimento 5 stelle se firmarlo ma non avete detto che il provvedimento non andava bene facevate una riflessione sulla firma ma non avete detto che il provvedimento non andava bene badate bene perché le cose vanno dette per intero e non le state dicendo oggi per intero a lecce il tuo capogruppo non ha detto quello che tu stai dicendo oggi ha detto un'altra cosa e non lo voglio ricordare ma bevacco lo sa allora siamo seri non facciamo populismo facciamo politica di qualità oggi in quest'aula e la politica di qualità vuol dire assumersi anche la responsabilità di scelte impopolari e questa fase la mettete sul populismo presidente è impopolare ma noi sappiamo bene che serve è utile ad avere una sanità veramente di eccellenza straordinaria in questa regione quindi non possiamo avere gli scarti al vertice della sanità dobbiamo avere le persone migliori e le persone migliori di qualità vanno pagate vanno pagate e lo dobbiamo pagare non gli stiamo dando in più rispetto alle altre regioni gli stiamo dando lo stesso stipendio delle altre regioni italiane uguale al momento prendono di meno sarà questa una delle cause per cui la sanità in calabria fa schifo sicuramente una concausa sicuramente una concausa perché chi è al vertice che fa le scelte e che al vertice che deve assumersi la responsabilità di firmare della firma dei provvedimenti finora abbiamo avuto gente a cui la penna pensava noi vogliamo persone che firmino che si assumono le responsabilità e che faccio una scelta a vantaggio dei calabresi e che cambino lo scenario apocalittico che tu hai descritto a cariati tavernissa dove non dimentichiamo che il presidente occhiuto a proposto di cariati ha fatto la proposta al tavolo a duce di reinserirlo nella rete ospedaliera perché tu questo l'hai omesso e lo devi dire invece ai cariatesi lo devi dire ecco quindi noi votiamo con serenità a favore di questo provvedimento perché riteniamo che la politica deve essere responsabile e deve assumersi come dice il presidente occhiuto la responsabilità delle scelte e non sono questi soldi che vanno che devono essere che vengono torti ai medici che fanno il loro lavoro quotidianamente quei medici devono essere pagati sono pagati se è possibile devono essere pagati anche di più ma non sono questi pochi euro che vanno a cambiare la sanità in negativo la vanno a cambiare in positivo magari diamogliere di più provocatoriamente dico io presidente se lei trova il miglior manager americano lo porti in calabria siamo disponibili ad agli anche più soldi se le dà una mano a cammina davvero la sanità calabrese non è questo il problema della calabria quindi cerchiamo di fare una politica diversa e se vogliamo risparmiare risparmiare risparmiamo anche nei gruppi consigliari no facciamone di meno collega bruni facciamone di bene così risparmiamo anche le spese delle strutture grazie presidente grazie collega graziano la discussione e termini prego collega bevacqua ma le ragioni per le quali l'intera miglioranza a vota ha chiesto il rinvio abbiamo chiesto il mio del punto e se ciò non verrà abbiamo annunciato in maniera credo compatta il nostro voto contrario e non mi dilungo sulle ragioni per le quali abbiamo fatto questa scelta ha ragione collega graziano collega al capogruppo quanto nella conferenza di capogruppo abbiamo detto perché abbiamo avuto qualche sollecitazione qualche di qualche chiamata a dire bene ci pensiamo se votare o meno se a portare la nostra firma o meno io non rinnego nulla di quello che ho affermato nella convenzione del capogruppo davanti al presidente e agli altri capogruppo non è questo il problema perché poi la politica è fatta di tante cose è fatta di riflessioni qualche volta si sbaglia si commettono degli errori ci mancherebbe altro sia superficiali ci mancherebbe altro però credo che poi la politica è assunzione delle responsabilità e vorrei dire al presidente occhiuto che oggi parla di popolismo di sovranismo che chi ha consegnato chi si sta consegnando al populismo al sovranismo non è il pd o le altre forze centrinistra ma è una la forza alla quale il presidente fa parte integrante che oggi sa per nascere in italia una maggioranza populista e sovranista dove vedrà protagonista il presidente occhiuto e la sua maggioranza quindi questo quando parliamo di populismo di sovranismo di altre cose questo è il primo elemento politico che vorrei porre all'attenzione del presidente occhiuto e della della dell'aggruppamento che fa parte che forza italia non altri forza italia perché da sempre ho guardato forza italia come una forza moderata riformista capace di rompere di essere la parte propulsiva all'interno della sua collezione oggi mi dispiace dirlo presento occhiuto anche lei si sta consegnando a quella parte che sicuramente guarda ad un altro italia e non guarda l'italia del domani questo è una riflessione che ricade anche sulla sanità perché lei non ci ha detto la verità presento occhiuto perché questa proposta di legge nasce non sollecitazione dei commissari o di altre cose ma nasce da una richiesta avanzata in maniera pressante giustamente e legittimamente da qualcuno che oggi svolge ruolo di responsabilità in questa nostra regione e che magari si sente diciamo poco poco appagato poco riconosciuto per la grande qualità la grande professionalità e le grandi competenze che ha quindi è giusto che lei si pone oggi il problema il problema del problema di come oggi ingentivare la venuta in calabia di come oggi ingentivare diciamo la la presenza di autorevoli esponenti io credo che quindi è giusto il problema che lei si può si pone insieme alla maggioranza e che oggi pone al centro dell'attenzione di questo consiglio regionale perché credo che interventi di tavernise della collega amalia bruni di laghi del collega lecci testimoniano anche da parte nostra la voglia di cambiare la calabria la voglia di contribuire a migliorare la sanità e servizi ai cittadini ci mancherebbe altro ma credo che oggi però ecco portare in quest'aula questo provvedimento dopo aver sentito dopo aver sentito lo dico con chiarezza aver sentito anche il grido di dolore proveniente dai medici ospedalieri da chi non è stato pagato l'indennità cobit questo è stato la nostra per cui non oggi porsi il problema di come rendere non attrattiva la calabria o di non favorire l'avvenuto in calabria dei manager di un certo ci mancherebbe altro questo è obiettivo perché se dovessimo raggiungere se dovessimo raggiungere questo scopo questo obiettivo credo che faremo l'interesse della calabria sono certo che il commissario occhiuto stia facendo molto lo vediamo l'impegno che mette sui temi persino va in giro nel domenica a controllare i depuratori se funzionano meno dimostra che c'è a una tensione morale forte da parte presento chiudere nell'affrontare i problemi ci mancherebbe altro che chi lo rinnega che chi non lo ammette però credo che bisogna avere anche la capacità ecco di riconoscere a questa minoranza una considerazione politica che manca perché i processi caro presento chiudo quando lei commissario si guidano insieme si cercano di rendere diciamo partecipi e protagonista tutti di maggioranza o di minoranza e su questo noi siamo pronti a dire che come come pd ma io credo con violenza siamo pronti ad aprire un dialogo con lei su questi temi che riguardano che riguardano le prospettive della calabria che riguardano la sanità che il tema centrale oggi che i cittadini guardano e ci aspettano le risposte e su questo noi siamo pronti a e per questo vi chiediamo di rinviare di rinviare anche perché presento chiudo se non ricordo male lei ha dato a questi commissario un termine che è novembre se non ricordo male quindi a novembre il mandato di questi commissari scadrà ecco perché non approfittare di questi mesi per capire insieme come migliorare la proposta come integrarla meglio come ampliarla e anche anche su questa cosa io credo io questo l'invito che mi sento di fare come posizione ragioniamo meglio caro commissario caro presidente ragioniamo non perché non siamo pronti a firmare ci mancherebbe altro c'è io una cultura non ho una cultura né populista né del tema con la nostra formazione della cultura cattolica democratica che è fatta di assumere responsabilità innanzitutto e di bene del paese non ci mancherebbe altro però io credo che sia più giusto più corretto nel rispetto anche dei calabesi che questa questa proposta di legge specifica venga inserita in un ragionamento più complessivo che riguarda azienda zero che riguarda la nuova diciamo come la nuova e la nuova sanità il modello sanitario e che si faccia un impedimento unico dove inserire anche questo punto ecco perché noi chiediamo di rinviarlo e di ragionarci insieme meglio per come ecco avere sì rispetto di chi viene in calabria ci mancherebbe altro avere valorizzare il lavoro di clienti in calabria ma anche dimostrare che questo consiglio regionale si assume responsabilità su un'impostazione più complessiva più complessiva che riguarda appunto l'ingentitazione dei manager e i miglioramenti dei servizi alla sanità e soprattutto risposte ai cittadini che oggi a noi li chiedono costantemente quotidianamente che noi riusciamo ancora a dare risposte certe e sicure grazie collega bevacqua ovviamente la legge non la rinviamo presidente visto che è stato tirato in ballo più volte vuole vuole aggiungere qualcosa no presidente non voglio non ho la pretesa di concludere un dibattito che almeno per quanto attiene alla maggioranza è stato ottimamente concluso all'intervento del consigliere graziano peraltro dopo graziano è intervenuto solo il capogruppo del pd ho avuto difficoltà a comprenderlo in qualche fase probabilmente c'è un problema di microfono quindi farei una darei una risposta parziale una cosa soltanto però vorrei dire ho ascoltato l'altro consigliere del pd consigliere alecci che diceva sostanzialmente che con questo provvedimento noi raccontiamo una calabria che nella sanità è da terzo mondo non facciamo il bene della calabria beh noi siamo fortemente interessati a raccontare una calabria ricca di opportunità e lo state vedendo io lo faccio davanti a investitori pubblici e privati parlo spessissimo della straordinaria opportunità che può essere non solo per la calabria ma per l'intero paese il porto di gioia tauro di quello che potrebbe essere il turismo in tutti i settori io parlo della calabria e delle opportunità della calabria in termini positivi però consentitemelo cioè la calabria ha una sanità da terzo mondo e ha una sanità del verso mondo nonostante questi otto mesi da commissario cioè non è che in otto mesi da commissario io potevo rivoluzionare la sanità allora non riconoscere che la calabria nonostante gli sforzi dei nostri eroi che stanno negli ospedali i medici gli infermieri a una calabria a terzo è una a una sanità da terzo mondo credo significhi non conoscere la calabria o non conoscere la sanità della calabria perché non voglio pensare siate malafede e utilizzate questi argomenti solo per dialettica politica ci stiamo provando in ogni modo con strumenti straordinari il consigliere laghi faccio riferimento a quell'altra norma per esempio sui i medici non specializzati nelle corsie degli ospedali a proposito siccome sto parlando al pd vorrei dire che questa norma ce la impugneranno perché la stanno impugnando a tutte le regioni ve lo dico perché così vi portate avanti evitate sostanzialmente di studiare in futuro quali norme ci impugnano evitate inciampi errori questa impugneranno ci impugneranno anche quella sull'apicoltura se ogni tanto venite a me vi dico in anticipo quali possono essere le norme che ci impugneranno non lo dico per polemica nei confronti del pd io vi ringrazio moltissimo della vostra opposizione della qualità della vostra opposizione che è una opposizione che credo auspicherebbe ogni presidente di regione grazie presidente passiamo all'esame votazione del provvedimento articolo 1 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 2 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 3 favorevoli contrari astenuti approvato passiamo alla votazione della legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il consigliere taverni se prego nella facoltà si tre minuti giusto presidente tre minuti sì no giusto colleghi grazie no no grazie ne bastano tre collega graziano e collega loizzo me fa piacere che quale la carta girata no si passa da responsabili a populisti da populista responsabile nemmeno ce ne accorgiamo più che è populista e che è responsabile ho raccontato purtroppo quella che la fotografia della nostra sanità ora se voi pensate che cambiate la sanità aumentando da 4.000 a 5.000 euro lo stipendio di direttori sanitari di responsabili amministrativi dalle mezz'ora esiste buono venuto io penso che da domani non cambierà proprio nulla perché non sono mille euro collega graziano lei sa quanto io lo stimi che cambiano le azioni di un direttore generale di un responsabile amministrativo chiedo scuola di un responsabile di un responsabile amministrativo e di un direttore sanitario questa azione era legittima dopo una serie di azioni tra cui quella dell'aumento dei medici dell'emergenza urgenza che voi non avete fatto a casa mia ci sono delle priorità e non lo sto dicendo perché mi devo candidare fra due mesi che non mi candido perché sono stato eletto per stare qui per difendere i miei concittadini cioè cerchiamo di avere un atteggiamento un po più serio tutti quanti e uniamoci sulla sanità e sull'ambiente sono altro che campagna elettorale geppe graziano qua a tutti quanti quelli che si andano a candidare si prendono a pesce in faccia perché sono le immondizie in mezzo alla strada gli ospedali sono al collasso e la gente continua a morire sulle infrastrutture di 50 anni fa non è populismo non è demagogia è realtà se no l'assessore orso marzo continua a raccontare una calabria straordinaria lo apprezzo tantissimo il migliore assessorato insieme alla princi per il momento per quanto mi riguarda ma raccontiamo sempre di una calabria che è rimasta 50 anni fa questo è il mio pensiero e il mio voto dopo aver sentito il presento chiudo che si metta a sforzo dei colleghi del pd su una cosa così importante e serie sono ancora più convinto di votare contrario grazie collega ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il collega a lei ci prego grazie signor presidente beh a me fa piacere che i miei interventi accendono la passione nel collega graziano quindi questo sinceramente me ne me ne compiaccio però evidentemente non sono stato bravo anche questa volta a trasferire quello che era il mio pensiero perché quando lei collega graziano dice che io facevo i complimenti ai commissari non mi riferivo certo ai commissari che hanno gestito la sanità calabresa ma quelli di nomina del presidente occhiuto che in questo momento stanno guidando le aspe le aziende ospedaliere sono commissari anche loro e mi sembrava ingeneroso dire e dichiarare che se non aumentano le retribuzioni i migliori non verranno è un po come dire che quelli che ci sono oggi non sono i migliori quindi io prima aspetterei anche nei loro riguardi di vedere i risultati che porteranno anche lei stesso collega graziano diceva che alcuni di loro insomma sono preparati stanno cercando di dare le migliori risposte possibili con quello che trovano quindi questo era il mio pensiero dopodiché le vorrei evidenziare una piccola contraddizione perché lei esordisce dicendo che dobbiamo essere più attrattivi che dobbiamo pagare quanto le altre regioni poi rivolgendosi verso il presidente dice no anche più delle altre regioni perché è ancora più complicato in calabra anche di più poi però termina l'intervento dicendo tal parole testuali ma ma alla fine sono mille euro che volete che siano cioè delle due luna cioè o aumentare l'indennità è veramente più attrattiva o se si tratta colleghi di mille euro che volete che siano allora forse è quasi inutile farlo perché per mille euro che volete che siano non è quella la discriminante per chi accetterà di venire a lavorare in calabria dopodiché io parlavo della narrazione che si dà di questa regione non accetto il fatto che chi viene a svolgere un ruolo in calabria debba essere pagato in più rispetto ad altre regioni perché i risultati che si portano sono anche in proporzione come lei sa collega graziano e la retribuzione è data anche dalle utenze dai dipendenti che quel distretto sanitario che quell'azienda ospedaliera ha e quindi si misurano anche in quello oltre che nella situazione che nessuno lo nega che deficitaria della sanità calabrese però non dobbiamo far finta che non ci siano però medici e dirigenti che nonostante abbiano l'opportunità di andare a lavorare fuori dalla nostra regione non lo fanno e decino di rimanere a lavorare in calabria e poi in maniera sempre molto serena dico che tanti calabresi che vivono fuori dalla nostra regione tornerebbero collega i colleghi a lavorare in calabria ma non solo per un fattore retributivo ma anche nel momento in cui vedessero nella classe politica e dirigenti di questa calabria maggiore affidabilità e credibilità che io dico il presidente sta cercando di dare e credo che sia un ottimo presidente che ci invidiano tante regioni e io mi auguro che altre regioni possono avere presidenti bravi come il nostro che sono sicuri risultati che sta promettendo da mesi prima o poi speriamo arriveranno grazie voto ario contrario grazie va bene grazie ha chiesto intervenire per dichiarazione di voto il collega graziano prego ma mi sarei aspettato che il collega lecci dopo quello che ha detto cioè che abbiamo il presidente migliore d'italia votasse favorevole al provvedimento perché se bisogna riconosciuto un lavoro degli ultimi sei mesi nella sanità dobbiamo anche riconoscerlo l'onorità aperture di ospedali tante altre cose che non sta a medirle ma finalmente rimettere ordine di moto la sanità già rimetterla in moto sappiamo bene cosa vuol dire e quindi io credo che i risultati si stiano già vedendo alecci non non facciamo sta sottigliezio non ho detto mille euro chissà cosa siano ho detto che qui mille euro consentono ad un bravo medico ad un bravo professionista amministrativo sanitario di poter venire a lavorare all'aspe come dirigente rispetto al lavoro che oggi fa dove viene pagato di più ecco e quindi può venire a dare alla sua professionalità perché se no mi metti in bocca cose che non ho detto che non mi sognerei di dire che poi tu mi dici un'opera guadagna 100 euro al mese un altro ragionamento ognuno guadagna quello che è necessario che gli si dia l'ho detto prima abbiamo bravi manager cerchiamo di prendere paghiamoli pure l'importante che cambi la sanità che è quello che è il nostro scopo poi volevo dire a tavernise che guarda tu continui ad essere e mi ha dimostrato che continua ad essere in campagna elettorale io non sono in campagna elettorale perché non mi candido quindi posso parlare con più serenità rispetto a te no 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 non ho questa voglio voglio restare su questi scambi del consiglio regionale però ti devo dire una cosa perché tu hai fatto sto scenario degli ultimi anni della sanità ma da quattro anni in cui la sanità la sanità è come commissariati in calabria da 12 anni da quattro anni e mezzo tra negli ultimi sei mesi in cui il commissario è stato chiuto quindi per quattro anni la sanità è stata gestita dal movimento 5 stelle di cui per tre anni era anche il presidente del consiglio conte del movimento 5 stelle quindi tu devi guardare in casa tua per i guai dalla sanità calabrese perché non siete più quelli che dovete aprire la scatoletta di tonno purtroppo vi siete chiusi nella scatoletta di tonno non siete usciti più grazie presidente voto favorevole grazie collega graziano passiamo alla votazione della legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale favorevoli contrari astenuti il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale il secondo punto all'ordine del giorno riguarda la proposta di provvedimento amministrativo numero 69 dodicesima iniziativa della giunta regionale recante paul ferma 2014 2020 presa d'atto approvazione modifica il piano finanziario collega montuoro la invito a relazionare dal secondo punto fino al settimo poi faremo un'unica discussione ho già parlato con i capigruppo poi do anch'io lettura del voteremo ogni so che provvedimento per provvedimento grazie presidente buongiorno a tutti la proposta di provvedimento amministrativo posta oggi all'approvazione di questa assemblea è stata licenziata la seconda commissione bilancio programmazione economica d'affari dell'unione europea nella salute il 18 luglio scorso la commissione consigliare ha esaminato il documento in oggetto esensi dalla legge regionale 30 2016 che disciplina la partecipazione della regione calabria al processo normativa europea l'attuazione delle politiche euro unitarie il provvedimento in oggetto approvato dall'esecutivo regionale con deliberazione numero 288 del 36 2022 riguarda l'approvazione delle modifiche del piano finanziario del programma operativo fondo regionale europeo per gli affari marittime la pesca il feamp 2014 2020 della regione calabria nella deliberazione in oggetto viene espressamente specificato che le modifiche al piano finanziario rimodulato sono sostanziali in quanto comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria fatta salva l'originaria dotazione finanziaria complessiva del programma pari a 37 milioni 669 mila 863 il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato con noto protocollo 26 82 31 del 14 6 2022 la chiusura della consultazione per iscritto relativa alla proposta di modifica al piano finanziario nel programma operativo feamp 2014 2020 e la conseguenziale approvazione del piano finanziario come risulta da libera di giunta regionale il dirigente generale il dirigente del competente settore del dipartimento europonente nonché referente all'autorità di gestione del programma operativo feamp 2014 2020 hanno attestato sulla scorsa dell'istruttore effettuata la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione la sua conformità alla disposizione di legge e di regolamento comunitario nazionale e regionali gli stessi dirigenti hanno attestato altresì che il provvedimento in esame non comporta oneri a carico del bilancio regionale punto numero 3 proposta di provvedimento amministrativo numero 71 dodicesimi recante piano di azione e coesione pac 2007 2013 approvazione rimodulazione scheda intervento misure salvaguardia 2.12 interventi di bonifica dei siti inquinanti messa in sicurezza e ripristina ambientale discariche e aree degradate siti di stoccaggio deliberazione della giunta regionale numero 294 del 36 2022 la proposta di provvedimento amministrativo posta oggi all'approvazione di questa assemblea è stata licenziata la seconda commissione bilancio programmazione economica ed affari dell'unione europea nella salute del 18 luglio scorso il provvedimento in oggetto approvato l'esecutivo regionale con deliberazione numero 294 del 36 2022 riguarda la rimodulazione di una scheda del programma azione e coesione pac 2007 2013 in particolare il provvedimento prevede la rimodulazione delle schede misure di salvaguardia 2.12 interventi di bonifica dei siti inquinati messa in sicurezza e ripristina ambientale discariche e aree degradate siti di stoccaggio al fine di dare seguito alle esigenze manifestate dal dirigente generale del dipartimento ambiente e territorio tale rimodulazione lascia immutata la dotazione finanziaria della scheda in questione che rimane pari a 6 milioni 943 mila 612,13 oltre che quella del piano finanziario del pac 2007 2000 2013 punto numero 4 all'ordine del giorno proposta di provvedimento amministrativo numero 72 dodicesimi recante piano di sviluppo e coesione psc della regione calabria variazione del piano finanziario della sezione ordinaria presa d'atto della determinazione del comitato di sorveglianza a seguito di procedura di consultazione per iscritto attivata in data 17 6 2022 e conclusa in data 27 6 2022 deliberazione della giunta regionale numero 261 del 36 2022 la proposta di provvedimento amministrativo posta oggi alla approvazione di questa assemblea è stata licenziata la seconda commissione bilancio e programmazione economica affari dell'unione europea nella seduta il 18 luglio ultimo scorso il provvedimento in oggetto approvato all'esecutivo regionale con deliberazione numero 241 del 14 6 2022 riguarda la variazione del piano finanziario della sezione ordinaria del piano sviluppo e coesione psc della regione calabria nonché la presa d'atto alle determinazioni del comitato di sorveglianza a seguito della delibera 239 del 2022 con la quale sono stati resi nuovi indirizzi per la riprogrammazione delle risorse della sezione ordinaria delle risorse del psc anche alla luce dell'obbligatorietà di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 12 2022 è stata richiesta ai dirigenti regionali competenti la formulazione all'autorità responsabile del psc delle proposte di progetti operazioni candidate ad essere finanziati e quindi da inserire nello stesso successivamente è stata avviata la procedura di consultazione scritta del comitato di sorveglianza che si è conclusa con l'approvazione di eliminazione del psc di un intervento collocata nella tematica sette trasporti mobilità settore di intervento 0 7 punto 0 1 trasporto stradale per un importo pari a 20 milioni per il quale dipartimento completa e competente infrastrutture lavori pubblici ha attestato la non conseguibilità di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei termini imposti dalla normativa l'inserimento nel psc all'interno dell'area tematica 3 competitività imprese settore 0 3.02 turismo e ospitalità della nuova operazione denominata attivazione regime di aiuti sub investimento 4.2 punto 1 pnrr progetto di sistema per un importo pari a 20 milioni nella delibera si chiarisce inoltre che la copertura finanziaria della nuova operazione da ricomprendere nel psc di importo pari a euro 20 milioni è garantita con le risorse finanziarie a suo tempo stanziate a copertura dell'intervento e spunto dal psc accantonate e disponibili a valere sul capitolo 1 92 00 30 1 601 le variazioni come sopra individuate comportano la variazione del piano finanziario della sezione ordinare delle psc come dettagliate nell'allegato 1 della delibera in oggetto punto numero 5 all'ordine del giorno proposta di provvedimento amministrativo numero 74 dodicesimi recante piano di azione e coesione pac calabria 2007 2013 approvazione rimodulazione scheda di intervento 3.6 politiche attive del lavoro deliberazione della giunta regionale numero 301 dell'87 2022 la proposta di provvedimento amministrativo posta oggi all'approvazione di questa assemblea è stata licenziata la seconda commissione nella seduta del 18 luglio ultimo scorso provvedimenti in oggetto approvato all'esecutivo regionale con deliberazione numero 301 del 87 2022 riguarda la rimodulazione della scheda di intervento 3.6 politiche attive del lavoro del programmazione e coesione pac 2007 2013 in particolare sul proposto della vicepresidente la giunta regionale è stata rappresentata la necessità di finanziare interventi volti all'erogazione di borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti inclusi gli studenti con disabilità a seguito di ciò l'autorità di coordinamento fse del pac calabria 2007 2013 ha predisposto una rimodulazione della scheda 3.6 politiche attive del lavoro prevedendo iniziativa a favore dell'occupabilità di giovani talenti attraverso borse di studi a favore di studenti universitari destinando a tali finalità una votazione finanziaria pari a un milione e settecento mila euro accompagnamento dei percorsi di conseguimento di studi universitari laurea triennale laura laurea magistrale ciclo unico attraverso borse di studio e azioni a sostegno a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti con disabilità la stessa autorità di coordinamento ha proposto di sostituire sempre all'interno della scheda 3.6 l'intervento emergenza accoglienza con il progetto includi calabria inclusione innovazione sociale con una dotazione finanziaria pari a un milione e duecento diecimila euro per consentire di implementare in tempi rapidi le relative procedure per la realizzazione delle attività nel corpo della delibera si evince che le modulazioni proposte lasciano immutata la dotazione finanziaria complessiva della scheda 3.6 pari a 72 milioni 562 mila 971 virgola 88 oltre che quella del piano finanziario del pac 2007 2013 punto numero 6 all'ordine del giorno proposta di provvedimento amministrativo numero 70 dodicesimi di iniziativa della giunta regionale recante por calabria fezr fse 2014 2020 presa d'atto della proposta di riprogrammazione degli assi 7 9 11 e 14 del por calabria fezr fse 2014 2020 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento è 460 del 30 marzo 2020 approvata dal comitato di sorveglianza del programma la proposta di provvedimento amministrativo è stata licenziata la seconda commissione nella seduta il 27 luglio scorso provvedimento approvato all'esecutivo regionale con con deliberazione numero 260 del 36 2022 riguarda la presa d'atto della proposta di riprogrammazione finanziaria del por calabria fezr fse 2014 2020 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento ue del 30 marzo 2020 in particolare al fine di assicurare la regolare efficace tempestiva chiusura del ciclo di programmazione del por calabria fezr fse 2014 2020 è stata avviata tra i soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione del programma una ricognizione finalizzata all'individuazione delle azioni più opportune per la messa in sicurezza del por minimizzando il rischio di mancato utilizzo di risorse in modo tale da prevedere laddove necessario una riprogrammazione del piano finanziario con l'obiettivo di concentrare le risorse sugli assi alle azioni maggiormente performanti a tal fine è stata attivata la possibilità offerta dall'articolo 2 del regolamento e numero 4 60 del 30 marzo 2020 che consente di trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'otto per cento della votazione di una priorità al primo febbraio 2020 e entro il limite del 4 per cento del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a favore dello stesso programma e inoltre stabilisce che relativi trasferimenti sono considerati non rilevanti e non chiedono una decisione di modifica del programma da parte della commissione con la delibera di giunta regionale numero 260 il 2022 oggi all'esame del consiglio si prende atto della dell'approvazione della proposta di riprogrammazione degli assi 7 9 11 e 14 del por calabria feser fse 2014 2020 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento e 4 60 al 30 marzo 2022 da parte dei componenti del comitato di sorveglianza del programma finalizzata a potenziamento della votazione finanziaria degli assi 7 sviluppo delle reti di mobilità sostenibile e per euro 10 milioni e 14 assistenza tecnica per euro 5 milioni con diminuzione con diminuzione di quella degli assi 9 inclusione sociale per euro 5 milioni e 11 istruzione e formazione per euro 10 milioni nello specifico la suddetta rimodulazione prevede un aumento di 10 milioni di euro della votazione finanziaria dell'azione 7.3 punto 1 potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa anche attraverso interventi infrastrutturali e tecnologici rinnovo del materiale rotabile promozione dell'abilitazione elettronica integrata con le azioni dell'obiettivo tematico dell'asse 7 sviluppo delle reti di mobilità sostenibile con conseguente prelievo di euro 10 milioni dall'asse 11 in particolare 3.437.831 virgola 76 dall'azione 10.5 punto 7 interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche di euro 6 milioni 562 mila 168 virgola 24 dall'azione 10.7 punto 1 interventi di riqualificazione degli edifici scolastici efficientemente energetico sicurezza attrattività e innovatività accessibilità impianti sportivi con connettività anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità un aumento di euro 5 milioni dall'asse 14 assistenza tecnica del por calabria fesda fse 2014 2020 precisamente i 2 milioni di euro della dotazione finanziaria dell'azione 14.1.1 programmazione gestione sorveglianza monitoraggio e controllo e di euro 3 milioni dalla dotazione finanziaria dell'azione 14.1.2 con conseguente prelievo di euro 5 milioni dall'asse 9 inclusione sociale in particolare dall'azione 9.4.4 sostegno l'adeguamento infrastrutturale per il miglioramento dell'abitare a fuori di persone con disabilità e grave limitazioni dell'autonomia punto numero 7 all'ordine del giorno ppa numero 44 dodicesimi bilancio di previsione 2022 2024 dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente arpa cal la proposta di provvedimento posto oggi l'approvazione di questa assemblea è stata licenziata l'unanimità dei presenti dalla seconda commissione alla salute il 27 luglio scorso la proposta è relativa al bilancio di previsione 22 24 dell'arpa cal calabria durante il lavoro della commissione abbiamo dito sia il direttore generale dell'ente dottor domenico appaterra il quale ha illustrato il provvedimento e fornito i chiaramenti richiesti che la dottoressa elvira costantino dirigente del dipartimento territorio e tutela dell'ambiente che ha confermato il parere favorevole del dipartimento al provvedimento il provvedimento si compone della delibera di giunta regionale delle relazioni istruttorie dei dipartimenti territorio e tutela dell'ambiente economia e finanze del parere del revisore unico dei conti dell'agenzia nonché di quello del comitato di indirizzo il revisore unico dei conti dell'ente con verbale numero 2 del 7 3 22 ha attestato che nel prospetto di quantificazione del limite di spesa per l'esercizio 2022 sono stati rispettati i limiti di contenimento della spesa nell'osservanza dell'articolo 6 della legge regionale 43 2016 il revisore ha verificato che il bilancio di previsione 2020 2024 soddisfa i parametri i parametri di equilibrio di bilancio così come previsto dal decreto legislativo 118 2011 l'organo di controllo richiama l'attenzione degli organi dell'agenzia sulla tardiva predisposizione del bilancio dopo il termine il 31 dicembre dell'esercizio precedente evidenziando che il suddetto ritardo non consente all'agenzia né un'apprezzabile esecuzione del programma delle attività nella produzione dei servizi in misura adeguata alle esigenze del territorio calabrese il revisore rileva altresì che l'eccessiva consistenza media di cassa e indice di scarsa capacità di spesa con implicito rallentamento della realizzazione dei programmi difficoltà di realizzare gli obiettivi conclusivamente il revisore unico dei conti con verbale numero 3 del 7 4 2022 attesta la corrispondenza alle provisioni di bilancio 22 24 alle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia rileva la coerenza interna la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio ed esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dell'arpacal e dai relativi allegati il comitato di indirizzo con verbale numero 3 del 26 4 22 ha espresso parere positivo per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 il dipartimento territorio e tutela dell'ambiente nell'istruttore di competenza rileva il mancato rispetto dei termini indicati dalla legge regionale 8 2002 con la presentazione dei documenti contabili al dipartimento competente per materia il dipartimento evidenzia che con deliberazione numero 88 del 10 3 2022 è stato assunto il provvedimento di quello articolo 6 comma 6 della legge regionale 43 2016 relativo alle misure di contenimento delle spese ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettere a e b della legge regionale numero 43 2016 asseverate da parte dell'organo di revisione per le ulteriori misure di contenimento della spesa già prevista dalle esposizioni vigenti il dipartimento evidenti evidenzia che al punto 7 dell'istruttore alle ulteriori previsioni sul capitolo di spesa u 12 01 01 71 sono state autorizzate sensi alla legge regionale numero 43 2016 con provvedimento della giunta regionale numero 284 del 2021 al punto 10 dell'istruttore rimangono in capo all'entere responsabilità sull'inerenza della spesa rispetto all'obbligo normativo conclusione dell'istruttore effettuata il dipartimento esprime parere favorevole al bilancio di previsione 22 24 dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della regione calabria il dipartimento economia e finanze nell'istruttore di competenza evidenza che il raggiungimento degli equilibri di bilancio viene ottenuto anche attraverso l'applicazione della parte vincolata al risultato di amministrazione presunto per un totale di 843.871,97 il dipartimento ha dunque verificato con esito positivo la corretta applicazione da parte dell'ente della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto in osseggio al principio contabile applicata alla contabilità finanziaria punto 9.2 dell'allegato 4 barra 2 del decreto legislativo numero 118 2011 che prevede non è conforme ai precetti dell'articolo 81 quarto coma della costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente tuttavia in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione con successive variazioni di bilancio è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolate dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato altresì il dipartimento ha riscontrato la suddetta applicazione rientra nei limiti di cui alle disposizioni introdotte all'articolo 1 co coma 897 della legge numero 145 del 2018 per quanto riguarda il fondo crediti dubbi esigibilità il dipartimento raccomanda raccomanda lente di provvedere ad implementare gli importi del fondo per come indicato negli istruttori in occasione della prima variazione di bilancio di previsione 2020 2024 di provvedere nel corso dell'esercizio 2022 ad aggiornare le previsioni di spesa di cui al fondo crediti dubbi esigibilità verificando nel seguito dell'attività di gestione la congruità provvedendo ad una sistematica analisi dello stesso sulla base di eventuali variazioni apportate agli stanziamenti di competenza relativi capitoli in entra di entrata nonché con riferimento all'effettivo andamento degli incassi per quanto concerne il fondo pluriannale vincolato il dipartimento e il dipartimento evidenzia che lo stesso risulta correttamente appostato tuttavia il dipartimento economia e finanze raccomanda all'agenzia a seguito dell'approvazione della procedura di raccertamento residui 2021 di provvedere alle dovute variazioni di bilancio apportando i conseguenti correttivi al fondo pluriannale vincolato per la parte corrente e capitale di cui alla proposta di bilancio di previsione 22 24 nel rispetto il principio contabile applicato dalla competenza finanziaria potenziata a conclusione dell'attività istruttoria il dipartimento economia e finanze ritiene possibile procedere da parte dell'aggiunta regionale alla trasmissione della proposta di bilancio di previsione 2022 2024 dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente al consiglio regionale senza dell'articolo 57 comma 3 della legge regionale 4 febbraio 2002 numero 8 grazie presidente grazie collega montuoro iniziamo la discussione prego consigliera lecci grazie signor presidente proverò a concentrare gli interventi quindi non ruberò molto tempo parto dal provvedimento numero 2 quello relativo al fan posso già dichiarare che voterò favorevolmente in quanto l'attività prevista dall'assessorato all'agricoltura in questo caso dal dipartimento condivisa quindi anche dai flag su iniziativa dell'assessore gallo vista sicuramente in maniera favorevole perché esposta delle risorse di bilancio mettendole su due punti che in questo momento sono prioritari per il settore della pesca e quindi il ristoro per quanto riguarda gli arresto temporaneo dei dei pescatori quindi non poter uscire in mare per cause di forza maggiore quindi il il covip e l'aumento carburante passa da 500 mila euro a 2 milioni di euro ed è visto da me positivamente come positivamente anche l'aumento messo in bilancio nella posta relativa alla protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini che passa da 3 milioni e 700 mila euro a 6 milioni e 600 mila euro credo che il patrimonio marino vada sempre più tutelato in questo caso si tratta per gran parte dei massi che vengono poi distribuiti all'interno delle acque nei pressi della costa per evitare la pesca allo strascico che sapete danneggi in maniera spesso irreparabile i nostri fondali relativamente al punto invece numero 4 poi chiederò un chiarimento da parte dell'assessore orso marzo perché si vedono spostare dalle poste in bilancio 20 milioni dal da ciò che attiene il trasporto stradale che non mi sembra che in calabria poi sia un'eccellenza per metterli sul turismo e l'ospitalità quindi immagino che ci saranno degli avvisi per potenziare implementare il settore turistico e la competitività delle imprese sono anche in maniera intellettualmente onesta pronto a votarla favorevolmente se ci potesse anticipare spiegare nel dettaglio di cosa si tratta perché comunque togliere dei fondi dal trasporto stradale in una regione come la nostra è una movimentazione importante quindi almeno capire in che cosa verranno utilizzate queste risorse ciò che però mi preoccupa più di ogni altro punto è quello numero 6 e voglio dire subito che voglio esentare da ogni responsabilità l'assessore minasi che oggi guida appunto le politiche sociali perché non poteva fare nulla su questo punto però non posso non evidenziare che la calabria anche questa volta distrae dei fondi che il porro e che la programmazione aveva destinato alle politiche sociali e alla riqualificazione degli edifici scolastici per poter effettuare degli adeguamenti e dei miglioramenti sismici quindi è un fallimento della nostra regione che non spende circa 6 milioni e mezzo per adeguare migliorare dal punto di vista sismico le scuole dove studiano i nostri ragazzi e soprattutto storna cinque milioni di euro per l'adeguamento infrastrutturale per il miglioramento dell'abitare a favore di persone con disabilità e gravi limitazioni nell'autonomia la regione calabria priverà di cinque milioni di euro i propri utenti che hanno una disabilità che non potranno adeguare le loro abitazioni e questo mi sembra che non sia accettabile se è vero che la sanità come diceva il presidente occhiuto in una situazione drammatica è altrettanto vero che ancora c'è da fare tanto sui temi delle politiche sociali e della disabilità prendo atto che qualcosa si muove prendo con favore anche i nuovi tecnici che sono inviati presso gli uffici degli ambiti dei comuni li sto vedendo in diversi comuni stanno dando una mano però siamo in ritardo questo è un grido d'allarme cari colleghi che mandano e che mando in maniera chiara i nostri comuni i nostri comuni non hanno capacità progettuale per la spesa prevista per gli adeguamenti sismici perché gli uffici tecnici sono sguarniti di personale e non hanno personale per le politiche sociali e quindi è giusto purtroppo a malincuore evidenziare che queste risorse purtroppo verranno perse per questi interventi utilizzate per altro e concludo signor presidente col punto numero 7 quello relativo a ralla all'arpa cal nel quale un decreto del presidente della giunta regionale del 2002 stabilisce che l'arpa cal venga finanziata attraverso il fondo sanitario regionale in una percentuale non inferiore all'uno per cento peccato però che dal 2010 ad oggi la percentuale di questo fondo che è stato trasferito all'arpa cal non ha mai superato lo 0 5 per cento quindi dal 2010 ogni colore politico non è una polemica se noi colleghi graziano mi ci siamo in campagna elettorale non sono in campagna elettorale poi leggiamo però i provvedimenti del presidente occhiuto di emergenza che dice che i proprietari di alberghi stabilimenti balneari devono pure effettuare il campionamento delle acque le analisi che gli autospurghi non possono girare la notte e questo è il risultato purtroppo di una deficit grande che vive l'arpa cal oggi in termini di risorse economiche e anche in termini di risorse umane e purtroppo i provvedimenti che oggi questa giunta sta prendendo non sono quelli di potenziare gli uffici pubblici e gli enti regionali come l'arpa cal con assunzioni di personale con risorse ma affidare all'esterno quelle che sono delle attività che dovrebbe effettuare la nostra agenzia regionale spendendo risorse verso i privati piuttosto che verso un ente pubblico e ancora di più paradossalmente trasferendo ai privati e anche chi ha uno stabilimento balneare un hotel un'attività turistico ricettiva di effettuare le analisi dell'acqua del terreno mi sembra paradossale quindi il mio augurio è che nei prossimi bilanci nella provazione prossimi bilanci dell'arpa cal si abbia il coraggio di poter aumentare la dotazione finanziaria per questa azienda regionale che il cuore pulsante deve essere il cuore pulsante a tutela della salute dei calabresi perché effettua attività di monitoraggio e soprattutto di prevenzione che se dovesse essere effettuata per come previsto alleggerirebbe anche il carico sanitario presso i nostri ospedali presso le strutture sanitarie perché effettuerebbe la prevenzione che purtroppo oggi non viene effettuata per come si potrebbe grazie signor presidente grazie collega lecci no giusto per chiarire che comunque l'arpa calento sul fondo il finanziamento grava sul fondo sanitario non sul bilancio della regione grava sul fondo sanità giusto no signor presidente le è sfuggito ma l'ho detto e registra l'ho detto chiaramente ho detto l'uno per ce l'ho letto sul bilancio ho letto il passaggio va bene ha chiesto di intervenire collega lo schiavo prego sì presidente diciamo è complicata fare una discussione politica su dei provvedimenti amministrativi molto tecnici e quindi cerco di fare un ragionamento che ha però un minimo denominatore comune a tutti i provvedimenti che noi stiamo approvando e il denominatore comune è questo che noi modifichiamo e spostiamo poi entreremo anche nel merito dei singoli provvedimenti spostiamo risorse da da un'asse a un altro molto spesso perché c'è un incapacità di spesa da parte della regione calabria nei tempi prefissati delle risorse assegnate quindi proprio per evitare la perdita di alcune risorse noi diamo e poi diciamo non in corso d'opera modifichiamo e spostiamo risorse ad altre priorità ad altri capitoli questa è una linea comune che noi abbiamo visto ma soprattutto per il por mi preoccupa molto diceva bene il consigliere alecci che mi ha preceduto noi abbiamo sostanzialmente sul provvedimento amministrativo numero 70 barra 12 il provvedimento su cui già io annuncio il voto contrario del nostro gruppo uno spostamento delle e quindi una diminuzione delle risorse dell'asse 9 dell'asse 11 che sono proprio le risorse per l'inclusione sociale l'inclusione e il sociale per 5 milioni di euro e l'istruzione nella formazione anche qui noi dimostriamo ancora una volta che proprio sull'inclusione sul capitale umano sull'istruzione la regione calabria non riesce a spendere le proprie risorse un'incapacità di spesa e questo di fronte alla nuova programmazione non è solo questo che mi preoccupa ma di fronte alla nuova programmazione 2021 e 2027 dove moltissime risorse sono destinate nuovamente a questo capitolo ancora qui cosa cambierà ancora qui ci troveremo di fronte alla stessa pagina e cioè l'incapacità di spendere le ingenti risorse in questi ambiti e quindi politicamente io non posso non sottolineare questo come noi prendiamo da questi capitoli per spostare ad altri e io non so ancora quale saranno le novità e novità non ce ne sono perché i comuni non hanno le risorse umane e anche tecniche per mettere a terra i progetti sulla programmazione comunitaria quindi uno stesso film io non so quale saranno le novità che noi avremo per scongiurare di ritrovarci anche col nuovo porno a fare continue e sostanziali riprogrammazioni finanziarie noi troveremo nuovamente lo stesso film che stiamo vedendo in queste in queste rimodulazioni è ovvio che nessuno può essere contro i pescatori o contro lo spostamento di risorse per alleviare dei disagi di intere categorie produttive in questo caso i pescatori che hanno subito danni per l'emergenza covid ma anche qui io vorrei sottolineare da dove riprendiamo i soldi li prendiamo dalle misure per la promozione del capitale umano e la creazione di posti di lavoro e dialogo sociale per l'avviamento dei giovani pescatori attenzione anche qui noi stiamo una coperta corta la prendiamo da un lato per spostarla un altro ma abbiamo l'incapacità nuovamente di spesa e quindi di fronte a questo io annuncio la stensione che una stensione politica tranne la contrarietà proprio specifica sul punto che diceva il consigliere alecci vedo diciamo delle cose che oggettivamente sono condivisibili l'aumento la rimodulazione delle politiche attive del lavoro per un milione e sette in più delle borse di studio come si può essere contrario a questi provvedimenti ma anche qui diciamo dobbiamo sottolineare una cosa e lo voglio dire con estrema chiarezza noi possiamo fare tutte le rimodulazioni possibili ma se poi c'è la lentezza dei dipartimenti regionali nella predisposizione dei bandi nella pubblicazione delle graduatorie che avvengono con mesi di ritardo se non con anni di ritardo allora sinceramente di cosa stiamo discutendo noi dobbiamo porci il tema di come organizzare gli uffici per l'attuazione non solo della nuova programmazione regionale ma anche per i fondi del pnr con con target e obiettivi ancora più restringenti nei tempi per il loro raggiungimento quindi concludo il mio intervento presidente sottolineando le preoccupazioni della macchina che ancora non è in moto e non è in funzione con i tempi e gli obiettivi che noi ci siamo previstati per la nuova programmazione grazie presidente grazie collega lo schiavo ha chiesto intervenire il collega laghi poi bruni grazie presidente io vorrei intervenire sostanzialmente sul punto 3 all'ordine del giorno cioè sul provvedimento amministrativo 71 dodicesima che ha per me un particolare interesse in quanto riguarda gli interventi di bonifica dei siti inquinati messa in sicurezza il ripristino ambientale di scariche e aree degrado siti disco disco di stoccaggio è un punto a mio parere particolarmente importante perché finalmente all'interno di questo punto come io la pensi per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti è abbastanza noto discariche inceneritori sono la negazione di una buona politica di smaltimento dei rifiuti quindi io in questo in questo pack trovo la positività importante che finalmente si parla peraltro non da adesso della tombatura di discariche quindi nelle azioni sono esplicitamente previste la sistematizzazione finale del corpo della discarica ai sensi del decreto legislativo 36 2003 quella delle discariche prevedendo il pacchetto di chiusura definitivo capping quindi questo per assicurare la chiusura del ciclo di vita delle discariche scongiurare estremamente importante condizioni di possibile inquinamento per le matrici ambientali questo obiettivo è fondamentale perché finalmente si parla e nello specifico di parla delle delle discariche esaurite cioè piene che non hanno più capacità di abbanco di castrovillari e cassano allo ionio queste due discariche sono attualmente mentre noi parliamo un una fonte di inquinamento ambientale in quanto non essendo tombate in rapporto alle precipitazioni atmosferiche producono percolato percolato che quindi magari attraverso le fissurazioni della vasca in cui stanno i rifiuti vanno a inquinare i terreni circostanti e se ce ne sono anche diciamo le acque le acque che si trovano sotto e vicino la discarica quindi introducendo un elemento di grave rischio per la salute delle popolazioni e per anche per le coltivazioni che lì si trovano l'altro elemento è che queste discariche non tombate sono una una fonte di spesa per le amministrazioni perché per esempio la discarica di castrovillari mediamente richiede per lo smaltimento del percolato circa 40 mila euro l'anno e tutto questo perché non sono né quella di castrovillari né quella di cassano non sono state tombate come previsto dal provvedimento legislativo quindi io sono favorevole cioè favorevolissimo al rinvio cioè alla rimodulazione del pac che consente di non avere più di modificare la deadline la linea quindi temporale che farebbe perdere questi soldi e non avere un intervento diretto però io vorrei sottolineare e mi rifaccio a quello che ha detto prima il collega lo schiavo come questo diciamo questo fondo parliamo di 3 milioni di euro quindi noi rischiamo di perdere 3 milioni di euro che sono stati stanziati ormai due anni fa e mi rifaccio a quello che dice il collega lo schiavo per quanto riguarda la non sicura efficienza dei dipartimenti diciamo dei dipartimenti regionali in questo caso di del dipartimento all'ambiente in quanto questa diciamo questa somma di 3 milioni di euro è stata stanziata due anni fa e la regione ha fatto un una convenzione da un anno e mezzo da aprile non non quel da aprile dell'anno scorso quindi praticamente è passato più di un anno senza che nulla sia stato attivato del progetto collegato al pac laddove la regione ha una potestà e un obbligo di controllo e di intervento qui non c'è stato né controllo né intervento allora noi dobbiamo da una parte secondo me avere maggiore agio temporale per poter arrivare alla tombatura di queste discariche di cui parliamo di castrovillare di cassano ioni però dobbiamo svolgere un'azione di stimolo perché chi deve organizzare questa tombatura forse dopo un anno e mezzo di riposo preventivo finalmente via 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 seguito all'indicazione contenuta nel pac grazie grazie la parola alla consigliera bruni prego grazie presidente anch'io farò un intervento cumulativo di riflessione su queste proposte amministrative su queste cosiddette ppa che sono come tutti ormai abbiamo imparato a sapere a conoscere delle diciamo necessarie riqualificazioni e rimodulazione dei bilanci perché appunto questi fondi non spesi possano essere maggiormente messi a frutto il problema che però mi pongo è in questo ho visto negli interventi che mi hanno preceduto che non sono sola a fare queste considerazioni e che questi soldi che vengono spostati vengono presi da argomenti estremamente importanti questo ognuno di queste proposte legislative mi riferisco in particolare alla settanta che è quella appunto che sposta dei fondi importantissimi dalla disabilità e dal potenziamento e miglioramento della qualità degli edifici scolastici ad altro e mi riferisco però ancora a tutta una serie di altre ppa che da un punto di vista proprio metodologico prendono i fondi che non sono spesi e li mettono da un'altra parte ma quindi la domanda è esattamente questa ma perché questi fondi non sono spesi o meglio ancora perché i dipartimenti e quindi la regione non esegue e non sviluppa il suo ruolo di esecuzione di controllo soprattutto su queste tematiche perché sui soggetti attuatori soprattutto di questi di questi fondi quindi questo è un tema che rimanda come giustamente faceva notare il collega lo schiavo alla pubblica amministrazione al management di queste nostre regioni che nei dipartimenti cui dipartimenti hanno veramente delle lacune importanti perché è sicuramente l'organizzazione amministrativa che non funziona al di là di quelle che sono poi le volontà politiche vorrei fare notare fermo restando la espressione di positività chiaramente sulla provvedimento amministrativo che riguarda il programma operativo del feamp e quindi sulle sul discorso esattamente di protezione e riallocazione delle risorse sulle 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 acque e quindi sui pescatori in maniera poi a scendere mi interessa come dire far notare le proposte legislative settantuno e settantatré la settantuno del piano azione equazione che appunto cui faceva riferimento prima il collega laghi in cui da un lato si mette in sicurezza bonifica di setti di siti inquinati dall'altro e quindi qualche discarica si chiude ma dall'altro praticamente si apre poi invece la discarica del comune di dinami allora qui intanto dobbiamo assolutamente considerare che non siamo ancora nella spirito che l'europa ci sta chiedendo in maniera importante perché l'europa ci dà dei dettami chiari molto precisi che riguardano appunto gli obiettivi di avere il 60 per cento entro il 2030 di riciclaggio 65 per cento entro il 2035 appunto per il 55 per cento di rifiuti urbani riduzione di smaltimento almeno di discesa del 10 per cento e così via e quindi qui non non siamo in questa direzione ma soprattutto questa ppa 71 in cui rimodulo i soldi e quindi alcune le chiudo le discariche altre le apro nuove va in controtendenza con la 73 stessa che invece sembra essere in linea questa 73 perché parla di economia circolare e ci dà comunque una speranza in una qualche maniera di poter andare lì dove l'europa ci sta indirizzando ribadisco la mia il mio dissenso sulla proposta di provvedimento amministrativo 70 perché la disabilità la necessità e la necessità delle famiglie e ancora la necessità di rimettere in sesso le scuole non può essere come dire differita e soprattutto non può essere a meno che non sia stata affrontata e non venga affrontata con altre economie questa questo slittamento di soldi non mi trova assolutamente d'accordo così come non mi trova d'accordo il la ppa numero 74 in cui le politiche del lavoro vengono però come dire spostate di continuo anche qui rispetto ad emergenze del momento senza che ci sia una reale programmazione ecco quindi il mio richiamo e i miei commenti vanno letti esattamente in una direzione di una necessità di una migliore programmazione e soprattutto di un monitoraggio e di una necessità che gli uffici e i dipartimenti regionali esercitano il loro ruolo che ci auguriamo nel futuro poter essere qualificato grazie ha chiesto di intervenire il collega denisi prego una sera io intervengo per perché ormai non è la prima discussione che si affronta su questo tema sulla fa sulla questione della rimodulazione dei fondi della programmazione comunitaria 2014 2020 praticamente per su ogni in ogni consiglio regionale ci troviamo ad affrontare questa discussione dove io penso che la necessità di dover dire qualcosa di intervenire di parlare porta sicuramente il consigliere a una mancanza di riflessione è una mancanza di giudizio noi principalmente stiamo qui a rimodulare questo piano la giunta e dipartimenti direttori generali si impegnano a rimorare il piano 2014 2020 che concluderà a dicembre del 2022 lo stiamo facendo perché chi ha programmato questo piano nel 2014 2015 e 2000 praticamente lo ha programmato male ha previsto una un piano finanziario un piano di investimenti che non ha raggiunto il suo obiettivo a distanza di otto anni significa che qualcosa non è stata fatta non è stata programmata bene e nel corso degli anni che non vuol dire negli ultimi tre mesi cinque mesi nel corso di questi otto anni chi aveva il dovere di fare questo controllo di vedere l'attuazione lo svolgimento il cronogramma dei piani di investimento non lo ha fatto ci troviamo a distanza di pochi mesi dalla scadenza della programmazione a dover rimodulare questi piani quindi gli uffici fanno bene io mi sono rispettato un plauso per gli uffici nel senso che quando l'addora vedono e l'addora della dova fanno una constatazione che non è possibile concludere gli investimenti nel tempo previsto si adoperano per vedere quali sono gli assi che possono nei tempi assagnati stabiliti spendere questi soldi se noi pensiamo che spostare 20 milioni dalla infrastrutture stradali da opere ben definite individuate nel corso degli anni se noi spostiamo questi 20 milioni alla competitività delle imprese turistiche questo è un gesto apprezzabile un atto di responsabilità perché stiamo dicendo piuttosto che arrivare a fine anno e perdere 20 milioni perché da qui a fine anno non avremo assunto un impegno giuridico vincolante per 20 milioni appaltando quei lavori siccome per fine anno questo non riusciamo a raggiungerlo spostiamoli diamo queste risorse pur di non perdere alle imprese turistiche della regione calabria in modo tale da poter beneficiare sicuramente in termini positivi perché queste imprese che hanno diritto che sono già nelle gradatorie e che stanno hanno previsto dei piani di investimento concreti e realizzabili entro fine anno possiamo destinare e lasciare queste risorse in calabria e allora io mi dico senza fare demagogia e strumentalizzazioni questo è un plauso che va dato così come destinare delle risorse che sono spendibili celermente per le brosse di studio degli studenti sono delle azioni mirabili e ammirevoli perché quindi dobbiamo scandalizzarci piuttosto dobbiamo scandalizzarci per chi è seduto e per chi è fatto parte di quella parte politica per quelli durante questi anni come mai non è stato fatto nulla come mai abbiamo monitorato nel corso degli anni che questi investimenti questi assi non procedevano con la spesa e siamo rimasti fermi queste sono delle responsabilità che sono da principalmente da ricercare in chi ha fatto la programmazione che ha sbagliato in chi non ha monitorato nel corso dei successivi cinque anni nel centro-sinistra ha governato questa regione per cinque anni consecutivi nel pieno dei poteri e che non ha non ha dato atto non ha dato seguito al monitoraggio il controllo della spesa e se c'erano delle variazioni da fare nel corso degli anni dovevano farsi essere fatte per tempo per cui non è giusto di fare solo demagogia in questo consiglio è giusto dare atto quando si compiono delle azioni positive che si stanno facendo le attività possibili in tutte queste azioni è proprio questo ma io penso che ora che stiamo partendo partiremo con la nuova programmazione dobbiamo essere accorti e attenti a tutto quello che faremo io penso che la strada non sarà appaltata e saranno stornati i fondi perché nel corso di questi anni chi ha progettato lente locale o la regione stessa chi doveva rilasciare i pareri chi ha seguito liter non ha fatto il proprio dovere e soprattutto in questa regione ormai è prassi comune consolidata che si è costituito e vive sempre il partito del no c'è un partito che stabilmente si oppone a tutto e che ci porta a distanza di anni a rimpegnare riprogrammare le risorse perché queste risorse non sono spese quindi noi nel corso di questi anni non vorremmo assi nei prossimi anni non vorremmo assistere a questo a un continuo comitato del no questo partito sotterraneo che fa comodo a questa e quella parte politica a seconda delle condizioni secondo del del gioco delle parti dove ognuno di noi pur di assumere o di avere una visibilità politica di uscire dall'anonimato sposiamo delle battaglie inutili delle battaglie inconcludenti che poi alla fine ci portano a questi risultati che le infrastrutture non le facciamo che la nostra regione se continueremo così dovrà sempre rivolgersi e che essere in continua emergenza per quanto riguarda il piano dei rifiuti il piano di gestione delle acque saremo sempre in questa continua emergenza inseguendo sempre questa mancata programmazione mancato attenzione della programmazione perché non seguiremo mai programmi perché se noi di volta in volta se inseguiamo il comitato di turno saremo sempre qui fermi fermi sempre lo stesso punto e questo vale soprattutto e penso anche per il prossimo punto per quanto riguarda il piano di gestione dei rifiuti se non noi non assumiamo le nostre responsabilità non abbiamo il coraggio di decidere qual è la strategia e qual è la programmazione poi una volta deciso di attuarla saremo sempre qui ad inseguire il riprogrammazione le rimodulazioni io penso che con il presidente occhiuto tra cinque anni non saremo qui a rimodulare i piani perché gli investimenti saranno portati a conclusione perché c'è la determinazione la coscienza che bisogna fare qualcosa per cambiare questa terra grazie ha chiesto di intervenire la consigliera straface prego grazie presidente al punto i vari punti all'ordine del giorno intanto il dovere di ringraziare il presidente montuoro per l'ottimo lavoro portato avanti con la commissione è stato detto dal consigliere denisi che mi ha preceduto io farei veramente un plauso ai dipartimenti che hanno lavorato affinché attraverso la rimodulazione delle varie risorse finanziarie si è fatto in modo che queste risorse venissero e avessero soprattutto una destinazione verso alcune temi ed indirizzi di strategie di programmazione territoriale importanti si è parlato quello di destinare alla competitività delle imprese turistiche ma la cosa che vorrei sottolineare è stato detto dal consigliere laghi ma anche dalla consigliere bruni anticipando quello che è il punto successivo per quanto riguarda l'adeguamento del piano regionale dei rifiuti intanto al punto numero tre ci ritroviamo la rimodulazione dei fonti destinati finalmente dico ad una politica ambientale importante che prevede la bonifica di siti e la chiusura delle discariche vede consigliere bruni nel punto che andremo a trattare successivamente per quanto riguarda l'adeguamento del piano regionale dei rifiuti si va proprio verso la direzione della chiusura totale delle discariche perché purtroppo abbiamo avuto un piano regionale dei rifiuti che risale al 2006 che ha dimostrato la sua totale inefficienza ma è un punto su cui andremo a discutere successivamente c'è solitamente l'abitudine ecco di fare degli interventi senza andare ad approfondire quelli che sono i punti che vengono posti all'ordine del giorno perché quando parliamo ad esempio della politica ambientale e della bonifica di alcuni siti mi dispiace che non c'è il consigliere laghi ad esempio ci ritroviamo la chiusura della discarica di castrovillari dove l'intervento è già in corso di programmazione oppure quella della discarica di cassano allo ionio dove già l'intervento è stato avviato come ad esempio i 430 mila euro che sono destinati ai siti di stoccaggio di san batello gioia tauro san giovanni in fiore o ai 180 mila euro per quanto riguarda la convenzione che è stata già sottoscritta con il comune di siderno e che riguarda anche il ripristino di aree urbane e degradate come tantissimi altri interventi quindi una rimodulazione che ritengo che vada verso la direzione e questo grazie sicuramente ai dipartimenti che ci hanno lavorato ma in particolar modo grazie ad una politica e ad un'amministrazione regionale di centrodestra che oggi si assume la responsabilità istituzionale di non far perdere queste risorse finanziarie ma dare una destinazione che possa avere una ricaduta positiva sulla nostra terra di calabria grazie grazie collega straface conclude il collega montuoro prego grazie presidente intanto ringrazio i colleghi denisi e straface per l'importante contributo che hanno portato e per le puntuali precisazioni che hanno effettuato in merito a un qualcosa presidente che siamo costretti ogni volta ogni qual volta si parla di rimodulazioni a ribadire le stesse cose però forse emerge anche un dato politico importante perché forse c'è una parte della minoranza che sta prendendo le distanze da quell'amministrazione di centrosinistra che ha programmato queste risorse che oggi non sono ancora ferme lì non riusciamo a spendere e che in maniera puntuale precisa sia i dipartimenti sia l'aggiunta vanno a riprogrammare per cercare di evitare quello di cui si parla da anni cioè una calabria che non riesce ad essere competitivo una calabria che non riesce a spendere le risorse che ha a disposizione una calabria che tiene ferme lì le risorse giusto per non prendersi la responsabilità di andare a riprogrammarle a cercare di metterle di metterle a terra guardate non c'è nessun tipo di distrazione che si sta facendo nei confronti di di quelle che sono le rimodulazioni perché questo è il termine corretto da adottare quando si parla di tali provvedimenti ma bensì dobbiamo intanto fare i conti con quelle che sono le scadenze di legge che dove laddove non ci sono obbligazione giuridicamente vincolanti assunte si deve procedere alla rimodulazione altrimenti saranno risorse che andranno perse non c'è nessuna intenzione di penalizzare un settore piuttosto che un altro ma bensì si cerca di individuare quelli che sono gli assi più performanti che ci permettono di mettere a terra nell'immediato le risorse altrimenti staremmo qui a parlare sempre delle stesse cose sempre di una calabria che non riesce a spendere le risorse che l'europa li mette a disposizione e in questo visto che parlavamo del lavoro fatto anche dal dipartimento presidente e lo ricordo a me stesso che nel dicembre 2021 è stato dato concreto avvio all'attuazione dell'action plan per cercare di mettere in sicurezza il por e cercare di individuare quelli che sono gli assi più performanti per cercare di spendere quelle risorse che sono ferme che in questo momento non possono trovare obbligazioni giuridicamente vincolanti in quelli che sono i progetti da poi mettere a terra il consigliere lo schiavo parlava della del fan della piccola pesca costiera dei giovani pescatori qua non si tratta di aver tolto delle risorse da questo da questa da questa azione perché non si ha l'attenzione verso questa tematica ma bensì lo ricorderà bene in commissione perché lui fa parte anche della commissione programmazione europea che ci sono stati due bandi che sono andati entrambi deserti e che pertanto sarebbe stato inutile continuare a mantenere delle risorse su questa su questa azione per il resto io penso che si sta facendo un gran lavoro per cercare di veramente spendere bene sul territorio tutte quelle risorse che ci ha messo a disposizione d'europa e sono sicuro che laddove oggi il consigliere alecci toccava delle tematiche importanti quelle della della ristrutturazione l'efficientamento energetico delle scuole quella sulle abitazioni dei disabili è ovvio che noi avremmo delle ingentissime risorse sulla nuova programmazione europea ed è ovvio che una programmazione seria reale concreta bisogna attuare tutte quelle quelle bisogna essere in grado di programmarle in quella che sarà la nuova la nuova dotazione finanziaria del nuovo por per non cercare di perdere per mettere realmente sul territorio delle risorse sul resto penso che va veramente fatto un plauso a tutti i dipartimenti che stanno svolgendo veramente un grandissimo lavoro da questo punto di vista e quindi mi sento soddisfatto di tutti questi provvedimenti che oggi andremo ad approvare proprio perché mirano presidente alla concreta attuazione di questa fine programmazione e per cercare veramente di non perdere quelle risorse importanti che tanto bene possono fare al nostro territorio grazie grazie collega montuoro passiamo all'esame votazione dei provvedimenti singolarmente allora il secondo punto pongo in votazione il secondo punto posto all'ordine del giorno riguarda la proposta di provvedimento amministrativo 69 dodicesima pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso è approvato il provvedimento è approvato il punto 3 che riguarda la proposta di provvedimento amministrativo 71 dodicesima pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso favorevoli contrari astenuti il provvedimento è approvato passiamo al punto 4 provvedimento amministrativo 72 dodicesima iniziativa della giunta regionale pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso favorevoli contrari astenuti il provvedimento è approvato 5 proposto di provvedimento amministrativo 74 dodicesima iniziativa della giunta regionale pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso favorevoli contrari astenuti approvato punto 6 proposta di provvedimento amministrativo 70 dodicesima iniziativa della giunta regionale pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso favorevoli contrari astenuti il provvedimento è approvato punto 7 proposta di provvedimento amministrativo 44 dodicesima pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso favorevoli contrari astenuti il provvedimento è approvato passiamo al punto 8 all'ordine del giorno che riguarda la proposta di legge 53 dodicesima iniziative dei consiglieri laghi e russolo neri crinò denisi graziano loizzo bevacqua bruni lo schiavo tavernise de francesco a leggi fedele cirillo raso recante istituzione del garante regionali dei diritti delle persone con disabilità cedo la parola al relatore consigliere laghi per illustrare il provvedimento prego grazie presidente allora la convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'assemblea generale delle nazioni unite il 13 dicembre 2006 è ratificata dall'italia con la legge 3 marzo 2009 ha individuato nuovi percorsi per riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità adottando tutte le misure normative atte a superare qualunque forma di discriminazione nei loro confronti al fine di garantire che le autorità pubbliche agiscono in conformità alla convenzione stessa ancora prima il consiglio dell'unione europea nella sua raccomandazione 86 379 del 24 luglio 86 concernente l'occupazione delle persone con disabilità nella comunità ha definito un quadro orientativo in cui si elencano alcuni esempi di azione positive intese a promuoverne l'occupazione la formazione e nella sua risoluzione del 17 giugno 99 relativa alle pari opportunità di lavoro per le persone con disabilità ha affermato l'importanza di prestare un'attenzione particolarmente particolare segnatamente all'assunzione e alla permanenza sul posto di lavoro del personale e alla formazione all'apprendimento permanente delle persone con disabilità direttiva 2000 barra 78 del consiglio del 27 novembre 2000 il diritto di uguaglianza e di pari dignità sociale di tutti i cittadini e l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale sono peraltro garantiti dalla nostra costituzione articoli 2 3 e 32 i dati istat dal da parte loro mettono in evidenza che rispetto all'inclusione scolastica nell'anno 2019 2020 il numero di alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane risulta in crescita più 4 mila il 3,6 per cento degli iscritti gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione risultano carenti nel mezzogiorno restringiamo il quadro dove il rapporto alunno assistente pare a 5,5 l'accessibilità per gli alunni con disabilità motoria e scarsa essendo fruibile solo il solo nel 32 per cento delle scuole e ancor più critica appare la percentuale di istituti con disponibilità di ausili per gli alunni con disabilità sensoriale che solo del 2 per cento nell'ambito della popolazione generale del nostro paese su circa 6,9 milioni di persone con oltre 75 anni più di 2,7 milioni hanno difficoltà motorie comorbidità compromissioni di vario genere solo nell'ultimo anno un anziano su dieci ha avuto una grave riduzione dell'autonomia nella regione calabria sono evidenti e persistenti da tempo varie criticità che vanno dalla insufficiente assistenza alle persone con disabilità alla presenza di barriere architettoniche alla inadeguatezza del sistema di trasporto alla carenza di servizi di supporto si stima che le persone con disabilità siano in calabria circa 170 mila da quanto premesso risulta necessario e urgente l'istituzione al pari di altre regioni italiane della figura del garante dei diritti delle persone con disabilità ed anzi innovando rispetto al panorama nazionale la proposta inserisce la previsione della rete regionale per la tutela delle persone con disabilità che rappresenta un'importante forma di collaborazione tra le parti istituzionali interessate a queste tutela a questa tutela il garante dei diritti delle persone con disabilità è una figura super partes svolge promuove l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia dei soggetti interessati favorendone la piena integrazione nella famiglia nella scuola nel lavoro e nella società e ponendo in essere azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori collaboro inoltre con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare la conoscenza della normativa in materia dei relativi strumenti di tutela il garante ha pertanto il ruolo di mediatore istituzionale tra le persone con disabilità e l'amministrazione senza mai sostituirsi ad essa vigilando sull'applicazione delle leggi e sollecitando interventi oltre che segnalando disfunzioni irregolarità scorrettezze e prassi amministrativi anomale ma anche promuovendo iniziative a carattere informativo e culturale il garante regionale dei diritti delle persone con disabilità ed il garante per l'infanzia e l'adolescenza collaborano nelle situazioni di comune interesse coordinando la propria reciproca attività nell'ambito delle rispettive competenze il garante assicura sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità residenti domiciliati anche temporaneamente o aventi stabili dimora sul territorio regionale calabrese vorrei concludere questa mia breve illustrazione sottolineando come questa proposta sia stata sostenuta da tutte le forze politiche in consiglio attraverso la sottoscrizione della stessa da parte di tutti i capi gruppo le commissioni che hanno valutato la proposta affari istituzionali presieduta dall'onorevole luciana de francesco e la commissione bilancio presidute dall'onorevole antonio montuoro hanno avuto parole comportamenti per i quali li ringrazio infine ma non certo da ultimo un caloroso ringraziamento alle associazioni delle persone con disabilità tra cui la fish la fund laia e altre ancora per i loro fondamentali contributi senza i quali il lavoro svolto sarebbe risultato debole e incompleto credo concludendo che questa proposta ove accettata possa rappresentare un elemento di sviluppo civile e nel contempo una tappa importante seppur non certo un punto di arrivo nel faticoso percorso che deve portare al concreto e quotidiano riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità e che la politica regionale possa dare un importante segnale di unità quando sul tappeto ci siano diritti inalienabili e obiettivi condivisibili grazie presidente grazie collega ha chiesto di intervenire la collega de francesco prego grazie presidente colleghi consiglieri assessori i presidenti della giunta la suddetta proposta di legge che è stata licenziata in prima commissione consigliare che mi onoro di presiedere e di cui sono anche firmataria nasce dall'assoluta necessità dell'istituzione di un'autorità garante della disabilità garantisce i diritti delle persone disabili e nasce dalla costatazione di un'anomala situazione estremamente complessa che incontra costantemente ostacoli disfunzioni inadempienze che in base alle norme presenti vengono ancora oggi sistematicamente disattese soprattutto se pensiamo alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici privati aperti al pubblico anche sul diritto al lavoro con frequenza non viene rispettata la quota di riserva obbligatoria prevista dall'articolo 3 della legge 68 del 99 molti sono anche ritardi o le omissioni nei provvedimenti attuativi da parte degli enti preposti per la mancata erogazione dei finanziamenti inoltre la legge quadro numero 104 del 92 si sofferma anche sull'integrazione scolastica individuando una serie di funzioni e di rapporti fra scuole e servizi sanitari strutture trasporti menze materiale tecnologico sussidi didattici strumentazioni speciali per persone che presentino menomazioni di vista di udito e di altre patologie ma tutt'oggi si nota una debole concretezza dove si avverte un mancato ed insufficiente raccordo delle competenze la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti ai disabili non può essere garantita dalla sola possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria anche se essa appare molto attenta soprattutto negli ultimi anni nel far rispettare i diritti sanciti del legislatore è comunque interrogabile l'istituzione di un'autorità di garanzia del tutto autonoma indipendente per vigilare sanzionare comportamenti che comportino lesione di diritti e marginazione ed esclusione sociale e comunque far valere le norme che garantiscono il diritto da considerarsi diritto soggettivo perfetto alla realizzazione del progetto individuale di vita di tutti i cittadini l'istituzione dell'autorità garante nella presente proposta di legge rende obbligatori e cogenti quegli strumenti assolutamente indispensabili per il raggiungimento della piena integrazione che sono gli accordi di programma previsti dall'articolo 14 della legge quadro perché solo con la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari socio assistenziali culturali ricreativi sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati si potrà ottenere un'integrazione di qualità si potrà pervenire a un valido progetto di vita si potrà in conclusione ottenere un miglioramento della qualità della vita delle persone che presentino minorazioni sensoriali fisiche o psichiche il nostro impegno attraverso il nostro impegno bisogna far sì che si diffonda una cultura delle persone con disabilità nella prospettiva costituzionale della piena inclusione sociale della qualità dell'assistenza e delle cure del perseguimento possibile della vita indipendente grazie grazie non ci sono interventi passiamo all'esame votazione del provvedimento articolo 1 chi c'è sono interventi può intervenire a prego collega fedele è un piacere grazie presidente anche se ti ho dovuto così sollecitare un saluto all'aula la proposta odierna la proposta 53 dodicesima si inserisce perfettamente in quella che è l'azione dell'attuale governo regionale c'è infatti una programmazione in atto che tende alla articolazione di interventi che si esprimono poi tanto a livello normativo quanto a livello di strumentazione provvedimenti di politica attiva finalizzati infatti a mettere al centro la pente la persona accanto infatti alla tutela dei cittadini sotto il profilo degli interessi economici e produttivi accanto all'interesse nei confronti della tutela ambientale i diritti personali e delle persone rappresentano un focus centrale dell'agenda regionale attuale bisogna infatti sottolineare come qualche mese addietro approvavamo la legge numero 7 del marzo 2022 contro le discriminazioni nei confronti delle donne nell'ambito del mondo del lavoro e con l'incentivazione di strumenti proprio all'occupazione femminile come di questi giorni anzi di questi ore di queste ore e il bando includi calabria che vuole sottolineare quelle che sono delle risorse concrete tangibili per un milione di euro che la giunta regionale ha destinato proprio nei confronti della incentivazione dello sport come inclusione per le persone con disabilità questo soltanto per sottolineare cosa attraverso due esempi diversi di intervento normativo e di intervento gestionale e strumentale come quello odierno si inserisce in un quadro più ampio della politica regionale tanto la giunta quanto il consiglio si prodigano infatti nella affermazione di diritti fondamentali che tendono sostanzialmente alla promozione dello sviluppo della persona che tendono all'affermazione della dignità individuale e sociale che tendono insomma al raggiungimento di quell'uguaglianza sostanziale che certamente non può essere perseguita se non partendo dalla consapevolezza di quelli che sono le criticità reali che viviamo e che prosaicamente devono essere il nostro punto di partenza soltanto attraverso l'individuazione dei limiti e degli ostacoli che le persone specialmente le persone più fragili le persone in questo caso con disabilità incontrano nel loro cammino quotidiano solo da questa consapevolezza noi possiamo tendere all'adozione di strumenti efficaci pertinenti utili alla rimozione degli stessi il la proposta numero 53 rappresenta la sintesi che è stata fatta anche a livello politico rispetto ad iniziative analoge e da questo punto di vista ci tengo a sottolineare quella che è stata l'atteggiamento di sinergia di concordia di volontà unanime di tutte le forze politiche non è un caso che questa proposta di legge sia stata sottoscritta da tutti i capigruppo rappresentante le varie forze politiche ma soprattutto è stata da subito accolta dall'ufficio di presidenza e insieme alla collega de francesco immediatamente calendarizzata l'iter lo abbiamo condotto con forza lo abbiamo condotto senza pause soprattutto con grande rigore immaginando come tutti i componenti che oggi sono oltretutto e mi preme sottolinearlo sottoscrittori di questa iniziativa legislativa potessero dare il loro contributo momento importante è stata l'audizione delle associazioni rappresentanti le relative categorie attraverso le quali attraverso il cui confronto è stato possibile recepire un contributo importante un contributo che si esprimesse addirittura su delle sfumature linguistiche proprio a sottolineare quella che era la volontà di produrre uno strumento che non fosse uno dei tanti ma che fosse efficace sentito e soprattutto espressione di una sensibilità che tutti abbiamo dimostrato nel portare a termine con una calendarizzazione serrata questa proposta legislativa è importante infatti sottolineare come fondamentalmente attraverso una nuova programmazione la persona venga posta al centro dell'attenzione l'istituzione del garante regionale per i diritti per le il garante regionale per i diritti della disabilità rappresenta infatti una cerniera istituzionale che consente di attivare non soltanto strumenti di azione di contrasto alle discriminazioni ma che anche finalità di promozione da livello informativo a livello culturale si tratta sicuramente di un modo per intervenire al fine di accorciare quelle distanze e di attivare come dicevamo strumenti di tutela che non necessariamente devono essere di carattere giudiziario sappiamo bene come infatti questo potrebbe rappresentare come nella gran parte dei casi rappresenta un ulteriore gravano ulteriore frustrazione di quelli che sono già interessi fragili e delicati oneri economici e lungaggini non possono fare il paio con quella che l'esigenza di una tutela spesso immediata e da questo punto di vista il garante sarà una figura super partes una figura in grado di avere quella capacità di attivazione di intervento di sollecitazione di pungolo nei confronti delle autorità competenti e soprattutto per intavolare quel dialogo costruttivo con le istituzioni a tutti i livelli è importante sottolineare come lo strumento odierno oltre ad essere completo dal punto di vista dell'iter normativo rappresenta questa novità aggiuntiva rispetto al confronto con altre proposte legislative adottate in altre regioni italiane che è proprio quella della rete istituzionale una rete di garanzia che vuole vedere quindi una maggiore capillarità sul territorio una rappresentatività delle istanze da parte degli enti locali e da parte delle asp territoriali proprio per sottolineare l'esigenza di una sinergia maggiore di una maggiore operatività finalizzata a far sì che questo non rappresenti quindi un istituzione isolata ma che sia aperta al confronto e soprattutto al contributo dall'esterno e verso l'esterno con la legge odierna che sicuramente l'assemblea approverà andremo così a recepire e soprattutto concretizzare quella che è una normativa sovranazionale europea nazionale che mancava questa regione e che pertanto certamente oggi andiamo ad approvare così da dare un ulteriore strumento un ulteriore attrezzo che risulta essere fondamentale per la tutela delle disabilità grazie grazie collega fedele passiamo all'esame votazione del provvedimento articolo 1 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 2 è pervenuto l'emendamento protocollo 18 0 89 a 01 a firma del consigliere laghi a cui cedo la parola per l'illustrazione prego grazie presidente l'articolo 2 riguardo l'emendamento riguarda l'articolo 2 comma 1 e 4 con la presenza di proposte emendativa si intende modificare il comma 1 il comma 4 dell'articolo 2 della proposta di legge 53 53 dodicesima istituzione il garante regionale dei diritti delle persone con disabilità l'emendamento reca disposizione di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiore oneri finanziari a valere sul bilancio regionale al comma 1 dell'articolo 2 elezione della proposta di legge la parola assegnati e soppressa per entrambi i periodi al comma 4 dell'articolo 2 il periodo virgola a cura del presidente del consiglio regionale virgola è soppresso al comma 4 dell'articolo 2 la parola 30 e modificata in 60 grazie grazie parere del relatore è ovvio parere della giunta favorevole pongo in votazione all'emendamento favorevoli contrari astenuti l'emendamento è approvato pongo in votazione all'articolo 2 favorevoli contrari astenuti l'articolo 2 è approvato per come emendato articolo 3 sono pervenuti alcuni emendamenti iniziamo con l'emendamento 18 0 89 a 02 a firma del consigliere laghi a cui cedo la parola per l'illustrazione prese presidente con la presente proposta emendativa si intende modificare il comma 2 dell'articolo 3 della proposta di legge numero 53 dodicesima istituzione del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità l'emendamento reca disposizione di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale al comma 2 dell'articolo 3 requisiti della proposta di legge 53 dodicesima il periodo non possono essere candidati e è soppresso grazie grazie parere della giunta favorevole pongo in votazione all'emendamento favorevoli contrari astenuti l'emendamento è approvato passiamo all'emendamento protocollo 16 247 03 a firma del consigliere a lecce qui cedo la parola per l'illustrazione prego emendamento è ritirato signor presidente va bene pongo in votazione l'articolo 3 favorevoli contrari astenuti astenuti l'articolo 3 emendato per come è meno è approvato per come emendato articolo 4 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 5 è pervenuto l'emendamento protocollo 18 0 89 03 a firma del consigliere laghi a cui cedo la parola per l'illustrazione prego grazie presidente con la presente proposta emendativa si intende modificare il comma 4 dell'articolo 5 della proposta di legge 53 dodicesima istituzione il garante regionale dei diritti delle persone con disabilità l'emendamento reca disposizione di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale al comma 4 dell'articolo 5 della proposta di legge 53 dodicesima il periodo il presidente del consiglio regionale è soppresso e sostituito come segue si procede grazie re della giunta favorevole pongo in votazione all'emendamento favorevoli contrari astenuti l'emendamento è approvato pongo in votazione l'articolo 5 favorevoli contrari astenuti l'articolo 5 approvato così come emendato articolo 6 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 7 per voto l'amendamento protocollo 18 0 89 a 04 prima del consigliere laghi e qui cedo la parola per l'illustrazione grazie presidente con la presente proposta emendativa si intende riformulare il comma 2 dell'articolo 7 della proposta di legge 53 dodicesima istituzione il garante regionale dei diritti delle persone con disabilità l'emendamento reca disposizione di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale il comma 2 dell'articolo 7 sostituito come segue alla dotazione organica ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento del garante regionale provvede sentito lo stesso garante regionale l'ufficio di presidenza del consiglio nell'ambito della dotazione organica del consiglio regionale il personale assegnato dipende funzionalmente dal garante regionale e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura grazie grazie a parlare della giunta favorevole pongo in votazione all'emendamento favorevoli contrari astenuti l'emendamenti approvato poco in votazione l'articolo 7 favorevoli contrari astenuti l'articolo 7 approvato per come emendato articolo 8 sono per vento alcuni emendamenti iniziamo con l'emendamento protocollo 16 247 a 02 a firma del consigliere a legge qui cedo la parola per l'illustrazione grazie signor presidente sì la legge prevede nell'articolo 8 che i comuni calabresi quindi 400 comuni calabresi indichino con una delibera di giunta a un proprio rappresentante in seno appunto ai dipendenti dei comuni che abbiano delle esperienze comprovate nelle politiche sociali tutti no molti di noi siamo stati amministratori e sappiamo che nella maggior parte dei comuni da 1000 2000 3000 5000 abitanti non esiste neanche l'ufficio delle politiche sociali che queste funzioni sono demandate all'ambito sociale all'interno del quale esiste l'ufficio di piano che vede un lavoro stretto in sinergia con le asp e anche con il terzo settore la cui presenza è obbligatoria all'interno dell'ufficio di pra di piano come obbligatoria anche la presenza dell'asco se passasse così come l'articolo 8 quindi il garante avrebbe a che fare con 400 comuni molti dei quali non potranno indicare nessuno perché non hanno il personale da indicare quindi molti territori rimarrebbero scoperti l'emendamento invece prevede che sia l'assemblea dei sindaci che solitamente negli ambiti si riunisce mensilmente anche più volte al mese ad indicare in seno all'ufficio di piano il proprio rappresentante il rappresentante quindi dell'ufficio di piano avrebbe piena consapevolezza di quelle che sono di quelli che sono i bisogni le necessità del proprio territorio perché a differenza dei singoli comuni che non possiedono assistenti sociali gli ambiti invece finalmente da qualche anno hanno una rete composta da assistenti sociali educatori psicologi e sociologi che riescono ad intervenire in maniera dettagliata su ogni singolo comune quindi lo spirito dell'emendamento è proprio quello di far sì che il garante per la disabilità abbia 32 referenti che abbiano delle specifiche competenze perché si tratta di referenti dell'ufficio di piano con cui interloquire e che anche dal risultato del piano di zona che un pochino il piano strutturale per quanto attiene le politiche sociali conoscono in maniera dettagliata le esigenze dei territori altri sì lasciando l'articolo 8 per come è attualmente previsto io immagino che di 400 comuni forse una manciata indicherebbero un proprio dipendente e quindi molti territori rimorrebbero scoperti in più andrebbe contro rispetto a quella che la volontà delle linee guida ministeriali che affidano la gestione delle politiche sociali agli ambiti che finalmente la nostra regione anche se con grave ritardo ha attuato proprio pochi anni fa grazie grazie collega lecci io chiedo il parere del relatore perché se questo emendamento venisse approvato eh decadrebbe il suo emendamento quindi se vogliamo prendere atto del eh mi dai il parere su questo emendamento le sarei grato prego sì presidente eh io personalmente sono contrario a questo emendamento perché non è nello spirito della legge nel senso che questa legge è una legge che vuole eh coinvolgere quanto più quanto più e eh comuni quanti più territori possibile non è una legge eh che vuole burocraticizzare il problema delle persone con disabilità vuole dare a a chiunque possa contribuire efficacemente a eh promuovere la eh la tutela del diritto delle persone con disabilità chi ne ha eh diciamo la possibilità non necessariamente attraverso eh l'appartenenza a una istituzione e fra l'altro eh questa legge non esclude assolutamente che anche rappresentanti istituzionali facciano parte e facciano riferimento al garante per fatti specifici per cui eh credo che a mio modo di vedere questo emendamento è restrittivo delle possibilità che invece la eh la legge vuole dare alle persone eh con disabilità. Grazie eh collega Laghi. Io chiedo di intervenire alla giunta per per il parere. È ovvio che questa eh legge è stata condivisa da maggioranza e opposizione quindi cerchiamo di essere eh come dire collaborativi e fare il meglio eh per la legge e per ovviamente per i disabili. Prego Assessore Princi. Eh certo è effettivamente è delicata la la posizione innanzitutto mi fa piacere che sia trasversalmente sostenuta tanto dall'opposizione quanto dalla maggioranza la figura del garante. Eh la giunta eh a cui l'articolo 8,3 da la prerogativa nell'individuazione della figura eh comunque rinuncia a questa prerogativa perché io sono d'accordo io rappresentando ovviamente il volere della giunta che sia necessario coinvolgere quanto più comuni possibili come recita l'emendamento infatti eh leggo testualmente quello che c'è scritto non sfugge infatti come una platea di soggetti che rappresenti in modo così capitale il territorio ragionale risulterebbe estremamente farraginoso stante centocinquanta comuni calabresi con più di tremila abitanti non coinvolgendo le popolazioni ricadenti di circa duecentocinquanta comuni con popolazioni inferiori ai tremila abitanti. Allora la giunta esprime parere favorevole proprio per dare eh la possibilità ai comuni a tutti quanti i comuni con una popolazione inferiore ai tremila abitanti. Va bene quindi prendiamo atto del parere della giunta non ce ne voglia il consigliere laghi e il parere favorevole quindi pongo in votazione le mandamento favorevoli contrari astenuto l'emendamento è approvato passiamo eh sì eh l'emendamento protocollo 16 247 firma signor presidente sì volevo dire che l'approvazione di questo emendamento per cui ringrazio anche il parere della giunta porta quindi alla necessità di un coordinamento formale anche nei commi 4 e 6 va bene quindi sì passiamo all'emendamento protocollo 18 0 89 a 0 5 firma del consigliere laghi che si intende decaduto per l'approvazione dell'emendamento precedente pongo in votazione quindi l'articolo 8 favorevoli contrari astenuti articolotti approvato per come emendato articolo 9 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 10 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 11 favorevoli contrarie astenuti approvato articolo 12 favorevoli contrari astenuti approvato passiamo alla votazione della legge nel suo complesso con richieste di autorizzazione al coordinamento formale favorevoli contrari astenuti il provvedimento è approvato per come emendato con autorizzazione al coordinamento formale passiamo al nono punto posto all'ordine del giorno che riguarda la proposta di legge 58 dodicesima iniziativa dei consiglieri cirillo e raso recante disposizione in materia di vincolo idrogeologico prego consigliere raso per illustrare la proposta grazie presidente la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di semplificare litera autorizzativo delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del reggio decreto numero 3.267 del 1923 e dai sensi del reggio decreto 16 maggio 1926 numero 1126 velocizzando la tempistica delle autorizzazioni individuando delle deleghe all'autorizzazione conferendo delle deleghe ai comuni il tutto al fine di rispondere all'impegno assunto con i con i cittadini di diminuire la burocrazia i passaggi inutili previsti dalla stessa in linea con la politica dell'amministrazione regionale guidata dal nostro presidente roberto occhiuto in funzione dei decreti precedenti gran parte dei territori dei nostri comuni sono stati sottoposti a vincolo idrogeologico tale vincolo è stato posto negli anni venti 1923 con inquadramento del territorio fatto su delle planimetrie una diecimila quando ancora non esisteva la legge urbanistica che è stata fatta nel 1942 e non vi era nessuna pianificazione urbanistica del territorio quindi tale vincolo veniva posto indistintamente su tutte le aree si è previsto con questa normativa di escludere dalle autorizzazioni interventi in cui risulta superfora l'autorizzazione idrogeologica ai sensi del reggio decreto 3.267 1923 che sono i seguenti interventi non ricadenti in aree boscate interventi nelle aree definite come urbanizzato urbanizzabile sia perché tale aree sono già sottoposti a più approfonditi studi che ne autorizzano l'edificazione o la trasformazione urbanistica esempio l'articolo 13 della legge 64 74 parere sugli strumenti urbanistici in fase di in fase di redazione degli strumenti urbanisti sia perché tale aree non sono più agricole anche per tutti gli interventi che non comportano trasformazioni di distensione d'uso del suolo ristrutturazione di mobile o strutture esistenti lavori di manutenzione ordinarie o straordinarie lavori di edilizia libera lavori privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumunità il di cui elenco c dell'allegato 3 del regolamento regionale 4 gennaio 2021 esempio ponteggi provvisori opere fa di facile rimozione muri di recensione senza funzione importante inferiore a 2 metri ed altri interventi al fine di semplificare l'autorizzativo rendendo vicino ai cittadini e più veloci si è previsto di delegare ai comuni interventi minori quali sono delegate ai comuni le funzioni amministrative relativa al rilascio d'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico di cui al reggio decreto per interventi attività che comportino in aria agricole non boscate movimenti di terra non superiore ai 500 metri cubi la documentazione dalle gare quella prevista dalle prescrizioni di massimo di polizia forestale cambia non cambia l'iter soltanto vengono delegate le funzioni comuni per essere più veloci e più vicine ai cittadini lo stesso e relativamente sono delegate ai comuni le funzioni amministrative relativa rilascio d'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico di cui reggio decreto dei piani di taglio di piante forestale russo familiare a uso familiare quindi che sono tagli fino a cento quintali anni per far bisogno familiare di legna specialmente in questo periodo di crisi energetica secondo le indicazioni le modalità e le documentazioni previste nelle prescrizioni di massimo di polizia forestale di cui al comma 1 e del relativo regolamento regionale nella presente proposta è previsto una sanatoria degli interventi di modesta entità che sono quelle degli arti dei come precedente degli articoli precedenti che ricadono degli articoli precedenti conforme alla norma vigente in materia di vincolo d'oggi al momento dell'abuso e alle norme vigente alla data di richiesta e dietro il pagamento di una sanzione ringrazio per la fattiva collaborazione nella stessura di questa proposta gli uffici del ua foreste forestazione l'assessorato e il dipartimento dell'agricoltura grazie presidente grazie collega raso passiamo all'esame votazione del provvedimento articolo 1 favorevoli contro residente mi scusi volevo fare un intervento prego grazie presidente onorevoli colleghi penso che questa legge sia importante perché velocizzare l'iter amministrativo sicuramente per rilascio di autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico coglie il segno però evidenzia diversi limiti anche di natura formale e anche forzature che mi impongono un po di votare in maniera nonno a favore intanto il decreto legislativo 152 relativo al vincolo idrogeologico che è stato diciamo introdotto nel nostro ordinamento con reggio decreto del 23 e ci dice che appunto sono le regioni che si occupano di tutto la nostra regione una regione che ha il 91 per cento di territorio collinare 800 chilometri di coste un territorio montano anche altrettanto compreso in questo 91 per cento solo un 9 per cento di pianura quindi una conformazione geografica veramente molto delicata che viene continuamente indebolita da calamità naturali incendi frane e venti sismici ma anche da fenomeni entropici che sono proprio l'edilizia abusivismo incontrollato e selvaggio e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti desertificazione del territorio erosione costiera insediamenti disorganici la mancanza di un piano regionale di sviluppo e di assetto del territorio ha creato e ha contribuito a creare una cultura di non governo del territorio con una frantumazione della spesa una disorganicità nella realizzazione degli interventi ora quindi queste criticità ci dicono che bisogna intervenire sicuramente al più presto ma nonno come suggerisce questa proposta di legge perché più che velocizzare l'iter amministrativo per la concessione di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico andrebbe velocizzata quella dell'approvazione di un quadro territoriale regionale per evitare esattamente ulteriori squilibri insediativi e migliorare la capacità e la qualità di vita soprattutto dei residenti e questa norma che in esame lo dico con rammarico e preoccupazione va in direzione contraria a questi principi estride con la razza istitutiva del vincolo perché il rilascio dell'autorizzazione faccio riferimento all'articolo 2 di questa proposta sebbene sia chiaro che si tratti di aree già urbanizzate e quindi di edifici già costruiti legittimamente non è solo un passaggio di iter burocratico amministrativo ma anche un'occasione forse per misurare e monitorare il territorio e le sue evoluzioni il rilascio del permesso e l'atto finale di un procedimento che vede impegnati e coinvolge nelle varie fasi tecnici ed esperti del settore non si può non si deve considerarlo solo come un mero passaggio obbligato possibilmente da eliminare come nei casi indicati all'articolo 2 l'altro elemento a nostro giudizio incompatibile con le finalità del vincolo idrogeologico è contenuto nell'articolo 4 di questa pl e che è rubricato come sanatoria di abusi edilizi minori in aree di cui all'articolo 1 perdonatemi a cosa vuol dire edilizio abuso edilizio minore secondo quanto contemplato indicato nel questo articolo corrisponde ad abuso minore solo la movimentazione del terreno che nella sua totalità non superi il volume di 500 metri cubi in tal caso sempre secondo quanto stabilito allo stesso articolo l'abuso che diventa minore per volontà legislativa non perché lo sia può essere sanato mediante richiesta di autorizzazione in sanatoria così come chi abbia eseguito lavori di manutenzione straordinaria su un immobile che insiste in un'area sottoposta a vincolo prima dell'entrata in vigore della presente proposta legislativa come si può credere dunque che una sanatoria perché di questo si tratta possa avere come obiettivo per come scritto nella relazione illustrativa quello della tutela dell'ambiente credo proprio di no è una contraddizione del tutto insanabile come ritaniamo dovrebbero essere tutte quelle azioni che non rispettano le norme di legge di buon senso perché la salvaguardia e la tutela dell'ambiente passano attraverso il nostro comportamento responsabile e fino a quando al cittadino verrà data la possibilità di rimediare tra virgolette i danni che gli abusivamente reca all'ambiente l'ambiente non sarà mai veramente tutelato ed è per questo che io esprimerò comunque un voto contrario grazie collega bruni per tranquillizzarla volevo dire che anche territori come il nostro hanno delegato valle d'aosta l'abruzzo la liguria anche la toscana e l'emilia romagna ci sono interventi laghi prego grazie presidente rapidamente io ho espresso un voto contrario in commissione su questa proposta di legge perché dicevo ho espresso voto contrario in commissione su questa proposta di legge in quanto una delle motivazioni era che non c'era sufficiente personale a livello regionale per controllare le varie le varie pratiche quindi questo era uno dei motivi per cui erano state affidate diciamo c'era stato questo passaggio di delega ai comuni che peraltro da parte loro sono anch'essi abbastanza privi di strumenti di controllo e quant'altro per cui e d'altra parte il mio modo di vedere è bene che esista un livello sovraordinato che possa essere in qualche modo una garanzia di terzietà per diciamo estranea al quadro locale di riferimento per cui io credo che sia utile diciamo che per questo aspetto ci sia la casomai il potenziamento delle strutture di controllo non la delega ai comuni poi la proposta di legge in discussione a mio parere non è esattamente una non dà una garanzia su assoluta di tutela del territorio sottoposto a rischio idrogeologico pertanto nonostante le modifiche apportate permangono comunque diversi interrogativi circa l'opportunità di derogare alle autorizzazioni rispetto agli interventi annunciati nella proposta tenendo conto che alcuni di essi comportano incremento del carico urbanistico nonché di portare in sanatoria procedimenti in corso di perfezionamento per questo motivo la la mia posizione rimane la nostra posizione rimane quella del voto contrario grazie grazie collega strafaccio prego grazie presidente intervengo perché questo è un punto che abbiamo discusso e abbiamo voluto fortemente nella nostra commissione la commissione ambiente e territorio nel territorio vorrei fare alcune precisazioni rispetto all'intervento della consigliere bruni ma anche dell'intervento fatto dal consigliere laghi intanto io ritengo che il trasferimento di queste funzioni per quanto riguarda appunto il rispetto del vincolo idrogeologico ai comuni sia un elemento di fondamentale importanza proprio perché gli amministratori i sindaci gli uffici attraverso i vari strumenti urbanistici di pianificazione territoriale consigliere bruni fanno riferimento al pai che il piano di assetto idrogeologico dove attraverso questo strumento sono previsti già i limiti a cui si devono attenere sicuramente gli uffici urbanistici nell'andare a rilasciare quelli che sono i pareri qual è l'elemento fondamentale di questa modifica che è stata portata a questa legge intanto sappiamo che ci sono tantissimi cittadini che attraverso anche alcune forme di finanziamento devono attendere mesi se non addirittura anni per avere dei semplici pareri considerato che parliamo comunque di interventi di modesta entità facciamo riferimento di interventi di 500 metri cubi voglio dire non sono questi grandi interventi ma l'aspetto fondamentale sta proprio nello snellimento dell'iter burocratico a cui tanti cittadini calabresi sono sottoposti e che a volte non possono far sì non possono diciamo utilizzare alcune diciamo alcuni strumenti che può essere il super bonus o altri proprio perché passano mesi e anni per avere dei semplici pareri quindi ritengo che questa proposta di legge già passata in commissione sia una proposta che prevede appunto lo snellimento delle piccole attività di edilizia ma soprattutto tiene presente la tutela del territorio che quella che non deve venire meno e ripeto lo strumento a cui gli uffici devono far riferimento e parlo degli uffici dei comuni e appunto il pai che va nella direzione di tutelare il rispetto dell'ambiente e del territorio grazie grazie collega strafagge collega denisi prego se io brevemente volevo intervengo perché forse questa norma è stata travisata da chi intervenuto nel senso che questo è uno è una legge che mira sia la semplificazione ma viene incontro ai cittadini nel senso che disciplina finalmente l'entità degli interventi e l'onere amministrativo che di cui si deve far carico il cittadino nel senso che qui stiamo derogando stiamo concedere diciamo delegando i comuni per concedere autorizzazioni sei sensi dell'articolo 7 per il vincolo idrogeologico per costruire la recensione del giardino per fare la stradina con pochissimi mesi cubi per dissodare un terreno queste funzioni sono delegate ai comuni perché lasciare tutto questo carico di lavoro alla regione comporterebbe che gli uffici sono inondati da una miriade di pratiche di banale di modestissime entità e non consentono agli uffici di valutare le cose importanti i provvedimenti di interventi importanti restano di competenza della regione già di fatto la la costruzione di una simbili singola abitazione competenza regionale gli interventi minori come questi che abbiamo normato oggi è giusto che siano semplificati io non vedo perché noi come regione dobbiamo caricare il cittadino che debba deve realizzare la recensione di casa di un onere amministrativo che costa migliaia di euro e può costare più della recensione stesso del lavoro stesso non capisco perché in calabria nel nome di chissà quale principio di salvaguarda che poi non è nessuna salvaguarda dobbiamo caricare il cittadino di questi oneri che nessun'altra regione d'italia solo questo questo diciamo che una norma di buonsenso che non mira a facilitare o autorizzare nessuno senza progetto senza concessione senza studio senza rispetto di un piano forestale semplicemente la recensione del giardino di casa la decide e l'autorizza l'ufficio tecnico comunale non bisogna non vedo perché debba essere invaso l'ufficio gli uffici della regione quando ci sono tantissime altre pratiche più importanti come dicevate voi quando siamo della regione tra con tra le regioni più boscate dell'europa e quindi è giusto che noi badiamo e salvaguardiamo il nostro patrimonio e concedendo il giusto peso all'entità delle pratiche che andranno ad essere esaminate quindi questo è un provvedimento che sicuramente apprezzeranno i cittadini apprezzeranno i tecnici apprezzeranno gli uffici e che consentirà sicuramente di di messerci al passo con le regioni più evolute come diceva prima il presidente mancuso come la toscana l'emilia la valle d'aosta e le altre grazie collega raso prego niente io voglio soltanto ripetere alla collega bruni di tranquillizzarsi perché il quadro conoscitivo in calabria non è rappresentato da una mappa una 10.000 del 1923 ma da altri strumenti come il pai gli strumenti urbanistici comunali che per la loro pericolosità idrogeologica in cui sono state effettuate degli studi geologici prima di essere approvate vengono distinti in quattro classi e lo stesso pai distingue il territorio regionale in funzione della pericolosità in varie classe e poi su quegli enti ed è prescrive ciò che può essere fatto su quei territori su quelle aree poi per quanto riguarda per quanto riguarda gli abusi di cui si parlava sono solo riferiti al vincolo non all'abuso nella costruzione del fabbricato solo relativamente al movimento di terra oppure al taglio della pianta non ad abusi edilizio ok grazie grazie collega raso passiamo all'esame votazione del provvedimento articolo 1 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 2 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 3 pervenuto l'emendamento numero 18 38 4 a firma del consigliere raso qui cedo la parola per l'illustrazione prego il presente emendamento si rende necessario e rica disposizione di carattere ordine mentale che non comporta nuove o maggiori oneri finanziari finanziaria valere sul bilancio regionale emendamento all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche al comma 1 dopo le parole sono delegate ai comuni sono aggiunte le parole le seguenti senza onera a carico del bilancio regionale al comma 2 dopo le parole sono delegate ai comuni sono aggiunte le seguenti senza onera a carico del bilancio regionale grazie pongo in votazione all'emendamento favorevoli con parere dell'aggiunta scusi favorevole pongo in votazione all'emendamento favorevoli contrari astenuti approvato pongo in votazione all'articolo 3 favorevoli contrari astenuti l'articolo 3 approvato per come emendato articolo 4 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 5 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 6 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 7 favorevoli contrari astenuti approvato passiamo alla votazione della legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale favorevoli contrari astenuti il provvedimento è approvato per come emendato con autorizzazione al coordinamento formale passiamo al decimo punto all'ordine del giorno che riguarda la proposta di legge 67 dodicesima di iniziativa del consigliere lo schiavo recante disciplina del mani marina resort prego consigliere grazie presidente sono contento che questa legge venga discussa proprio oggi cioè nel mese di luglio nel pieno della stagione turistica e dico questo perché alla base di questa proposta di legge c'è una visione che è quella che vede la calabria valorizzare ovviamente il turismo ma un turismo diverso un turismo lento un turismo che riesce a essere sostenibile un turismo che punta sull'economia del mare perché oggi noi possiamo e abbiamo la consapevolezza che il mare è una risorsa un'opportunità la nautica da riporto e soprattutto il turismo nautico è una delle nuove forme di turismo turismo che punta ovviamente a essere a essere valorizzato nella nostra regione noi abbiamo un sistema portuale importante abbiamo circa 5.300 posti barca abbiamo porti a prevalenza turistiche importanti io penso ovviamente a quelli del mio territorio a tropea vivo valenzia ma non solo abbiamo crotone portovecchio rocela ionica cetraro ciro diamante scilla abbiamo un sistema importante di infrastrutture però noi dobbiamo recuperare una competitività con le altre regioni del paese che hanno già normato sul punto io prima di entrare nel merito della legge che si sintetizza sostanzialmente una forma di agevolazione fiscale che renderà più competitivo attraccare nei porti calabresi ci tengo però a sottolineare come questa non sia una norma che di per sé tutela chi ha diciamo già possibilità economiche o le grosse imbarcazioni tutela in realtà un indotto tutela in realtà tutto ciò che è collegato al sistema portuale calabrese tutela ciò che diciamo discende dalla filiera nautica tutela la centralità dei porti perché i porti e soprattutto i retroporti waterfront sono possono essere un'occasione di rigenerazione urbana io l'ho visto sul mio territorio ma in realtà su tutta ovunque c'è un porto intorno al porto nascono attività commerciali nascono servizi accessori nasce ristorazione nasce turismo nasce occupazione questa legge mira a creare occupazione questa legge mira a incentivare il turismo mira incentivare un turismo sostenibile per la calabria quindi con questa visione di futuro e con questa idea di fondo la regione calabria si approverà questa legge recepirà l'articolo 32 di un decreto legge del 2014 133 che sostanzialmente equipara le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei riportisti alle strutture ricettive all'aperto come possono essere i villaggi turistici camper degli hotel con un'agevolazione dell'aliquota fiscale che passa dal 22 al 10 per cento tutto ciò quindi consentirà ovviamente di avere quella competitività che i nostri porti devono avere ricordo come la disciplina sui marina resort esiste già ovviamente in liguria in emilia romagna in veneto in abruzzo in toscana ma esiste anche soprattutto nelle regioni che sono nostre dirette concorrenti ormai il turismo ha una concorrenza anche nazionale pensa alla campania alla puglia alla sicilia quindi approvando questa legge noi rendiamo investiamo ovviamente sul sistema infrastrutturale perché perché sarà poi la giunta regionale a recepire ovviamente dei requisiti che i porti e gli attracchi dovranno avere per essere equiparati e marina resort ovviamente questo avrà bisogno di un investimento un miglioramento anche delle delle strutture dei porti turistici oggi esistenti ringrazio ovviamente intanto la consigliera catia gentile che ha firmato con me questa legge così come il mio collega ferdinando laghi però in realtà ringrazio tutto il consiglio regionale perché è stata approvata all'unanimità prima nella commissione competente turismo e poi con grande attenzione anche del consigliere montuoro che ha sollevato e mi ha dato una mano anche a risolvere alcuni problemi circa i pareri di sostenibilità finanziaria della legge ha riscontrato una onanime convergenza e anche con l'assessore al turismo ne abbiamo parlato nonostante sia imminente un testo unico del turismo che questa regione aspetta da tanto tempo che recepirà in un'unica normativa tutte le leggi vigenti sul turismo noi abbiamo diciamo anche concordato di intanto di lanciare la proposta e poi di farla confluire la calabria può fare molto il turismo è la nostra chiave rivolta però deve essere un turismo attento alla natura che non distrugge il nostro ecosistema qualche giorno fa il time indicava calabria trekking un percorso naturalistico diciamo calabrese come tra le migliori 50 mete destinazione tra le migliori 50 destinazioni al mondo per ovviamente qualità del percorso stesso ecco qual è il filo conduttore lì si puntava su un turismo che valorizza i borghi interni valorizza il percorso lento e rivitalizza aria spopolata della regione in marina resort disciplina nel rafforzano il mare la nautica dei porti il turismo il turismo nautico io ricordo quante società di charter di noleggio noi stanno nascendo nella nostra regione stanno dando occasioni di lavoro c'è un unico filo conduttore che lega queste diverse cose tra di loro ed è questa nuova visione della calabria che noi dobbiamo dare in italia e nel mondo e su questa nuova visione non c'è maggioranza opposizione siamo tutti dalla stessa parte perché col turismo noi possiamo dare condizioni di vita migliori per tanti cittadini calabresi grazie presidente grazie collega lo schiavo la ringrazio che ha corretto una mia dimenticanza e di iniziativa anche dalla consigliera katia gentile questa legge che stiamo per approvare ha chiesto di intervenire il consigliere afflitto prego grazie presidente buonasera a tutti ho chiesto intervenire ma non per quello che sto anticipando perché ho letto adesso dopo che ha detto il consigliere laghi e scusate dopo il consigliere lo schiavo ha detto che è aperto ai turisti ma il comma 10 bis dell'articolo 100 del decreto legge 104 2020 ha ulteriormente modificata la definizione di marina resort prevedendo che la sosta per notamento non è più consentito in via generale ai turisti ma i solidi portisti per cui noi non stiamo facendo altro che autorizzare uno specchio di mare controllato recintato e attrezzato con bar ristoranti ha solamente una fetta diciamo di turisti tra parentesi di portisti ma non era questo questo è solamente l'antipasto questa proposta della marina resort ha subito non da allontanare un discreto travaglio sono state quattro volte alla commissione che si è riunita cominciata dal mi pare 14 giugno l'ultima è stata l'autorizzazione o la quello che ha detto lì è la relazione del bilancio e quindi poi è stata approvata quindi ha subito un bel po di travaglio ma bisogna ringraziare la presidente gentile perché in questo caso è stato sensibile ma tutta la commissione perché ha riunito quattro volte la commissione per autorizzare e approvare questa proposta di legge questa sta a significare l'apertura mentale della presidente gentile ma anche di tutta la commissione che porta ad accogliere positivemente proposta anche della minoranza a questo voglio collegarmi in quanto in un articolo il consigliere laghi è scusato ma piglia sempre con la chiedo scusa al consigliere mai il consigliere lo schiavo ha scritto che il presente alla commissione di vigilanza con estrema ambiguità politica votando con la maggioranza abbia fatto venire meno col ruolo di garanzia che all'opposizione spetta chiedendo anche colleghi al centro sinistra di sfiduciarmi ancora scrive non si può accettare che alcune forze che stanno alla posizione votino provvedimenti politici con la maggioranza altrimenti cambia il perimetro dell'opposizione ma il consigliere laghi stavolta ho detto bene nell'ultimo consiglio regionale approvata la legge sulla casa alla salute sanità dove si possono utilizzare i medici non essendo specialista anche nelle corsie perché giustamente e io concordo col dottore laghi non bisogna essere specialisti per andare a lavorare una corsia dell'ospedale io personalmente sono specialisti notorino laringoiatria però mi hanno messo l'asile in medicina legale dopo sei mesi non aveva niente a chiedere a nessuno per cui giustamente come diceva il dottore laghi ha conosciuto come conosciuto tant'io tanti colleghi che pur non essendo specialisti erano più bravi degli specialisti che escono dalla specializzazione ma questa a rimarcare che il dottore laghi ha votato a favore della maggioranza pur la maggioranza non avendono non avendone il bisogno quindi io non lo so che cosa va beh i fatti smentiscono quando scrive che alcune forze che stanno la posizione votano con la maggioranza e perde il perimetro cambia il perimetro dell'opposizione ma su questo ci passano verso il passato pure sopra quello che non mi è piaciuto quando ho letto veramente me l'hanno passato perché non leggo tutte queste questo gossip tutto serve scrive tranne che un'opposizione che va col cappello in mano a rivendicare i ruoli di co governo di corresponsabilità questa no non l'accetto in quanto è una frase priva di eleganza priva di buon senso posso pure dire che potrebbe essere una frase melenze questo in questa frase è tangibile l'odio verso di me per la mancata elezione presente alla commissione di vigilanza il consigliere allo schiavo arrivando anche a proporre all'istituzione di una nuova commissione per il controllo delle partecipate così facciamo un doppione delle commissioni in merito alla frase che un'opposizione che va col cappello in mano vorrei ricordare a tutti voi la serie del 23 dicembre del 2021 a proposta la votazione della presidenza delle commissioni certamente in quella serata non sono andato io a rivolgermi alla maggioranza col cappello in mano perché io nove voti li ho avuti dal centro-sinistra so che chi è andato col cappello in mano ha trovato nel cappello solo i cinque voti è andata ma si è fatto male i calcoli non voglio dilungarmi perché a quest'ora anche se non pure tardi ma ci tenevo scusate ci tenevo a rispondere a quegli attacchi insensati posso dire posso anche dire che quella frase è tangibile l'odio che ha verso di me grazie ho finito presente grazie consigliere presidente ha chiesto di intervenire presidente solo per replica 30 secondi ma non per polemica guarda presidente la prego non mi pare io perché uno non giusto anche per la senza polemica mi credo a prego ma meglio allora presidente ma solo le do solo tre minuti no neanche va bene prego diciamo che consigliere afflitto non interviene molto però quando interviene io ho diciamo una difficoltà a seguire un po il filologico sarà una mia limitazione detto questo la politica è una cosa l'odio personale un altro non c'è nessun odio verso il consigliere afflitto assolutamente c'è un rispetto come consigliere l'istituzione che lui rappresenta lui è un consigliere regionale rappresenta i suoi elettori e non entri in merito alle sue dichiarazioni e nella normale dialettica politica e finisce qui però vorrei tranquillizzarlo diciamo io difficilmente odio le persone sicuramente non odio lui odio è un termine brutto c'è una dialettica politica consigliere afflitto sulle posizioni politiche su cui inevitabilmente si rischia poi di fare confusione grazie presidente grazie torniamo all'ordine del giorno prego assessore orzomarzo sui marina resort si velocemente perché abbiamo discusso diversi punti però vorrei intervenire per dire un paio di cose intanto grazie di questa proposta di legge la testimonianza a me è capitato anche nella scorsa legislatura anzi quella ancora precedente di aver contribuito diciamo alla legislazione con norme sono state approvate anche dalla loro maggioranza mentre noi eravamo l'opposizione è una proposta che contenuta in un testo di legge unico io ringrazio la presidente katia gentile penso che la qualità tra l'altro sono tutte esperienze nuove a quest'aula ma che nella vita hanno fatto tante cose fatemi dire ogni tanto che il lavoro della de francesco vabbè senza citarle tutte però abbiamo lavorato e lunedì sarà presentato diciamo questa proposta perché in sé a presidente gentile prima di incontrare che poi sarà emendabile nelle associazioni fianco a fianco per tanti mesi per fare un lavoro importante che il primo testo unico sul turismo abbiamo circa 30 norme alcuni di 30 anni fa confusionare sarà sarà un testo molto semplice è previsto anche in questo testi marina resort ma ovviamente è assorbito già da questa roma che approviamo oggi noi puntiamo molto sulla portualità interventi e sta seguendo tra l'altro il collega dolce io seguo la portualità turistica su infrastrutture di completare con le infrastrutture è la ricchezza di questa calabria saremo con il presidente occhiuto a settembre al sole nautico di genoa la soddisfazione è stata anche questa che genoa con marco di circa 63 anni non l'ha mai ceduto a nessuno in partnership no perché una cosa importante noi come regione calabria per il giusto ragionamento e saremo gemmati da genoa sarà realizzato nel porto di vibo altri e lo dico perché ogni tanto leggo sempre di questo campanilismo fossero stati altre storie già sarebbero partiti da cetraro no visto ciò un porto nella mia provincia noi crediamo che tutti tutta la portualità debba essere valorizzata partiamo da vibo perché nell'analisi e scenderanno ci danno il conforto che proprio pomeriggio ero a telefono mentre c'è il consiglio con campagna del sole nato si farà un sopralluogo ad agosto lanceremo a settembre se nato di regione la settimana della nautica calabrese che sarà avrà dentro diciamo anche un po di fashion week il salone dell'usato e marchiato da genoa io penso che per una soddisfazione quindi insieme a toti il presidente occhiuto il collega berrino a settembre lancieremo la storia nautica internazionale abbiamo rispetto alle nostre imprese imprese importanti se pensiamo a rami international invictus gli altri danieri guarascio che producono barche che vengono barche detto volgarmente insomma nautica di qualità quindi grazie consigliere lo scavo di questo contributo noi crediamo che insieme a presidente gentile che anche in quella norma dove manca ad esempio sollecitato anche al presidente del consiglio mancuso il tema delle case mobili che non sono state recepite in calabria tutta questa nuova norma ci dà grandi opportunità abbiamo risorse infinite da mettere a terra rispetto a questo racconto di una calabria irraggiungibile quando non abbiamo pensato approvato come giunta calabria straordinaria non è parlare all'esterno e parlare prima di tutto a noi stessi c'è questo auto lesionismo questo auto di definirci di uno sviluppo impossibile penso e pensiamo che debba avere la parola fine quindi grazie a questo contributo mi piace sottolineare la voto convintamente insomma visto che era anche la nostra previsione e grazie soprattutto alla presidente gentile ho visto l'arri apprezzamento in questa commissione che ha saputo in questi mesi portare a termini leggi importanti come queste non sono banali lo vedremo di quanto lavoro vero in più possono portare in calabria grazie grazie chiesto intervenire la consigliere gentile prego grazie signor presidente intanto sarò velocissima mi dispiace che non vi abbia visto prima chiedevo di intervenire prima dell'assessore per fare chiudere a lui sarò velocissima intanto grazie ai colleghi per per i complimenti io credo che ecco quando c'è una visione unanime di una terra come dice giustamente la stessa rosso marzo che prima di tutto dobbiamo insegnare a noi stessi a rivedere per tutte le cose fantastiche meravigliose che ci offre non soltanto quelle negative quelle negative non le affrontiamo affrontiamo i problemi li risolviamo cerchiamo di risolverli sempre e nel migliore dei modi ma ecco focalizziamoci su quelle che sono invece le potenzialità enorme inespresse di questa terra e quando il consigliere lo schiavo ha portato il questa proposta di legge che ringrazio il consigliere lo schiavo per questa proposta di legge ne abbiamo parlato poi con il proprio con la stessa rosso marzo in virtù di questo testo unico al quale stiamo lavorando proprio per cercare di ecco di intanto lo ringrazio anche per l'intuizione di questo testo unico che va a semplificare e quindi anche ad attualizzare quelle trenta leggi in maniera tale ecco che sia tutto più anche più facile più immediatamente ricevibile e dicevo che ecco sui marina resort quando il consigliere lo schiavo ha presentato questa questa proposta intanto devo precisare che non abbiamo fatto quattro commissioni ma ne abbiamo fatto due di sedute siamo andati anche celermente per via del fatto che la stagione è iniziata e noi abbiamo siccome avevamo intenzione di presentarlo prima questo testo unico avevamo addirittura chiesto al consigliere lo schiavo di partecipare anche lui perché noi avremmo assorbito questa proposta perché l'avevamo già vagliata per cui è insomma era importante come dire ecco che il fatto di vedere tutti la calabria nello stesso modo e di vedere queste grandi potenzialità del turismo del turismo nautico in questo caso credo che sia quindi un turismo di nicchia perché si tratta e così va ad agevolare queste attività che che sono quindi che che hanno questi specchi d'acqua e che favoriscono quindi con l'agevolazione del 10 per cento sul sull'iva anziché del 20 pagare al imparare al 22 sui servizi si vanno ecco ad agevolare e quindi dare anche nuova linfa e ma rivitalizzare a valorizzare quel tutte quelle attività turistiche che praticamente vivono sul mare ma soprattutto ecco dicevo la cosa fondamentale è che poi quando ecco sia siamo arrivati al dunque siamo arrivati a proporla e a fare questo lavoro velocemente mettere all'ordine del giorno immediatamente cercare di fare le commissioni in più fretta possibile proprio per dare questa opportunità anche ai turisti di portisti di usufruire di questi servizi nautici io credo ecco soltanto come dire per lasciatemi giusto dire che fare un ringraziamento a parte all'assessore orso marzo per il grande coinvolgimento e per tutto il lavoro che sta facendo in questa nostra regione sponsorizzando finalmente questo brand fantastico secondo me questa calabria straordinaria alla quale stiamo lavorando noi sicuramente siamo è tutto perfettibile possiamo fare sicuramente cose migliori ma al momento noi a noi piace questo però ecco lasciatemi ringraziare la commissione tutti i colleghi della commissione che rappresento che mi onoro di presiedere di rappresentare proprio per la grande collaborazione per il grande spirito di collaborazione che c'è che si è stavolato fin da subito per questo grande anche apporto in termini proprio fattivi su tutto su tutto il lavoro che abbiamo affrontato finora in commissione e quindi ecco ritengo che però ecco noi abbiamo siamo riusciti a mettere da parte anche i colori politici lo diceva prima l'onorevole lo schiavo io condivido fortemente questa cosa e penso che la nostra commissione sia anche esempio in questo nel senso noi abbiamo condiviso tutto noi finora abbiamo approvato praticamente qualunque cosa ci abbiamo lavorato l'abbiamo analizzata abbiamo approfondita studiata bene eccetera eccetera abbiamo sempre approvato tutto all'unanimità per cui insomma è importante ecco secondo me che si mettano da parte vero consigliere lo schiavo sempre i colori politici quando ci sono delle cose di interesse collettivo e che vanno ad influire in maniera benevola sulla nostra regione grazie presidente grazie collega gentile passiamo all'esame votazione del provvedimento articolo 1 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 2 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 3 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 4 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 5 favorevoli contrari astenuti approvato passiamo alla votazione della legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale favorevoli contrari astenuti il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale passiamo al punto 11 dell'ordine del giorno che riguarda la proposta di legge 75 dodicesima d'iniziativa del consigliere arruzzolo recante riconoscimento del concorso internazionale dei madonna di città di taurianova prego collega sì grazie presidente la presente proposta di legge intende promuovere il concorso internazionale dei madonna di città di taurianova riconoscendo lo stesso quale evento a carattere regionale il progetto originario è giunto alla settima edizione ideato ed organizzato dall'associazione di promozione soggio culturale amici del palco prevede l'organizzazione di un concorso destinato principalmente agli artisti madonna ri che si esibiscono lungo le vie principali di taurianova nel centro storico e zone limitrofe coinvolge numerosi artisti internazionali associazioni enti e numerosi giovani anche attraverso corsi di disegno sull'asfalto il progetto si pone come obiettivo quello di recupero dell'identità e della memoria attraverso l'arte il coinvolgimento degli anziani e l'avvicinamento a questa arte povera dei giovani l'apertura al pubblico di chiese palazzi storici e quello di gettare le basi per un turismo sostenibile nelle aree interne nonché di dare grazie alla divulgazione della buona stampa un'immagine positiva e nuova della calabria non solo in italia ma anche all'estero come accaduto con con l'ultima edizione prevalentemente online a causa della violenta pandemia che ha raggiunto oltre 110 mila visitatori virtuali ottenendo nell'ultima edizione anche una menzione dell'ambasciata del messico in italia l'obiettivo si colloca inoltre all'interno delle politiche della regione calabria e del consiglio regionale della calabria in particolare finalizzate sicuramente realizzare efficace azioni di promozione culturale sociale turistiche del territorio la manifestazione a carattere nazionale per la partecipazione degli artisti provenienti da diverse parti del mondo è unica nel suo genere in calabria e tra le pochissime in italia l'evento ha ottenuto da parte della regione calabria riconoscimento all'inserimento tra gli interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in calabria la presente proposta di legge si compone di quattro articoli non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale grazie presidente grazie collega russolo non ci sono interventi passiamo all'esame e votazione del provvedimento articolo 1 favorevole contrari astenuti approvate articolo 2 pervenuto l'emendamento protocollo 18 083 del consigliere russolo stesso qui cedo la parola per l'illustrazione prego sì grazie presidente la presenta la presente per proposta emendativa mira a sopprimere il comma 2 dell'articolo 2 della proposta di legge numero 75 dodicesima atteso che lo stesso potrebbe comportare equivoci rispetto all'invarianza finanziaria della norma trattandosi comunque di norma di previsione emendativa di carattere ordine mentale la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale grazie parere della giunta favorevole pongo in votazione all'emendamento favorevoli contrari astenuti l'emendamento è approvato pongo in votazione all'articolo 2 favorevoli contrari astenuti l'articolo 2 è approvato per come emendato articolo 3 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 4 favorevoli contrari astenuti approvato passiamo alla votazione della legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale favorevoli contrari astenuti il provvedimento è approvato per come emendato con autorizzazione al coordinamento formale passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno che riguarda la proposta di provvedimento amministrativo numero 73 dodicesima di iniziativa della giunta regionale recante modifica al piano regionale della di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del consiglio regionale 156 del 19 dicembre 2016 cedo la parola al relatore consigliere raso per illustrare il provvedimento prego grazie presidente con la deliberazione del consiglio regionale numero 156 del 19 dicembre 2016 è stato approvato il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti pprgr il piano è stato modificato con la deliberazione del consiglio regionale numero 474 del 19 dicembre 2019 il piano del regionale gestione rifiuti attuale prevede di termobilizzare nell'impianto di gioia tauro solo il combustibile solido secondario css per un quantitativo corrispondente alla capacità autorizzata di numero due linee di esseri in esercizio pare cento ventimila tonnellate annue gli scarti di lavorazione devono invece essere collegati in discarica con la previsione che ciascuno dei co distretti sia dotato della propria discarica di servizio il fabbisogno di volume di discarica destinata allo smaltimento degli scarti di lavorazione è stato calcolato per ogni ato su base decennale stimato complessivamente 100.000 da 100.000 150 mila tonnellate annue considerato lo stato di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti nasce l'esigenza di modificare lo stesso prevedendo l'adeguamento e il completamento del termobilizzatore di gioia tauro tenuto conto che tale modifica non varierà l'assetto impiantistico complessivo previsto dal piano tantomeno il bilancio di massa complessivo anzi nel bilancio di massa complessivo con ricorso alla termobilizzazione per tutti gli scarti di lavorazione di lavorazione si avrà il beneficio della progressiva eliminazione dell'attuale dipendenza dalle discariche di conseguenza l'ultimo capoverso della pagina 194 del prgr attuale che prosegue a pagina 195 successivo capoverso di costruzione ma pagina devono essere costi modificati il recupero energetico e regala e relegata alle sole frazioni non riciclabili altrimenti destinate allo smaltimento in discarica nel pieno rispetto della gerarchia stabilito dalla più dalla più volte citata direttiva 2008 98 ce al lupo è prevista la possibilità di recupero di un recupero energetico da combustibili derivati dagli scarti di processo non riciclabili provenienti dal sistema impiantistico regionale compresi compreso tra 9 megajoule kg 18 megajoule kg presso l'impianto assistente di gioietaro a saturazione del carico termico in conformità al punto 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 133 2014 che testualmente stabilisce che tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia assistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico come previsto dall'articolo 237 sex del decreto legislativo 3 del aprile 2006 numero 158 152 quale sia stata valutata possettivamente la compatibilità ambientale delle impianti in tale assetto operativo inclusi rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto 13 agosto 2010 numero 155 tutti i nuovi impianti pubblici di trattamento di rifiuti di cui la presente pianificazione a valle dell'operazione di selezione valorizzazione per il recupero di materia produrranno degli scarti di lavorazione che dovranno essere avviata termovalizzazione per il recupero energetico la quantità stimata e costituita dalla frazione biodegradabile biossiccata degli scarti non riciclabili a valenza combustibile della linea remat degli scarti non riciclabili a valenza combustibile della linea di valorizzazione della frazione secchi riciclabili dalla raccolta differenziate avviata al recupero energetico sarà appare circa 350 mila tonnellato anno sino alla realizzazione dell'impiantistica pubblica prevista nel piano successivamente si attesterà circa 250 mila tonnellato anno la termovalizzazione di tali frazioni di rifiuta avverrà nell'impianto di gioietà attraverso l'adeguamento dell'unità autorizzata in esercizio in esercizio e completamento delle unità b parzialmente realizzate dall'impianto subverrà un intervento di adeguamento e completamento per il recupero funzionale di entrambe le unità a e b con riferimento all'applicazione della decisione di esecuzione ue 2019 2010 della commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce che le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili batta a norma della direttiva 2010 75 ue del parlamento europeo e delle tecniche e dal consiglio dell'incenerazione su dei rifiuti anche con l'inserimento di una linea di interi di inertizzazione delle genere proprio l'immediato sistema di abbattimento dei fumi con recupero dei prodotti solidi e residui grazie presidente grazie la parola al collega tavernese prego grazie presidente onorevole raso io ho letto la modifica al piano dei rifiuti e apprezzo sicuramente la buona volontà anche perché all'interno devo essere sincero ci sono diversi aspetti positivi a partire dalla realizzazione degli eco distretti che gli auto provinciali in questi quattro anni non sono stati capaci di realizzare a partire dal revamping di alcune di alcuni impianti pubblici però all'interno di questo piano onorevole raso ci sono una serie di contraddizioni a partire dalle discariche che praticamente mi impressionano se da una parte voi scrivete su questo piano regionale dei rifiuti che c'è la volontà da parte di questa maggioranza di arrivare a zero discariche e dall'altra parte io leggo la previsione di una discarica da localizzare nel lato di cosenza leggo una discarica da localizzare nell'area nord del lato di cosenza leggo una discarica con lavori da avviare con una volumetria di circa 130 mila metri cubi nella località ali di catanzaro leggo una discarica che ancora non ha nessuna azione avviata alla mezzia terma e alla mezzia terme discarica di servizio di 120 mila metri cubi leggo una discarica da realizzare a santo onofrio ato di vibbo leggo una discarica da individuare atto di crotone leggo una discarica sito da individuare città metropolitana di reggio discarica di servizio eco distretto di siderno leggo da realizzare discarica di motta san giovanni 300 mila metri cubi progettazione esecutiva in corso di verifica leggo una discarica già realizzata a meli cucca con l'esecuzione dei lavori del primo lotto di 90 mila metri cubi ora io su questo mi piacerebbe tanto che anche il presidente occhiuto intervenisse no perché o io non ci capisco niente ed è probabile che non ci capisco niente oppure qua voi scrivete una cosa ma all'interno di quello che scrivete fatto l'esatto contrario di quello che state scrivendo perché se nella modifica del piano voi stessi dite che si va a raddoppiare il termo valorizzatore di gioia dove si va dove si devono portare tutti gli scarti si creano gli eco distretti per fare una miglior selezione dell'indifferenziata e poi dall'altra parte mettete nel piano la realizzazione o l'individuazione di nuove discariche nel 2022 io francamente mi rendo conto che da parte di questa maggioranza per quanto riguarda l'ambiente purtroppo i risultati sono sotto gli occhi di tutti perché purtroppo abbiamo il 29 luglio cumuli di rifiuti in mezzo alle strade e anche qui mi vuole il cuore dirlo ma rispetto allo scorso anno non c'è stato nessun tipo di miglioramento presidente mancuso però al di là delle critiche perché è facile criticare ma bisogna poi anche proporre onorevole raso io penso che questa regione debba avere una lungimiranza che debba un po di scostarsi da quella che è la realizzazione di nuovi discariche da una parte e il raddoppio di un inceneritore dall'altra io per primo sono stato favorevole alla multi utility e ho sempre detto che l'adeguamento del bruciatore perché lo sottolineo gioia tauro oggi non ha un inceneritore a un bruciatore inquinante quindi io sono stato di per lice sono stato il primo che ha sempre detto e affermato che sono favorevole all'adeguamento seguendo delle tecnologie moderne delle prime due linee però non basta oggi onorevole raso portare una modifica al piano dei rifiuti con la realizzazione di un revamping degli impianti pubblici la realizzazione degli ecodistetti che sono giusti e condivido con voi che debbano essere diciamo realizzati però non mi va bene che nel 2022 si diano delle autorizzazioni per 9 nuove discariche non diamo un bel segnale ma stiamo ritornando indietro con i tempi con le garasio ecco perché metterebbe mi farebbe piacere dare uno spunto interessante su dove dobbiamo andare in materia di rifiuti onorevole raso perché oggi ci sono delle alternative moderne e sostenibili all'inceneritorio magari il caso di esplorare queste alternative il processo di combustione è rimasto sostanzialmente immutato nel tempo si bruciano dei materiali trasformando in inceneri fumi acqua e anidride carbonica che come è noto è un gas clima alterante ossia contribuisce all'effetto serra la fiamma che tutti conosciamo a diversi colori perché la combustione avviene a temperature diverse in punti diversi del combustibile e perché produce polveri sottili insieme a una miride di composti chimici tra questi purtroppo ci sono le diossine la tecnologia però fa passi da gigante così mi sembra proprio il caso di attenzionare questo nuovo processo si parla di un processo senza fiamma perché a differenza della commuzione la fiamma è in colore in quanto non c'è produzione di particolato di sostanze solide mentre l'incenerimento produce ceneri tossici e fiumi inquinanti fumi inquinanti l'ossi combustione invece che è il futuro produce invece anidride carbonica pulita e materiale vetroso inerte che può essere utilizzata ad esempio come materiale da costruzione gli impianti di ossicombustione che sono quelli che secondo me rappresentano il futuro in materia in materia di rifiuti onorevole raso sono piccoli si costituiscono nel giro di un paio di anni e costano decisamente meno rispetto agli inceneritori che per funzionare con un minimo di efficacia hanno bisogno di trattare grandi volumi io dico che questa tecnologia andrebbe valutata piuttosto che sposarne senza se e senza ma una vecchia come si vorrebbe fare in calabria che già sappiamo avere limiti ambientali enormi partiamo da qui e glielo dico in maniera costruttiva perché oggi usciamo agli occhi della gente proponendo nuove discariche è un raddoppio di un termo valorizzatore io penso che questa maggioranza possa fare di più io penso che anche qui come per quanto riguarda la sanità ci si può unire e lavorare insieme anche qui o per esempio non sarei per niente diciamo contrario a far venire in calabria dei commissari da fuori dei consulenti da fuori esperti in materia di rifiuti che ci possono dare una mano ma oggi sicuramente non possiamo dare il segnale che nel 2022 parlo della mia provincia si parli di riapertura come discariche di san giovanni in fiore che nel 2019 e nel 2020 erano state chiuse grazie grazie la parola consigliera leggi prego sì grazie signor presidente io ho accolto subito favorevolmente la nomina del commissario bruno gualtieri a capo della multi utility e credo che già i primi risultati stiano arrivando ho potuto apprezzare il lavoro del commissario bruno gualtieri quando era anche direttore del lato rifiuti di catanzaro che è lato che maniera la palissiana sotto gli occhi di tutti ha raggiunto i migliori risultati basta dire che oggi all'interno dell'impianto di catanzaro si distribuisce gratuitamente il compost ai cittadini e quindi chiunque può andare la ritirare dei sacchetti di compost gratuitamente da poterli utilizzare nelle proprie campagne anzi c'è anche il progetto dall'epoca avevamo anche ipotizzato di distribuirle ai consorsi e poterli dare ad un prezzo simbolico a chi lavora proprio nel comparto dell'agricoltura quindi ho visto favorevolmente la nomina di bruno gualtieri credo che ci potrà essere una visione per quanto riguarda la gestione dei rifiuti nella nostra regione visione che ancora all'interno di questo piano non c'è completamente immagino che il collega raso lo sappia alcuni mesi fa forse un poco più di un anno fa lato di catanzaro si domandava se far entrare o meno all'interno del proprio territorio dell'impiantistica di la mezzia termi comuni del vibonese che erano in grossissima difficoltà all'epoca il presidente del lato abbramo voleva creare delle barricate per evitare che i comuni di vibo potessero scaricare portare l'impianto di la mezzia io personalmente uscì invece con tutti i sindaci del comprensorio soveratese a favore dei comuni della provincia di vibo per accoglierli nell'impiantistica di la mezzia ed oggi i risultati ci dicono che nel momento in cui la calabria raggiungerà i risultati ambiziosi nella differenziata che prevede il piano attuale del 65 del 70 per cento l'impianto di la mezzia terme avrà necessità di avere quei rifiuti di vibo che fino a qualche mese fa invece non voleva che arrivassero e quindi ad esempio all'interno di questo piano è ancora inserito l'ecodistretto di vibo per un investimento di 42 milioni di euro e sappiamo già la storia già scritta che nel momento in cui verrà terminata la realizzazione di quell'ecodistretto non ci saranno rifiuti da portare e nessun gestore privato parteciperà alla gestione perché la percentuale di differenziata produrrà dei rifiuti numero inferiore rispetto a quella che l'impiantistica attuale è capace di lavorare quindi un piano ancora senza una visione che eredita anche quelle che erano le idee precedenti e che vede il punto centrale nel raddoppio delle linee del termo valorizzatore le cui linee come immagino sappiamo tutti quanti noi per oltre l'ottanta per cento sono state già realizzate che vanno portate a completamento e anche su questo io non mi dico sfavorevole capisco che raddoppiare il termo valorizzatore oggi appare come una scelta necessaria scelta necessaria che però domani potrebbe non essere più utile quando appunto si rischia di non avere più rifiuti da bruciare allora ci vuole una visione ci vuole una visione anche nel trattamento dei rifiuti speciali dei quali non si discute all'interno di questo piano io oso avanzare anche un paio di proposte che vengono attuate in altri territori la prima proposta per esempio è quella della lavorazione dei fanghi tema di grandissima attualità sul quale il presidente occhiuto è uscito in prima persona la regione calabria si è accollata anche giustamente l'onere di smaltire questi fanghi sulla fascia tirrenica che più soffre con un costo elevatissimo però poi per lo smaltimento bene i fanghi possono anche essere bruciati all'interno di un termo valorizzatore quindi risolvere quello che è un problema di grandissima attualità e i fanghi stessi possono anche essere utilizzati come stabilizzante per il compost chiaramente ad un costo molto più basso rispetto a quello che si sta affrontando oggi in oltre avere un termo valorizzatore sovradimensionato rispetto ai rifiuti che verranno prodotti in calabria da un certo punto di vista ci potrebbe far diventare attrattivi verso altre regioni che invece hanno il problema di dove mandare questi rifiuti oppure e qui è la mia seconda proposta ancora più forte di quella precedente il presidente occhiuto da un po di tempo parla della piastra del freddo che porrebbe la calabria e quindi gioia tauro come punto di sdoganamento e quindi con un ritorno in termini economici importante del quale anche io vedo sicuramente delle grosse potenzialità una piastra del freddo significa un assorbimento in termini energetico pauroso enorme il termo valorizzatore potrebbe essere invece utilizzato proprio come fonte di energia per alimentare la piastra del freddo con costi di trasferimento appunto di questa energia di gran lunga inferiore rispetto a quelli di acquisto da dall'esterno quindi credo che se all'interno del nuovo piano che la legge prevera debba essere approvato entro il 31 12 di quest'anno ci sarà una visione complessiva sulla gestione dei rifiuti all'interno della nostra regione io non mi scandalizzo e posso dire anche al nome del pd che ci potrà anche essere l'opportunità di valutarla e di votarla favorevolmente oggi il piano che invece viene sottoposto nonostante abbia anche degli spunti interessanti non ha una visione prevede degli investimenti ormai anacronistici che non saranno attuati e quindi per tale motivo non può essere votato favorevolmente grazie grazie collega graziano prego grazie presidente io non ho capito gli interventi della della minoranza magari sarò sarò stolto io ma vorrei vorrei capire pure io perché sennò rischiamo che io ho letto delle cose che voi evidentemente non riesco a leggere quello che avete detto insomma perché il collega tavernese ha parlato che questa a parte che non è un piano collega lecci ma una modifica al piano regionale esistente approvato dai tuoi colleghi di partito un po di anni fa con alla guida mario oliverio quindi quando il collega tavernese parla di discariche legge ha letto l'allegato caro collega davide che riguarda lo stato di attuazione degli impianti previsti nel piano esistente non si vanno a destituire nuove discariche questo piano questo dice lo stato di attuazione del piano dei rifiuti approvato nel 2016 in quel piano hanno previste delle discariche di servizio e ti mettono a fianco una colonnina in tutti dice lo stato ad attuazione di ciò che era previsto quindi non ho capito non è che vengono istituite vengono previste nuove discariche solamente un un riquadro che va a dire cosa è stato fatto rispetto a quel piano non mi pare che vengono previste nuove discariche non so se non so se mi spiego poi se io leggo male gli allegati tu mi correggerà poi andiamo volevo dire anche al collega lecci le uniche modifiche da vernisse che ci sono in questo piano sono elencate nell'allegato c dove si fa il quadro riepilogativo di cosa si va a modificare rispetto al piano esistente in questo allegato c non c'è nessun'altra discarica che viene stabilita rispetto alle discariche di servizio a suo tempo previste dal piano di oliverio fra l'altro non realizzato perché se vai a vedere a fianco ad ogni cosa che era previsto in quel piano ecco distretti nel lato di cosenza non realizzato a che punta la procedura mai avviata e questo questo dovremmo se vogliamo fare una discussione chiara costruttiva renderci conto che cosa è stato fatto e che cosa non è stato fatto che cosa va fatto ora cosa prevede questo famoso piano che non è un piano ma prevede delle modifiche al piano esistente per cercare di migliorare di efficientare la raccolta differenziata e la valorizzazione della corte differenziata e della raccolta dell'indifferenziato lo leggiamo insieme sono quattro righe perché se non si rischia di dire cavolate che ci ascoltano e capisce fischi per fiaschi come probabilmente avete capito anche voi tranne se io leggo male e se leggo male vi prego di correggere allora ho letto bene il nuovo asset impiantistiche nuovo previsto nelle modifiche prevede la trasformazione di quattro impianti tmb esistente sul territorio per esempio l'impianto per dire a davide tavanese che conosce molto bene di bucita di rossano in piattaforme di trattamento recupero valorizzazione delle raccolte differenziate e dei rifiuti urbani indifferenziati non sono discarico questo è un'altra cosa in aggiunta negli atto di catanzare di crotone è prevista la sostituzione degli impianti esistenti di lamezzia e crotone località porticelli con nuovi impianti perché si sono esauriti quegli impianti con nuovi impianti negli atto e negli atto di cosenze di vivo valenza per soddisfare completamente la domanda di trattamento necessario provvedere alla realizzazione di nuove piattaforme sono piattaforme che riguardano la raccolta differenziata si parla di comieco si parla di questo della medesima tipologia delle precedenti la cui collocazione sarà stabilito dalle comunità d'ambito nel rispetto dei criteri individuate al successivo capitolo 19 poi parla di gioia e questo per quanto riguarda l'impiantistico poi parla di gioia tauro il soli impianto di gioia tauro manterrà l'attuale tecnologia tmb quindi non viene modificata pur subendo un intervento di riefficientamento della linea grazie all'inserimento di una cella di biossiccazione quale stadio terminale del processo di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel complesso il nuovo assetto regionale prevede quindi nuovi impianti di trattamento tra queste le linee di processo installate presso gli otto nuovi impianti pubblici saranno quelle di seguito elencati e va ad elencare cosa è previsto mi spieghi dove ha previsto stati scherzi e di scariche che ha letto tu tu hai letto il piano di oliverio allora ti invito a leggere del più attenzione consiglierà lecci quale piano abbiamo fatto che raccontano gli intenti menti di una gestione moderna dei rifiuti io non ho capito se me lo spiegate sono pronta ad accogliere le vostre osservazioni ma che siamo seri però c'è diciamo alla gente le cose vere grazie grazie collega graziano no replicare dichiarazione di voto magari se riesce collega laghi prego brevemente se grazie presidente vedo una certa effervescenza d'aula in cui vorrei inserirmi è il momento giusto allora rapidissimamente constato con dolore che ancora si continua a usare il termine autarchico termo valorizzatore quello corretto e inceneritore commesso in tutto il mondo per la verità dopodiché vado per punti tecnici è assolutamente vero quello che dice il collega grazia noi stiamo parlando di un diciamo di un piano che nel 2016 è stato varato dal dall'aggiunta oliverio e che ria che ha ripreso il piano del 2002 varato dalla giunta credo scopelliti quindi con marginali modifiche quindi sostanzialmente se uno è contrario al al questo piano vuol dire che una prevenzione politica non è una prevenzione tecnica perché così nasce questo piano detto questo rapidissimamente io personalmente sono contrario a queste modifiche perché l'impianto complessivo che non condivido perché nessuno ha parlato finora del primo elemento che va valorizzato nella nello smaltimento dei rifiuti cioè la riduzione della produzione dei rifiuti tutti quanti con si continua a parlare degli ultimi due posti discarichi e inceneritori non va bene fra l'altro per con la pace dei buoni tutte le nuove tecnologie torci al plasma pirolisi gasificazione sono ritenuti dalla comunità europea come processo di incenerimento e comunque sono delle delle tecnologie ancora sostanzialmente sperimentale quindi ed è veramente paradossale dal mio punto di vista che stiamo ancora a parlare mentre gli accesi si sciolgono ci abbiamo 45 gradi all'ombra in calabria nessuno si pone il fatto che il problema dell'incenerimento dei rifiuti fra le altre cose tossiche a incrementa il problema dei cambiamenti climatici che sono derivano dalle combustioni di origine antropica quindi noi dovremmo terminare con qualsiasi tipo di combustione non domani ieri per la verità l'incenerimento è nocivo per la salute non esistono tecnologie di incenerimento che possano ritenersi innocue e il problema anche della presenza delle discariche e lo sa bene l'onorevole graziano perché nell'ambito dei suoi interessi sono assolutamente nel rapporto fisso l'incenerimento esclude la l'evoluzione a discariche zero perché quello che viene incenerito al 25 per cento deve andare in discarica insieme ad altro quindi se noi vogliamo tendere a quel famoso meno 10 una quota inferiore al 10 per cento delle discariche dei rifiuti che vanno in discarica l'unico modo è non incenerire perché altrimenti saremo sempre al di là di questo di questo 10 per cento l'altro elemento vado veramente per sintesi l'altro elemento cioè questi ecodistretti gli ecodistretti sono il contrario di quello che le tecnologie smaltimento dei rifiuti prevedono la tecnologia corretta è quella di smaltire rifiuti dove vengono prodotti non di concentrarli in cinque o sei posti facendogli fare fra l'altro il il tour della spazzatura e fra l'altro usando una tecnologia che assolutamente non è condivisibile vogliamo fare del compost allora il compost si fa per ambiti piccoli o piccolissimi non per province perché altrimenti ribadisco da quel da quell'accumulo di umido esce la cosiddetta frazione organica stabilizzata che è un altro contributo che va in discarica per cui cioè bisogna cambiare il paradigma e infine quindi io la mia la critica che faccio a queste modifiche che sono più o meno più o meno marginali non tanto marginale quando si parla di raddoppio dell'incenditore è una critica ai piani che sono stati fatti nel 2002 centrodestra nel 2016 centrosinistra un'ultima cosa tecnica e chiudo il problema della vas voglio entrare nel merito non in voli pindarici la valutazione ambientale strategica cioè quella valutazione per cui le cose che hanno un impatto ambientale debbono essere sottoposte a esame qui è stato ritenuto non debba essere fatto questa che questa scelta pone questa legge a forte rischio di impugnativa perché non c'è dubbio che un raddoppio di un inceneritore implica un impatto ambientale certamente rilevante per questo motivo a mio parere deve deve essere sottoposta al vas che non può essere dilazionata al nuovo piano rifiuti grazie grazie concludiamo con la collega straface prego grazie presidente io dagli interventi che sono arrivati dai colleghi dell'opposizione si è voluta creare una confusione che la ritengo confusione molto strumentale nell'intervento che ha fatto il collega graziano già messo in evidenza e ha puntualizzato al consigliere tavernise alcune cose che purtroppo non esistono e che andrò a definire da qui a breve ancora si continua a fare confusione tra quello che dovrebbe essere la parola termo valorizzatore da inceneritore un inceneritore un inviando che ha dibito allo smaltimento dei rifiuti e che funziona tramite distruzione di materiali inerti i rifiuti in pratica vengono bruciati o come suggerisce la parola stessa inceneriti il termo valorizzatore è un impianto dedicato allo smaltimento dei soli rifiuti solidi che utilizza un processo di incenerimento simile all'inceneritore ma a differenza dell'inceneritore trasforma in energia elettrica il calore prodotto dalla combustione e io stasera continuo ancora ad ascoltare che non si riesce ancora a fare la differenza tra l'inceneritore e il termo valorizzatore un'altra cosa che anche stasera continuo a sentire si continua a parlare di raddoppio del termo valorizzatore qui non parliamo di raddoppio del termo valorizzatore di gioia tauro ed è giusto lanciare il messaggio giusto che quello dell'adeguamento del termo valorizzatore a nuove tecniche che consentirà così come è stato sottolineato anche dal consigliere alecci consentirà di produrre calore e soprattutto di fornire energia alle utenze che risiedono intorno al termo valorizzatore di gioia tauro qual è la modifica di questo piano perché qui non parliamo di un piano rifiuti noi facciamo riferimento al vecchio piano che è stato approvato dalla giunta oliverio dove all'interno di questo piano erano previste delle discariche l'obiettivo principale di questa politica di gestione dei rifiuti da parte del presidente oliverio attraverso appunto il l'adeguamento del termo valorizzatore di gioia tauro va proprio nella direzione di azzerare completamente le discariche oggi noi siamo nelle condizioni che questi rifiuti da qualche parte devono pure andare sono previsti i nuovi impianti che comunque fanno riferimento sempre al vecchio piano e anche in questo bisogna fare chiarezza perché i nuovi impianti previsti nel vecchio piano che dicevo all'inizio del mio intervento piano dove purtroppo registriamo dei ritardi atavici sia per quanto riguarda l'antamento della raccolta differenziata ma sia soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di impianti pubblici nove impiante si tratta di impianti pubblici trattamento di rifiuti di cui alla presente pianificazione a valle delle operazioni di selezione valorizzazione per il recupero di materia sono destinati a produrre degli scarti di lavorazione scarti che dovranno essere avviati a termo valorizzazione per il recupero energetico quindi qual è il punto di forza che noi questa sera mettiamo ad approvazione in questa assise regionale ed è il punto di forza da cui parte il presidente occhiuto che appunto l'adeguamento e il completamento del termo valorizzatore di gioia tauro e a tal riguardo bisogna anche ricordare che la manifestazione di interesse del project finance dell'impianto sky scaduto proprio oggi 29 luglio tutto questo l'ennesima conferma che la filosofia che anima il nuovo assetto disegnato da questa giunta relativamente alla politica della gestione dei rifiuti è sicuramente in simpiosi rispetto a quella che è la gerarchia istituzionale europea che cosa ci dice la gerarchia istituzionale europea che bisogna rispettare che intanto l'obiettivo è quello del riciclo che oggi al di sotto del 65 per cento e soprattutto la riduzione del conferimento dei rifiuti a differenziata che deve essere del 10 per cento che oggi al di sotto del 10 per cento entro il duemila e trenta cinque e per quanto riguarda la vas a cui fa riferimento il consigliere laghi l'ho puntualizzato anche nella commissione ambiente vede non è necessaria oggi un parere per quanto riguarda la vas ma sai perché non è necessario perché il punto che oggi noi portiamo in questo consiglio in questa assise regionale va a migliorare il vecchio piano rifiuti non va ad incidere con un peggioramento il parere della vas viene e sarà richiesto sicuramente per il nuovo piano su cui stanno già lavorando il dipartimento e allora consigliere tavernise è stato detto dal consigliere graziano a volte bisogna saperci leggere nelle carte glielo dico questo perché è facile fare degli interventi in un consiglio regionale per il gusto di dire sono intervenuto nel consiglio ma nei consigli regionali nelle commissioni gli atti che vengono prodotti dai dipartimenti che vengono approvati nelle giunte regionali devono essere studiati noi non prevediamo nessuna discarica sono le discariche che erano previste nel vecchio piano e l'adeguamento del termo valorizzatore ripeto adeguamento a quelle che sono le nuove tecnologie non raddoppio del termo valorizzatore va nella direzione di azzerare completamente le discariche grazie grazie collega strafaggio e passiamo all'esame votazione del provvedimento per dichiarazione di voto il collega tavernise prego tre minuti grazie presidente evidentemente collega strafaggio io abito in un'altra regione perché la discarica di san giovanni no la discarica di che adesso le leggo cosa potevate fare non avete fatto che se modiamo la colpa oliverio che tra l'altro non ho mai votato non c'è niente a cui spartire con mario riverio quindi figuratevi come sfondate una porta aperta allora quando voi portate in aula il provvedimento nella versione finale della parte oggetto di modifica c'è scritto la nuova offerta impiantistica regionale le linee guide per la rimodulazione del piano regionale di gestione dei rifiuti hanno puntualmente definito il complesso degli interventi impiantistici a supporto degli obiettivi di recupero riciclo precedenti scrive precedentemente descritti tali interventi sono in fase di avanzata definizione dal punto di vista autorizzativo tali previsioni onorevole strafaggio onorevole graziano e onorevole naso tale previsioni vengono tutte pienamente confermate nel presente piano allora onorevole graziano questa è una modifica di un piano regionale l'ha detto bene io l'ho detto anche nel primo intervento oggi è la regione calabria l'ufficio ambiente della regione calabria consigliere e comito le risulta che si sta ragionando per dare autorizzazione a una nuova discarica nelle sue zone a santonofrio onorevole crinò le risulta che la regione calabria sta ragionando per dare delle autorizzazioni una nuova autorizzazione per conferimento in discarica meli cucca vi risulta che san giovanni e riaperta vi risulta che vogliono riaprire la discarica di cassano vi risulta che a breve riapre una discarica privata scalageli onorevole graziano oppure qua ma adesso siamo arrivati al punto dove nemmeno vogliamo negare l'evidenza è vero che un piano vecchio ma voi non l'avete modificato soprattutto dove quando si parla di individuazione di le localizzazione di nuove discariche dove non ci sono nessune azioni avviate posso capire dove sono stati realizzati i siti o dove sono i lavori in corso presente mancuso ma dove non è stata non è stata avviata nessuna azione lì si poteva modificare ed eliminare la previsione all'interno del lato e di quella provincia di una nuova discarica allora non ci prendiamo in giro onorevole strafaccia se poi ecco apriamo le discariche lo vogliamo negare fra un po vi risponderanno i sindaci e comuni di quei cittadini di quei territori dovremmeno che possono discarica posso dichiarazione di voto c'è prima il consigliere alecci si è arrampicato bene collega tavernese però si vede che è arrampicato posso signor presidente grazie e io ben tanto lo tranquillizzare il collega graziano insomma che so leggere anche scrivere un posto sto cercando di quindi di tranquillizzarsi questo e non è neanche simpatico dirlo ai colleghi se sappiano leggere o meno nel dibattito perché poi i temi in quest'aula sono stati sempre affrontati anche con passione politica ma sempre in maniera educata mi rendo conto che forse utilizzato una terminologia che la spiazzata quando detto anacronistico se vuole le dico non adeguato rispetto a ciò che prevede la scheda del del potenziamento e dell'ammodernamento delle inceneritori che invece mi fa piacere la collega straface abbia capito quindi mi rivolgo alla collega che alla quale forse riesco a trasferire meglio ciò che voglio dire e lo ribadisco per fare chiarezza nel momento in cui il collega graziano dice che stiamo difendendo se difendendo un piano che parte da scoppellite poli verio lo informa ma sono sicura che gli è sfuggito ma lo saprà che in questo momento il dipartimento all'ambiente sta lavorando al nuovo piano di gestione dei rifiuti che obbligatoriamente dovrà essere approvato entro il 31 dicembre di quest'anno allora io ho detto mi auguro che questa giunta regionale abbia una visione migliore di quella che c'è stata fino ad oggi che prevede anche il potenziamento di questo inceneritore per il quale io stesso l'ho detto agli atti ho fatto una proposta da utilizzare come serbatoio energetico per la piastra del freddo quindi non mi si venga a dire che c'è un'opposizione strumentale o populista perché non è così perché poi a termina anche la pazienza di un'opposizione che invece vuole essere costruttiva e che offre degli spunti di riflessione allora la opposizione alle volte magari può essere o sembrare anche strumentale ma quella che mi rappresenta è sempre propositiva anche quando magari le collegazioni non riesce a percepire quelle che la mia volontà ma magari ci frequenteremo fuori dall'ala un po di più così ci capiremo nel nel linguaggio e quindi sottolineo come questa regione abbia bisogno di un piano con una visione più ampia che prevede in effetti quegli ecodistretti ormai non più in linea con ciò che avremo tra qualche anno quando ci auguriamo tutti quanti noi la percentuale di differenziata sarà adeguata anche a quello che ci impone la comunità europea come diceva correttamente la collega straface per la quale faccio un appunto ma è stato un la plus non siamo al di sotto di quel 10 per cento purtroppo siamo ancora al di sopra e dobbiamo raggiungere quel 10 per cento esatto come rifiuti non più esatto ma dobbiamo andare al di sotto di quella quota quindi il mio augurio è questo il ribadisco ho fatto anche due apprezzamenti uno sul commissario della multi utility bruno galtieri persona eccezionale e ho fatto anche un'affermazione forte che mi dispiace che sia passata così maniera sommessa che il gruppo pd quando quel piano avrà quella visione che noi ci auguriamo e siamo sicuri verrà messa in campo avrà anche la capacità di votare favorevolmente in questo momento siccome questa scheda che si modifica è dissonante va in contrasto con quello che è il piano chiaramente non possiamo votare favorevolmente grazie collega leggi raso per dichiarazione di voto niente io volevo fare soltanto appuntare deve fare un po di chiarezza allora le discariche sono che diceva il collega tavarnise sono previste nel piano del 2016 come hanno detto già gli altri poi che è stato aggiornato nel 2019 nella precedente amministrazione regionale magari non avete notato che il 21 marzo del 2022 l'amministrazione regionale presso da occhiuto ha fatto un documento tecnico di indirizzo di gestione dei rifiuti e in funzione di questo documento sarà approvato il nuovo piano di gestione dei rifiuti targato occhiuto poi le modifiche che noi andiamo ad approvare oggi sono soltanto quelli per aumentare le potenzialità del termovalizzatore come dice laghi dell'inceneratore del linguaggio tecnico di gioia tavolo passandolo dalle 60 mila tonnellate annui attuali a 300 mila perché è stato autorizzato per 120 mila però funziona a metà regime credo che volevo fare con solo questo appunto per chiarezza quindi non individuiamo nessuna discarica e tutto quello che già previsto grazie grazie ha chiesto di intervenire il presidente prego breve brevemente presidente perché io vorrei che i consiglieri regionali sia di maggioranza che di opposizione ricordassero quello che accadeva ogni estate in calabria negli anni passati quando i comuni anche quelli che erano a posto con i pagamenti agli enti gestori non avevano dove inviare i rifiuti anzi si spedivano in svezia al costo di 320 euro a tonnellate quella legge che l'opposizione ha molto contestata che non è la legge sulla multiutilità e la legge sull'autorità unica ha consentito di avere intanto la gestione integrata dell'idrico sul leato sapete che avete avete chiesto noi abbiamo aderito alla richiesta che ci fosse una fase di interregno ma comunque la regione si sta occupando anche della gestione dei rifiuti per dare la possibilità ai comuni di sapere dove mandare i rifiuti senza far spendere 320 euro a tonnellata ai calabresi e quindi con una riduzione anche del costo per i rifiuti per i calabresi e questa attività la stiamo svolgendo in maniera tale da consentire a tutti i comuni della calabria di non avere per strada i rifiuti per la prima volta da tanti anni i comuni dove ancora ci sono rifiuti per strada per esempio quelli del basso ionio cosentino sono comuni che non sono a posto con i pagamenti sull'ente gesto per l'ente gestore abbiamo persino aperto abbiamo persino chiesto che si aprisse al comune rossano e corigliano una un'unità di costo perché lato di cosenza altrimenti non riusciva a pagare l'ente gestore ma è un problema che attiene all'attività dei comuni che non riescono a pagare chi gestisce l'impianto se no altrimenti quest'anno per la prima volta dopo tanti anni l'emergenza rifiuti non ci sarebbe nemmeno in quei comuni cioè i comuni oggi sanno dove dove smaltire lo stiamo facendo evidentemente anche per l'ottimo lavoro che sta svolgendo il commissario bruno valtieri l'abbiamo fatto sostanzialmente non c'è quel documento a cui lei faceva riferimento onorevole taverniste e il documento e la fotografia di quello che che c'è non è quello che anzi voglio dire noi in molte realtà stiamo stoccando i rifiuti come a san giovanni in fiore e poi si smaltiranno quando ci sarà una un fabbisogno minore perché d'estate voi sapete che il fabbisogno aumenta moltissimo se non hai un luogo dove smaltire rifiuti o dove stoccarli devi spedirli magari in svezio in danimarca 320 euro a tonnellate questa cosa non accade proprio perché il consiglio regionale ha approvato tra le proteste dell'opposizione quella legge che ha istituito un nuovo modello di governance del settore dei rifiuti e dell'idrico noi stiamo stando vicini anche ai comuni per cercare di dare loro la possibilità di rimettersi in paro con impari con i pagamenti agli enti gestori però c'è la regione fa quello che la regione deve fare anzi a volte fa più di quello che la regione deve fare perché ci siamo assunti una responsabilità che non doveva essere nemmeno della regione ha risolto questo problema e speriamo che i comuni laddove ancora ci sono rifiuti per strada risolvi risolvano i loro problemi con gli enti gestori perché altrimenti e questo però qualcuno dovrebbe avere l'onestà di riconoscerlo quest'anno per la prima volta in calabria nelle strade dove ci sono i nostri turisti non ci sono i rifiuti per strada grazie presidente passiamo all'esame votazione del provvedimento pongo in votazione del provvedimento nel suo complesso favorevoli contrari astenuti il provvedimento è approvato passiamo ai due punti aggiuntivi dell'ordine del giorno la mozione numero undici dodicesimo iniziative consigliere laghi a cui sono aggiunti tavernise denise loizzo neri graziano crinò bevacqua ruzzolo bruni recante inserimento delle procedure di circoncisione rituale a carico del servizio sanitario regionale e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza prego consigliere laghi illustri la mozione grazie presidente allora rapidissimamente la circoncisione è una delle procedure più comuni al mondo l'organizzazione mondiale della sanità stima che nel 30 per cento la prevalenza globale di uomini circoncisi è una è una pratica che si trova nella tradizione ebraica musulmana ed è comune nei cristiani copti egiziani ortodossi etiopi e in altri paesi come gli stati uniti e la motivazione più frequente non è religiosa ma è una per una maggiore igiene allora tutto questo considerato bisogna valutare come ogni anno si effettuino undicimila circoncisioni in italia su bambini nati in famiglie straniere residenti in italia che comprendono infanti di origine araba pakistana bangladesa e africana dei paesi dell'est però più musulmani con una minoranza di cristiani copti e che tra queste prima dell'emergenza covid 6.000 erano praticate nei paesi di origine e quindi non 11.000 ma 5.000 in italia tra cui il 35 per cento con modalità clandestine e con il 20 22 per cento di casi con complicanze dato anche per il periodo covid questo aumento questo numero di bambini circoncisi in italia è aumentato perché queste famiglie non hanno potuto rientrare nei paesi di origine e eppure essendo questa una pratica riconosciuta anche nel nostro paese in quanto è compatibile con l'ordinamento della repubblica non lede altri valori protetti costituzionalmente come la tutela dei minori il diritto alla salute la dignità umana la legittima disposizione del proprio corpo e la libertà di professare le proprie convinzioni religiose visto che questa questo intervento non è previ è possibile ma non previsto nei lea allora la proposta è quella di come in altre regioni di includerla nei lea in modo che la quota parte diciamo economica della quota parte economica venga sollevata la famiglia che non avendole la disponibilità molto frequentemente ricorre alla circoncisione clandestina quindi per questo nella mozione chiediamo che la giunta regionale si impegni quindi il presidente anche nella qualità di commissario ad acta giunta e presidente ad adottare ogni provvedimento necessario per introdurre la circoncisione non terapeutica nei livelli essenziali di assistenza e dunque assicurare che detta prestazione sia garantita gratuitamente presso strutture sanitarie pubbliche autorizzate ai soggetti che la richiedono per motivi culturali e religiosi grazie grazie poniamo in votazione la mozione favorevoli con contrari astenuti la mozione è approvata l'ultimo punto proposta di legge 87 dodicesima iniziativa del consigliere neri recante interpretazione autentica dell'articolo 14 comma 1 della legge regionale 7 luglio 22 numero 25 norme per la rigenerazione urbana e territoriale e territoriale la quali riqualificazione e il riuso cedo la parola al relatore consigliere neri per illustrare il provvedimento prego sì grazie presidente sarò brevissimo visto che della questione si è discusso già nei capigruppo riguarda appunto la proposta di legge relativa all'interpretazione autentica dell'articolo 14 comma 1 della legge regionale 7 luglio 2022 numero 25 è necessaria perché interpretarsi questa norma potrebbe dare adito a interpretazioni diverse all'interno della regione quindi per evitare probabili conflitti o confusioni si è ritenuto opportuno appunto interpretare in maniera autentica questo comma leggo testualmente presidente la presente legge appunto è finalizzata a fornire un'interpretazione autente dell'articolo 14 che recita testualmente tutti i soggetti titolari di progetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in corso istruttoria da parte dell'amministrazione competenti possono con semplice istanza chiedere che detti progetti vengano riesaminati a senti della presente legge anche i soggetti titolari di progetti già approvati cui lavori sono già iniziati in ultimati possono usufruire dei benefici della presente legge questo il testo originale appunto la suddetta dispedizione pertanto si interpreta nel senso che tutti i soggetti presenti che tutti i progetti presentati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge regionale numero 25 2022 per i quali non viene richiesto l'esame della pratica tramite semplice istanza sono da ritenersi validi e conformi alla normativa di settore vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge grazie grazie passiamo all'esame votazione del provvedimento articolo 1 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 2 favorevoli contrari astenuti approvato articolo 3 favorevoli contrari astenuti approvato passiamo alla votazione del provvedimento nel suo complesso con autorizzazione al coordinamento formale favorevoli contrari astenuti approvato il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale la seduta è tolta grazie a tutti